libro quinto gli adepti e il sacerdozio capitolo primo preti e papi accusati di magia abbiamo detto che dopo le profanazioni e le impietà degli ignostici la chiesa aveva proscritto la magia il processo dei templari compì la rottura e da quel momento in poi ridotta nascondersi nell'ombra per meditare la sua vendetta la magia proscrisse a sua volta la chiesa più prudenti degli eresiarchi che si levavano pubblicamente contro l'altare e si votavano così alla proscrizione e al patibolo gli adepti dissimularono i loro risentimenti e le loro dottrine si legarono fra loro con giuramenti terribili e sapendo quanto sia importante vincere il processo al tribunale dell'opinione rivolsero contro i loro accusatori e i loro giudici le voci sinistre che li perseguitavano e denunciarono al popolo il sacerdozio come una scuola di magia nera finché non si sono poste le proprie convinzioni e credenze sulla base inattaccabile della ragione l'uomo purtroppo si appassiona sia alla verità che alla menzogna e sia da una parte che dall'altra le reazioni sono crudeli chi può far cessare questa guerra lo spirito di colui solo che ha detto non rispondere al male col male ma trionfate sul male facendo il bene il sacerdozio cattolico è stato accusato di essere persecutore e invece la sua missione è quella del buon samaritano ed è per questa che è succeduto ai leviti impietosi che continuavano il loro cammino senza aver compassione del povero ferito di gerico è esercitando l'umanità che essi provarono la loro consacrazione divina è dunque una suprema ingiustizia quella di rigettare sul sacerdozio i crimini di cui qualche uomo si era disgraziatamente fatto autore un uomo chiunque sia può sempre essere malvagio un vero sacerdote è sempre caritatevole i falsi adepti non la pensavano così il sacerdozio cristiano secondo loro era incolpato di nullità e di usurpazione dalla proscrizione degli ignostici in poi che cosa in effetti dicevano una gerarchia di cui la scienza non costruisce più i gradi la stessa ignoranza dei misteri e la stessa fede cieca spingono allo stesso fanatismo o alla stessa ipocrisia i primi capi e gli ultimi ministri del santuario i ciechi guidano i ciechi la supremazia tra uguali non è che un risultato dell'intrigo e del caso i pastori consacrano le sante specie con una fede cafarnaite grossolana sono dei giocolieri di pane e mangiatori di carne umana non sono più dei traumaturghi sono degli stregoni ecco cosa dicevano i settari per appoggiare questa calunnia inventarono delle favole i papi dicevano si erano votati allo spirito delle tenebre dal decimo secolo in poi il sapiente gerberto che fu incoronato sotto il nome di silvestro secondo lo avrebbe confessato morendo onorio terzo colui che confermò l'ordine di san domenico e che predicò le crociate era lui stesso una mobinevole negromante autore di un manuale di magia che porta ancora il suo nome che è esclusivamente riservato ai preti si mostrava e commentava questo libro si tentava così di rivolgere contro la santa sede il più terribile di tutti i pregiudizi popolari dell'epoca l'odio mortale di tutti quelli che a torto o a ragione passavano pubblicamente per stregoni si trovarono degli storici malafede o creduloni per accreditare queste menzogne così il platina questo cronachista scandaloso del papato ripete seguendo martino polono le calugne contro silvestro secondo se volessimo seguire questa favola gerberto che era versato nelle scienze matematiche nella cabala avrebbe evocato il demonio e gli avrebbe chiesto il suo aiuto per arrivare al pontificato il diavolo glielo avrebbe promesso e gli avrebbe predetto che sarebbe morto a gerusalemme si può ben pensare che il mago fece voto interiore di non andarvi mai divenne dunque papa ma un giorno in cui diceva la messa in una chiesa di roma si sentì molto malato e si ricordò allora che la cappella in cui ufficiava si chiamava la santa croce di gerusalemme comprese dunque si fece porre un letto in questa cappella e chiamando attorno a sé i suoi cardinali confessò di aver commerciato coi demoni poi ordinò che dopo la sua morte lo mettessero su un carro di legno nuovo a cui avrebbero attaccato due cavalli vergini uno nero e l'altro bianco che avrebbero lanciato questi cavalli senza condurli e che il suo corpo sarebbe stato interrato dove i cavalli si fossero fermati il carro corse così attraverso roma e si fermò davanti alla chiesa del laterano si intesero allora delle grandi grida gemiti poi tutto ridivenne silenzioso e si potè procedere all'inomazione così finisce questa leggenda degna della biblioteca blu tutto questo martino polono accettando la cui parola platina ripete delle fantasie simili lo aveva raccolto lui stesso da un certo galfrido e da un cronachista chiamato gervasio che nodè definisce il più grande costruttore di favole il più grande mentitore che abbia mai messo mano alla penna è seguendo queste storie così serie che i protestanti hanno pubblicato la leggenda scandalosa e probabilmente apocrifa di una pretesa papessa giovanna che era anche strega come tutti sanno e a cui attribuiscono anche dei libri di magia nera noi abbiamo sfogliato una storia della papessa scritta da un autore protestante e vi abbiamo notato due incisioni molto curiose sono degli antichi ritratti dell'eroina a quello che dice lo storico ma in realtà sono antichi tarocchi rappresentanti iside incoronata da una tiara si sa che la figura geroglifica del numero due nei tarotti si chiama ancora la papessa è una donna che porta una tiara su cui sono segnate le punte del quarto di luna o dei corni di iside quella del libro protestante ancora più notevole ai capelli lunghi e sparsi una croce solare sul petto sta seduta tra le due colonne d'ercole e dietro di lei si stende l'oceano con dei fiori di loto che si posano sulla superficie dell'acqua il secondo ritratto rappresenta la stessa dea con gli attributi del sacerdozio sovrano e suo figlio orus fra le braccia queste due immagini sono dunque preziosissime come documenti cabalistici ma ciò non piace agli amatori della papessa giovanna quanto a gerberto per far cadere l'accusa di stregoneria se la si vuol prendere sul serio basterà dire che era l'uomo più sapiente del suo secolo e che era stato il precettore di due sovrani dovette la sua elezione alla riconoscenza di uno dei suoi augusti allievi padroneggiava profondamente le matematiche sapeva forse di fisica più dei suoi contemporanei era un uomo di una erudizione universale di una grande abilità come si può vedere leggendo le lettere che ha lasciato non era un frodatore di re come il terribile il debrando preferiva istruire i principi che scomunicarli e possedendo il favore di due re di francia e di tre imperatori non aveva bisogno come afferma senatamente nodè di vendersi al diavolo per giungere successivamente agli arcivescovati di reims e di ravenna e infine al papato è vero che vi giunse in qualche modo malgrado i suoi meriti in un secolo in cui si prendevano i grandi politici per posseduti e i sapienti per incantatori gerberto era non solo un grande matematico e un ottimo astronomo ma eccelleva anche nella meccanica e costruì nella città di reims secondo guillaume al mesberi delle macchine idrauliche così meravigliose che l'acqua in esse suonava delle sinfonie e delle aree piacevolissime fece anche secondo ditmar nella città di magdeburgo un orologio che segnava tutti i movimenti del cielo e l'ora in cui sorgevano e tramontavano le stelle fece anche dice nodè che vogliamo qui citare quel teschio di rame che è lavorato così ingegnosamente che il suddetto guillaume al mesberi ne rimase egli stesso ingannato attribuendolo a magia anche onofrio disse che aveva visto nella biblioteca dei farnesi un dotto libro di geometria scritto da gerberto e da parte mia penso che senza decidere sull'opinione di efordiensis e di altri che lo fanno autore di orologi e dell'aritmetica che conosciamo adesso tutte queste prove sono di valore sufficiente per farci giudicare che quelli che non hanno mai udito parlare di cubo parallelogramma dodecaedro almi carantà valsagor alma grippa catalzem e altri nomi di uso comune a coloro che conoscono le matematiche poterono pensare che fossero spiriti coloro che invocava e che tante cose rare non potevano provenire da un uomo senza un favore straordinario e che per questo doveva essere un mago quello che mostra fino a che punto arrivi l'impertinenza e la cattiva fede dei cronachisti è che platina questa eco maliziosamente naif di tutte le pasquinate romane assicura che la tomba di silvestro secondo sia ancora stregata che pianga profeticamente la prossima caduta di tutti i papi e al declino della vita di ogni pontefice si intendano fremere e sbattere le ossa riprovanti di gerberto un epitaffio inciso su questa tomba fa fede di questa meraviglia aggiunge imperturbabilmente il bibliotecario di sisto quarto ecco delle prove che paiono sufficienti agli storici per constatare l'esistenza di un curioso documento storico platina era il bibliotecario del vaticano scriveva la sua storia dei papi per ordine di sisto quarto scriveva a roma dove niente era più facile che verificare la falsità o l'esattezza di questa asserzione e intanto questo preteso epitaffio non è mai esistito che nell'immaginazione degli autori ai quali platina lo attribuisce con una incredibile leggerezza circostanza che eccita giustamente l'indignazione dell'onesto nodè ecco quello che dice nella sua apologia per i grandi uomini accusati di magia è una pura impostura e falsità manifesta sia per l'esperienza dei pretesi prodigi della tomba di silvestro secondo che non sono stati fino ad oggi osservati da nessuno quanto per l'iscrizione di questo sepolcro che fu composto da sergio quarto e che non fa alcuna menzione di tutte queste fole e mentre al contrario è una delle più eccellenti testimonianze che possiamo avere della buona vita e integrità delle azioni di silvestro è veramente una cosa vergognosa che molti cattolici siano fautori di questa maldicenza della quale mariano scoto glaber ditmer el gandos lambert e herman contrat che sono stati i suoi contemporanei non fanno alcuna menzione eccetera veniamo al libro di magia attribuito ad onorio e a onorio terzo vale a dire uno dei più zelanti pontifici del tredicesimo secolo che si attribuisce questo libro impio onorio terzo in effetti doveva essere odiato dai settari e dai negromanti che volevano disonorarlo prendendolo per complice censius savelli incoronato papa nel 1216 confermò l'ordine di san domenico così formidabile per gli albigesi e i valdesi questi figli dei manichei e degli stregoni stabilì anche i francescani e i carmelitani predicò una crociata governò saggiamente la chiesa e emise molti decretali accusare di magia nera questo papa così eminentemente cattolico è far cadere lo stesso sospetto sui grandi ordini religiosi istituiti da lui e il diavolo non poteva che guadagnarci qualche esemplare antico del libro magico di onorio porta il nome di onorio secondo invece di onorio terzo ma è impossibile fare uno stregone di questo saggio e elegante cardinale lambert che dopo la sua promozione a pontefice sovrano si attorniò di poeti ai quali dava vescovati come gratifiche come fece con il deberto vescovo di mans e con sapienti teologi come hug de saint victor pertanto questo nome di onorio secondo è per noi un indizio che ci porta alla scoperta del vero autore di questo spaventoso libro magico di onorio nel 1061 quando l'impero cominciava ad adombrarsi del papato e cercava di usurpare l'influenza sacerdotale fomentando turbamenti e divisioni nel sacro collegio i vescovi di lombardia eccitati da gilberto di parma protestarono contro l'elezione di anselmo vescovo di lucca che giunse al pontificato sovrano sotto il nome di alessandro secondo l'imperatore enrico iv prese le parti dei dissidenti e li autorizzò a darsi un altro papa promettendo loro di appoggiarli scelsero un intrigante chiamato cadalus o cadalo vescovo di parma uomo capace di tutti i crimini e pubblicamente scandaloso come simoniaco e concubinario questo cadalo prese il nome di onorio secondo e marciò contro roma alla testa di un'armata fu battuto e condannato da tutti i vescovi di germania e italia ritornò alla carica si impadronì di una parte della città santa entrò nella chiesa di san pietro da dove fu cacciato si rifugiò nel castel sant'angelo da dove ottenne di potersi ritirare pagando un forte scotto fu allora che ottone arcivescovo di colonia inviato dall'imperatore osò accusare pubblicamente alessandro secondo di aver usurpato la santa sede ma un monaco chiamato il debrando prese la parola per il papa legittimo e lo fece con una tale potenza che l'inviato dell'imperatore se ne ritornò confuso e l'imperatore stesso chiese perdono del suo tentativo questo il debrando nelle vie della provvidenza divenne il formidabile gregorio settimo e cominciava l'opera della sua vita l'antipapa fu deposto al concilio di mantova e enrico iv ottenne il suo perdono cadalo rientrò dunque nell'oscurità ed è probabile che volle essere allora il grande prete degli stregoni e degli apostati può dunque aver redatto col nome di onorio secondo il libro di magia che porta quel nome quello che si sa del carattere di questo antipapa giustifica fin troppo un'accusa del genere egli era audace di fronti ai deboli e vigliacco davanti ai forti intrigante debosciato senza fede come senza morale non vedeva nella religione che uno strumento di impunità e di rapine le virtù cristiane erano degli ostacoli e la fede del clero una difficoltà da superare avrebbe dunque voluto fare dei preti a sua immagine e comporre un clero di uomini capaci di tutti gli attentati come di tutti i sacrilegi tale pareva essere in effetti lo scopo propostosi dall'autore del libro di magia di onorio questo libro non è senza importanza per i curiosi della scienza sulle prime non sembra essere che una serie di rivoltanti assordità ma per gli iniziati ai segni e ai segreti della cabala diviene un vero monumento della perversione umana il diavolo vi viene mostrato come uno strumento di potere servirsi della credulità umana e impadronirsi della paura che la domina per farla obbedire ai capricci dell'adepto tale è il segreto di questo libro si tratta di infittire le tenebre sugli occhi della moltitudine impadronendosi delle fiamme della scienza che potrà al bisogno nelle mani dell'audace divenire la torcia dei carnefici o degli incendiari imporre la fede con la schiavitù riservando a se stessi il potere e la libertà non è sognare in effetti il regno di satana sulla terra e ci si stupirà se gli autori di una simile cospirazione contro il buonsenso pubblico e contro la religione si lusingano di far apparire e di incarnare in qualche modo sulla terra il sovrano fantastico dell'impero del male la dottrina di questo manuale la stessa di quella di simone e della gran parte degli ignostici è il principio passivo sostituito al principio attivo la passione di conseguenza preferita alla ragione la sensualità deificata la donna messa prima dell'uomo tendenza che si ritrova in tutti i sistemi mistici anticristiani questa dottrina è espressa da un pentacolo posto nella prima pagina del libro la luna isiaca occupa il centro attorno alla croce selenica si vedono tre triangoli che ne fanno uno il triangolo è sormontato da una croce ansata doppia incrociatura attorno al triangolo che è iscritto in un cerchio e nell'intervallo formato dei tre segmenti del cerchio si vede da una parte il segno dello spirito il sigillo cabalistico di salomone dall'altra il coltello magico e la lettera iniziale del binario sopra una croce capovolta che forma la figura del lingam e il nome di dio ugualmente rovesciato attorno al cerchio si leggono delle parole tracciate a modi leggenda obbedite ai vostri superiori e siate loro sottomessi perché vi proteggano questo pentacolo tradotto in simbolo professione di fede è dunque testualmente il seguente la fatalità regna per le matematiche e non c'è altro dio che la natura i dogmi sono gli accessori del potere sacerdotale e si impongono alla moltitudine per giustificare i sacrifici l'iniziato è al di sopra della religione di cui si serve l'iniziato è al di sopra della religione di cui si serve e ne dice assolutamente il contrario di quello che ne crede l'obbedienza non si motiva si impone gli iniziati sono fatti per comandare e i profani per obbedire quelli che hanno studiato le scienze occulte sanno che gli antichi maghi non scrivevano mai i loro dogmi e li formulavano unicamente con i caratteri simbolici dei pentacoli nella seconda pagina si vedono due sigilli magici circolari nel primo si trova il quadrato del tetragramma con una inversione una sostituzione di nomi così invece di eieie jeova adonai disposizione che significa l'essere assoluto e geova il signore in tre persone dio della gerarchia e della chiesa l'autore del manuale ha disposto così i nomi geova adonai drar e ieie che significa geova il signore non è altro che il principio fatale della rinascita eterna personificata dalla rinascita stessa nell'essere assoluto intorno al quadrato nel cerchio si trova il nome di geova in mezzo e capovolto il nome di adonai a sinistra e a destra queste tre lettere a e v seguite da due punti che significa il cielo e l'inferno sono un miraggio l'uno dell'altro ciò che è in alto è come ciò che è in basso dio è l'umanità l'umanità è espressa dalle tre lettere a e v iniziali di adamo ed eva sul secondo sigillo si legge il nome di ararita e al di sotto rash intorno 26 caratteri cabalistici e sopra i due sigilli dieci lettere ebraiche il tutto è una formula del materialismo e della fatalità che sarebbe troppo lungo e forse pericoloso spiegare qui segue poi il prologo del manuale lo trascriveremo tutto intero la santa sede apostolica qui vennero donati le chiavi dei cieli con queste parole di gesù cristo a san pietro io ti do le chiavi del regno dei cieli ha sola il potere di comandare il principe delle tenebre e i suoi angeli che come dei servitori verso il loro padrone e gli devono onore gloria e obbedienza in virtù di queste altre parole indirizzate da gesù cristo a satana in persona tu non servirai che un solo padrone per il potere delle chiavi il capo della chiesa era stato nominato il signore degli inferi fino ad oggi i pontefici sovrani sono stati soli a poter evocare gli spiriti e a comandar loro ma a sua santità onorio secondo nella sua sollecitudine pastorale ha voluto comunicare la scienza e il potere delle vocazioni e del comando sugli spiriti ai suoi venerabili fratelli in gesù cristo con gli scongiuri di rito il tutto contenuto nella bolla seguente ecco dunque questo pontificato degli inferi questo sacerdozio sacrilego degli antipapi che dante sembra stigmatizzare con quel grido rauco sfuggito ad uno dei principi del suo inferno papè satan papè satan aleppe che il papa legittimo sia pure il principe del cielo per l'antipapa cadalo è sufficiente essere il sovrano degli inferi che sia lui il dio del bene io sono il dio del male noi siamo divisi il mio potere è uguale segue la bolla del pontifice infernale il mistero delle vocazioni tenebrose vi è esposto con una scienza spaventosa nascosta sotto delle forme superstiziose e sacrileghe il digiuno le veglie i misteri profanati le cerimonie allegoriche i sacrifici di sangue vi sono combinati con un'arte piena di malizia le vocazioni non sono senza poesia e senza entusiasmo mescolati ad orrore così per esempio l'autore vuole che il giovedì della prima settimana delle vocazioni ci si alzi a mezzanotte che si getti dell'acqua benedetta in camera che si accenda un cero di cera gialla preparato il mercoledì e che deve essere forato in forma di croce alla luce tremolante di questo cero occorre andare da soli in una chiesa e leggervi a voce bassa l'uffizio dei morti sostituendo alla nona lezione del mattino questa invocazione ritmica che noi traduciamo dal latino lasciandogli le sue strane forme i suoi ritornelli che ricordano gli incantesimi monotoni degli stregoni antichi signore liberami dai terrori infernali libera il mio spirito dalle larve sepolcrali andrò nei loro inferni a cercarle senza spavento imporrò loro la mia volontà per legge dirò alla notte di partorire la luce sole alzati luna si bianca e chiara alle ombre dell'inferno parlerò senza spavento imporrò loro la mia volontà per legge il loro viso è orribile le loro forme strane voglio che i demoni ridiventino degli angeli a queste lordure senza nome io parlo senza spavento imporrò loro la mia volontà per legge queste ombre sono l'errore della mia vista spaventata ma solo io posso guarire la loro bellezza folgorata perché in fondo agli inferi io mi tuffo senza spavento imporrò loro la mia volontà per legge dopo molte altre cerimonie viene la notte dell'evocazione allora in un luogo sinistro al lume di un fuoco alimentato da due croci spezzate occorre avere il carbone di una croce tracciare un cerchio e recitare contemporaneamente un inno magico composto di versetti di più salmi ecco la traduzione di questo inno il re si rallegra signore nel tuo potere lasciami completare l'opera della mia nascita che le ombre del male gli spettri della notte siano come la polvere col vento che la insegue signore l'inferno si illumina e brilla in tua presenza per te tutto si termina e per te tutto comincia jeovà sabaote elohim eloi elione leos jodevà saddai il leone di giuda si alza nella sua gloria viene del re david a consumare la vittoria apro i sette segilli del libro temuto satana cade dal cielo come un lampo d'estate tu mi hai detto lontano da te l'inferno e le sue torture non si avvicineranno mai alle tue dimore pure i tuoi occhi affronteranno i loro occhi di basilisco e i tuoi piedi senza paura marceranno sull'aspide tu prenderai serpenti domati da un tuo sorriso tu berrai veleni senza che ti possano nuocere elohim eloa sebaot elios e ieie eliezarei o teos zeiros la terra è del signore e tutto quello che la copre lui stesso lo afferma sull'abisso che si apre chi potrà dunque montare sul monte del signore l'uomo alla mano senza macchia e semplice il cuore colui che non tiene la verità prigioniera e non la riceve per lasciarla oziosa colui che della sua anima ha compreso l'altezza e che non giura con parole menzognere colui riceverà per domineo la forza e tale è l'infinito della nascita umana la generazione con la terra e il fuoco la generazione divina di coloro che cercano dio principi della natura spalancate le vostre porte gioco del cielo io ti levo a me sante corti ecco il re della gloria ha conquistato il suo nome porta nella sua mano il sigillo di salomone il padrone ha di satana spezzato il nero servaggio e prigioniero lo trascina con se in schiavitù il signore solo è dio il signore solo è re signore gloria a te solo gloria a te gloria a te non si crederebbe di sentire i cupi puritani di walt scotto di victorio go accompagnare con la loro salmodia fanatica all'opera senza nome delle streghe di fausto di macbeth in uno scongiuro indirizzato all'ombra del gigante nemrod questo cacciatore selvaggio che fece iniziare la torre di babele l'adepto di onorio minaccia questo antico riprovato di costringerlo di nuovo in catene e tormentarlo sempre più ogni giorno se non obbedisce immediatamente alla sua volontà non è forse il culmine dell'orgoglio indelirio e questo antipapa che non concepiva un grande sacerdote se non come un sovrano degli inferi non sembra aspirare come a una vendetta del disprezzo e della riprovazione dei vivi al diritto usurpato e funesto di tormentare eternamente i morti capitolo secondo comparsa degli zingari all'inizio del quindicesimo secolo si diffusero in europa delle bande di viaggiatori bruni e sconosciuti chiamati da qualcuno boemi perché dicevano di provenire dalla boemia conosciuti da altri sotto il nome di egiziani perché il loro capo prendeva il titolo di duca d'egitto esercitavano la divinazione il ladrocinio e la scorreria erano delle orde nomadi bivaccanti sotto capanne che si costruivano da soli la loro religione era ignota si dicevano però cristiani ma la loro ortodossia era più che dubbia praticavano fra loro il comunismo e la promiscuità e si servivano per le loro divinazioni di una serie di segni strani rappresentanti la forma allegorica e la virtù dei numeri da dove venivano di quale mondo maledetto e scomparso erano le rovine viventi erano come credeva il popolo superstizioso i figli delle streghe dei demoni quale salvatore morente tradito li aveva condannati a muoversi sempre era questa la famiglia dell'ebreo errante non era forse il resto delle dieci tribù di israele perdute in prigionia e incatenate da tempo da gog e magog in paesi sconosciuti ecco cosa ci si domandava con inquietudine guardando passare questi stranieri misteriosi che di una civiltà scomparsa sembravano non aver conservato che le superstizioni e i vizi nemici del lavoro non rispettavano né la proprietà né la famiglia si trascinavano appresso famiglie e figli e turbavano volentieri con la loro pretesa divinazione la pace dei menage onesti ascoltiamo parlare il cronachista che racconta il loro primo accampamento nelle vicinanze di parigi l'anno successivo 1427 la domenica dopo la metà di agosto che fu il 17 del mese arrivarono negli intorni di parigi 12 sedicenti penitenzieri cioè un duca un conte dieci uomini tutti a cavallo che si dicevano ottimi cristiani e originari del basso egitto affermavano di essere stati cristiani da molto tempo che altri cristiani le avevano soggiogati e riportati al cristianesimo che quelli che si erano rifiutati erano stati messi a morte e quelli che al contrario si erano fatti battezzare erano rimasti signori del paese come prima previa parola di essere buoni e leali e di conservare la fede in gesù cristo fino alla morte aggiunsero che avevano un re e una regina nel loro paese che dimoravano nella loro signoria dopo essersi fatti cristiani e anche dicevano qualche tempo dopo che eravamo diventati cristiani i saracini vennero ad assalirci un gran numero poco fermi nella nostra fede senza andare in guerra senza difendere il loro paese come dovevano fare si sottomise si fecero saracini e abbiurarono nostro signore e anche dicevano l'imperatore di germania il re di polonia e altri signori avendo saputo che avevano rinunciato così facilmente alla fede si erano fatti saracini e idolatri li assalirono li vissero facilmente come se avessero a cuore di lasciarli nel loro paese per riportarli al cristianesimo ma l'imperatore e gli altri signori per deliberazione del consiglio decisero che non avrebbero mai avuto terra nel loro paese senza il consenso del papa che per questo erano andati a roma tutti grandi e piccoli e con gran fastidio per i piccoli che avevano confessato il loro peccato che il papa avendoli uditi aveva dato loro per penitenza per deliberazione del consiglio di andare sette anni per il mondo senza dormire mai nei letti che aveva ordinato che ogni vescovo e abate che portava il pastorale ed esse loro una volta per tutte dieci libretornesi come sovvenzione alle loro spese che aveva consegnato loro delle lettere dove tutto questo era scritto aveva dato loro la benedizione e che da cinque anni giravano il mondo qualche giorno dopo il giorno di san giovanni decollato cioè il 29 agosto arrivò il grosso del gruppo che non fu fatto entrare a parigi ma per giustizia fu alloggiato nella cappella di san dionigi il loro numero arrivava circa 120 persone sia uomini che donne e bambini dicevano che nel lasciare il loro paese erano 1200 che gli altri erano stati uccisi dal re e dalla regina che quelli che erano sopravvissuti speravano di possedere ancora dei beni a questo mondo perché il santo padre aveva loro promesso una terra buona e fertile quando avessero terminato la loro penitenza nel periodo in cui si trovavano alla cappella non si era mai vista tanta gente a correre alla benedizione sia da san denis sia da parigi tanta era la folla che veniva a vederli i loro figli ragazzi e ragazze erano non si sa come abilissimi nei giochi avevano quasi tutti le orecchie bucate e ad ogni orecchio uno o due anelli d'argento e dicevano che questo nel loro paese era segno di nobiltà erano nerissimi con i capelli crispi le donne erano le più brutte nere che si siano mai viste tutti avevano il viso coperto di piaghe i capelli neri come quelli di un cavallo per vestito una vecchia schiavina legata sulle spalle da una corda o da un pezzo di stoffa e sotto un misero rocchetto una camicia come unico vestito in breve erano le più povere creature che a memoria si fossero mai viste in francia e nonostante la loro povertà avevano fra di essi degli stregoni che leggevano la mano della gente e dicevano ad ognuno quello che gli era accaduto e quello che gli doveva accadere e gettavano il disordine nelle famiglie perché dicevano al marito tua moglie tua moglie tua moglie ti ha messo le corna e alla moglie tuo marito ti ha fatto cornuta e ciò che è peggio nel parlare alla gente con arti magiche con l'aiuto dell'inferno operabilità vuotavano loro la borsa e riempivano le loro il cronista di parigi che racconta questi fatti aggiunge è veramente sono stato tre o quattro volte per parlare a loro ma ogni volta ci ho perso del denaro alla fine la notizia giunse al vescovo di parigi il quale andò da essi portando con sé un frate minore di nome piccolo giacobino il quale comandato dal vescovo fece una bella predica scomunicando tutti gli uomini e le donne che avevano loro creduto e si erano fatti leggere la mano e ordinò che se ne andassero e questi partirono il giorno di notre dame l'otto settembre andando verso pontuasi si ignora se continuarono il loro viaggio dirigendosi a nord la capitale ma è certo che il loro sovrano rimase in uno degli angoli del dipartimento del nord esiste in effetti in un bosco vicino al villaggio di amel e a 500 passi da un monumento di sei pietre druidiche una fontana chiamata cucina degli stregoni e dice la tradizione è là che si riposavano e dissetavano i caramaras che sono certamente i caras mar vale a dire i boemi stregoni e indovini ambulanti ai quali le antiche carte del paese di fiandra accordavano il diritto di essere nutriti dagli abitanti hanno lasciato parigi ma al loro posto ne sono venuti degli altri e la francia non è da loro meno frequentata che non altri paesi non si vedono sbarcare né in inghilterra né in scozia e nonostante questo sono in quest'ultimo regno più di centomila li si chiama ceard e caird o come si potrebbe dire artigiani i manovratori perché questa parola scozzese deriva da care sanscrito da dove viene il verbo fare care aben dei boemi e il latino certo ciabattino cosa che non sono affatto se in quest'epoca non li si vede più nel nord della spagna dove i cristiani si rifugiano per scappare al dominio musulmano è invece in dubbio che stiano meglio a sud con gli arabi ma sotto giovanni secondoli si distingue bene da questi ultimi senza sapere però da dove vengano chiunque siano a partire da quest'epoca sono generalmente conosciuti su tutto il continente europeo una delle bande del re sindel si è presentata a ratisbona nel 1433 e sindel in persona si accampò in baviera con la sua riserva nel 1439 sembrava allora venire dalla boemia perché i bavaresi dimentichi di quelli del 1433 che si erano spacciati per egiziani li chiamavano boemi è sotto questo nome che riapparvero in francia e vi sono ormai conosciuti così bene o male li si sopporta gli uni percorrono le montagne e cercano l'oro nei fiumi gli altri forgiano dei ferri di cavallo e delle catene per cani questi più predatori che pellegrini si infilano dappertutto e dappertutto rubano decisero di stabilirsi qui e stanchi di levare e piantare continuamente le tende si scavarono delle capanne quadrate dai 4 ai 6 piedi sottoterra e ricoperte da un tetto di rami d'albero la cui cresta a cavallo su due pali a y non si alza che ha più di due piedi dal suolo è in queste tane di cui in francia è rimasto solo il ricordo del nome che si pigiava a casaccio tutta una famiglia è in questa buca che non aveva altre aperture che la porta è un buco per far uscire il fumo che il padre forgia che i bambini raggruppati attorno al fuoco fanno andare il mantice e che la madre fa andare la pentola in cui non butta altro che frutti di ruberie è in questo riparo dove sono appese a delle lunghe travi dei vecchi stracci in cui tutti i mobili consistono in incudine e martello è là dicevo che si incontrano la credulità e l'amore la madamigella e il cavaliere la castellana e il paggio è là che vengono ad aprire le bianche mani nude allo sguardo penetrante della sibilla è là che l'amore si compra che si vende la felicità che si paga la menzogna è da lì che escono i saltimbanchi e giocatori di carte la veste stellata il cappello a punta del mago i paltonieri e il gergo le danzatrici di strada e le figlie del piacere è il regno della poltroneria e della truffa della villania e degli scrocconi sono persone che fanno tutto per non far niente come dice un ingenuo narratore del medioevo e un sapiente altrettanto valido che modesto vaian autore di una storia speciale dei rom muni o boemi di cui citiamo qui qualche pagina anche se da loro grande importanza nella storia sacerdotale del mondo antico non ne fa un ritratto lusinghiero così ci racconta come questi strani protestanti delle civiltà primitive che hanno attraversato le epoche con una maledizione in fronte e la rapina in mano hanno eccitato subito la curiosità e in seguito la diffidenza poi infine la proscrizione e l'odio dei cristiani del medioevo si comprende quanto potessero essere pericolosi questi senza patria parassiti del mondo intero e cittadini del nulla questi beduini che attraversavano gli imperi come il deserto questi ladri erranti che si insinuavano dappertutto senza fermarsi mai così divennero ben presto per il popolo degli stregoni dei demoni addirittura dei lanciatori di malefici dei ladri di bambini e c'era del vero in tutto questo li si accusava dappertutto di celebrare in segreto dei misteri spaventosi presto la voce divenne generale li si rese responsabili di tutti i crimini ignoti di tutti i furti misteriosi come i greci di damasco accusarono i giudei di aver ucciso uno di loro per berne il sangue e si assicura che preferissero i ragazzi e le ragazze dai 12 e 15 anni era certamente un mezzo sicuro per farli prendere in orrore e per allontanare da loro i giovani ma questo mezzo è odioso perché la gente e i bambini sono troppo creduloni e poiché la paura genera l'odio nacque la persecuzione accadde così non soltanto li evitavano li fuggivano ma rifiutavano loro il fuoco e l'acqua l'europa divenne per loro le indie e tutti i cristiani sono divenuti per loro dei bramini in certi paesi se qualche fanciulla per pietà si avvicinava a uno di loro per mettergli in mano una moneta state attenta cara le gridava la governante smarrita è un un orco che verrà succhiarvi il sangue questa notte mentre dormite e la fanciulla arretrava spaventata se qualche ragazzo passava presso di loro in modo che la sua ombra si disegnasse sul muro davanti al quale erano seduti dove tutta una famiglia mangiava o si riposava al sole alla larga ragazzo gli gridava il pedagogo queste streghe o vampiri vogliono prendere la vostra ombra e la vostra anima andrà a danzare con loro il sabato per tutta l'eternità fu così che l'odio dei cristiani risuscitò contro di loro la credenza in lemuri e folletti vampiri e orchi e tutti dicevano la loro non saranno dice uno i discendenti di quel mambrete che osò rivalleggiare i miracoli con mosè non saranno inviati del re d'egitto per cercare nel mondo i figli di israele rendere penosa la loro sorte io crederei dice un altro che siano i carnefici di cui si servì erode per sterminare i nati di betlemme vi sbagliate dice un terzo questi pagani non capiscono una parola di egiziano la loro lingua è piena al contrario di molto ebraico non sono dunque che gli impuri reietti di questa razza abietta che dormiva in giudea nei sepolcri dopo aver divorato i cadaveri che vi erano contenuti errore errore gridava un quarto sono certamente dei miscredenti giudei che sono stati torturati cacciati e bruciati nel 1348 per aver avvelenato i nostri pozzi e le nostre cisterne e che ritornano per ricominciare e che importa aggiunge l'ultimo egiziani o giudei esseni o cusiani faraoniani o captoriani balistari da siria o filistini di canaan sono dei rinnegati l'hanno detto in sassonia in francia dappertutto bisogna impiccarli e bruciarli presto fu compreso nella loro proscrizione quel libro strano che serviva loro per consultare la sorte per fare degli oracoli quei cartoni con raffigurate figure incomprensibili e che sono il riassunto non se ne dubita monumentale di tutte le rivelazioni del mondo antico la chiave dei geroglifici egiziani le clavicole di salomone le scritture primitive di enoch e di ermete qui l'autore che citeremo fa prova di una sagacia singolare parla di tarocchi pur senza comprenderli ancora perfettamente ma avendoli profondamente studiati vediamo dunque cosa dice la forma la disposizione la sistemazione di queste tavolette le figure che rappresentano variamente modificate dei tempi sono così manifestamente allegoriche e le allegorie si sono così conformate alla dottrina civile filosofica e religiosa dell'antichità che non si può fare a meno di riconoscerle per la sintesi di tutto quello che era la fede degli antichi popoli per tutto quello che precede abbiamo sufficientemente spiegato che è una deduzione del libro siderale di enoch che è enochia che è modellato sulla ruota astrale di ator che è astaroth che somigliante all'ottara indiano orsa polare o arctura del settentrione è la forza maggiore sulla quale si posano la solidità del mondo e il firmamento siderale della terra conseguentemente come l'orsa polare di cui si è fatto il carro e il sole il carro di davide arturo è la fortuna greca il destino cinese il caso egiziano la sorte dei romi girando incessantemente attorno all'orsa del polo gli astri svolgono alla terra il fasto e il nefasto la luce e l'ombra il caldo e il freddo da cui derivano il bene e il male l'amore e l'odio che fanno la felicità o la disgrazia degli uomini se l'origine di questo libro si perde nella notte dei tempi al punto che non si sa né quando né come fu inventato tutto porta a credere che sia di origine indotartara e che diversamente modificato dagli antichi secondo le sfumature delle loro dottrine e il carattere dei loro saggi sia uno dei libri delle loro scienze occulte e forse uno dei loro libri sibillini noi abbiamo sufficientemente fatto intravedere la strada che ha potuto percorrere per arrivare fino a noi abbiamo visto che doveva essere stato conosciuto dai romani e che doveva essere stato portato loro non solamente ai primi giorni dell'impero ma anche ai primi giorni della repubblica perché numerosi stranieri che venuti dall'oriente e iniziati ai misteri di bacco e di iside portarono la loro scienza agli eredi di numa veian non dice che i quattro segni geroglifici dei tarocchi i bastoni le coppe le spade e i denari o cerchi d'oro si trovano in omero scolpiti sullo scudo di achille ma secondo lui le coppe sono come archi o archi del tempo vasi o vascelli del cielo i denari eguagliano gli astri le stelle le spade il fuoco le fiamme i raggi i bastoni eguagliano le ombre le pietre gli alberi le piante l'asso di coppe è il vaso dell'universo arco della verità del cielo principe della terra l'asso di denari è il sole occhio unico del mondo alimento ed elemento della vita l'asso di spade la lancia di marte fonte di guerre di infelicità di vittorie l'asso di bastoni è l'occhio del serpente la verga del pastore il pungiglione del bifolco la clava di ercole il simbolo dell'agricoltura il due di coppe è la vacca io o iside e il bue apis o mnevis il tre di coppe iside la luna dama e regina della notte il tre di denari è osirite il sole signore e re del giorno il nove di denari è il messaggero mercurio o l'angelo gabriele il nove di coppe è la gestazione del buon destino da dove nasce la felicità infine ci diceva yan esiste una tavola cinese composta da caratteri che formano dei grandi scompartimenti rettangolari lunghi tutti uguali e precisamente della stessa grandezza delle carte dei tarocchi questi scompartimenti sono distribuiti in sei colonne perpendicolari di cui le prime cinque racchiudono 14 scompartimenti ciascuna in tutto 70 mentre la sesta che è piena solo a metà non ne contiene che 7 d'altra parte questa tavola è formata con la stessa combinazione del numero 7 ogni colonna piena è di due volte 7 uguale 14 e quella che non ne ha che la metà ne contiene 7 assomiglia così tanto ai tarocchi che i quattro semi dei tarocchi riempiono le prime quattro colonne che dei 21 arcani maggiori 14 riempiono la quinta colonna e i sette altri arcani la sesta questa sesta colonna di 7 arcani è dunque quella dei sei giorni della settimana della creazione ora secondo i cinesi questa tavola risale alle prime epoche del loro impero alla discesa delle acque del diluvio da yao si può dunque concludere che è o l'originale o la copia dei tarocchi e in ogni caso che i tarocchi sono anteriori a mosè che risalgono all'origine dei secoli all'epoca della confezione dello zodiaco e conseguentemente che hanno 6.600 anni di esistenza questi sono i tarocchi dei romi da cui per analogia gli ebrei hanno fatto la torà o legge di geova lungi dall'essere un gioco come oggi erano un libro un libro serio un libro dei simboli e degli emblemi delle analogie o dei rapporti degli astri e degli uomini il libro del destino con l'aiuto del quale lo stregone svelava i misteri della sorte le sue figure i loro nomi il loro numero la sorte che se ne deduceva furono naturalmente per i cristiani lo strumento di un'arte diabolica di un'opera di magia così si capisce con quale rigore lo proscrissero quando seppero quale abuso di fiducia l'indiscrezione dei saggi commetteva sulla credulità pubblica fu allora che perdendosi la fede nella loro parola i tarocchi divennero gioco e che le sue tavolette si modificarono secondo il gusto dei popoli e lo spirito del secolo fu da questo gioco di tarocchi che nacquero le nostre carte da gioco di cui le combinazioni sono così inferiori a quelle dei tarocchi come il gioco della dama è inferiore a quello degli scacchi è dunque a torto che si fissa l'origine delle carte moderne al regno di carlo sesto perché dal 1332 gli iniziati all'ordine della banda stabilito da alfonso undicesimo re di castiglia facevano già giuramento di non giocare a carte sotto carlo quinto san bernardino da siena condannò al fuoco le carte dette allora trionfali dal gioco dei trionfi che si giocava già in onore del trionfatore osirite o ormuz una delle carte dei tarocchi d'altronde questo re stesso le proscriveva nel 1369 e la piccola jean de centré fu onorata dei suoi favori solo perché non giocava a carte allora si chiamavano in spagna naipes e in italia naibi perché naibi sono le diabolesse le sibille le pitonesse vaian che abbiamo fatto parlare suppone dunque che i tarocchi siano stati modificati e cambiati cosa che è vera per i tarocchi tedeschi a figure cinesi ma che non è vera né per i tarocchi italiani che sono solamente alterati in qualche dettaglio né per i tarocchi di besançon nei quali si ritrovano ancora delle tracce dei geroglifici egiziani primitivi abbiamo detto nel nostro dogma e rituale dell'alta magia quanto furono sciagurati i lavori di ete yao di aliet sui tarocchi questo barbiere illuminato non è riuscito dopo trent'anni di combinazioni che a creare dei tarocchi bastardi di cui le chiavi sono invertite di cui i numeri non si accordano più con i segni dei tarocchi in una parola che convengono a ete yao a misura della sua intelligenza che non era certo meravigliosa noi non crediamo con vaian che i boemi fossero i proprietari legittimi di queste chiavi delle iniziazioni le dovevano senza dubbio all'infedeltà o all'imprudenza di qualche cabalista giudeo i boemi sono originari dell'india il loro storico lo ha provato con sufficiente verosimiglianza ora i tarocchi che noi abbiamo ancora e sono quelli dei boemi sono venuti dall'egitto passando per la giudea le chiavi di questi tarocchi in effetti si rapportano alle lettere dell'alfabeto ebraico e qualcuna delle figure riproduce proprio la forma dei caratteri di questo alfabeto sacro chi erano dunque questi boemi erano come ha detto il poeta il resto immondo di un antico mondo erano una setta di gnostici indiani che il loro comunismo esiliava da tutta la terra erano come dicevano forse essi stessi dei profanatori del grande arcano abbandonati a una maledizione fatale truppa smarrita di qualche fachiro entusiasta si erano fatti viaggiatori della terra protestando contro tutte le civiltà in nome di un preteso diritto naturale che li dispensava da tutti i doveri ora il diritto che vuole imporsi liberandosi da ogni dovere è aggressione è saccheggio è rapina è il braccio di caino alzato contro suo fratello e la società che si difende vendica la morte di abele nel 1840 degli operai del fauburg saint antoine stanchi dicevano di essere ingannati dai giornalisti e di servire da strumento alle ambizioni dei bei parlatori risolsero di fondare essi stessi e di redigere un giornale di un radicalismo puro e di una logica senza sottintesi e compromessi si riunirono e tenero consiglio per stabilire con precisione le loro dottrine presero per base la dottrina repubblicana libertà a uguaglianza il resto la libertà sembrava loro impossibile finché esisteva il dovere di lavorare l'uguaglianza finché era possibile comprare e conclusero così a favore del comunismo ma uno di loro fece osservare che nel comunismo i più intelligenti presiedevano alla divisione dei beni e avrebbero fatto la parte del leone fu dunque stabilito che nessuno avrebbe avuto diritto alla superiorità intellettuale qualcuno rimarcò che la bellezza fisica stessa costituisce un'aristocrazia e si decretò l'uguaglianza di essa alla bruttezza poi poiché coltivando la terra ci si attacca ad essa fu deciso che i veri comunisti non potevano essere agricoltori avendo solo il mondo per patria e l'umanità per famiglia e dovevano organizzarsi in carovane e fare eternamente il giro del mondo quello che raccontiamo qui non è una parabola noi abbiamo conosciuto le persone presenti a questa decisione abbiamo letto il primo numero del loro giornale intitolato l'umanitario che fu perseguito e soppresso nel 1841 vedere il processo nella stampa di quest'epoca se questo giornale avesse potuto continuare se la setta nascente avesse reclutato degli adepti come faceva quel tempo lo stesso antico procuratore cabè per l'emigrazione icariana una nuova banda di bohemi si sarebbe organizzata e il vagabondaggio errante avrebbe contato un popolo in più capitolo terzo leggenda e storia di raimondo lullo la chiesa come abbiamo detto aveva proscritto l'iniziazione per l'odio alla profanazione dell'agnosi quando maometto armò in oriente il fanatismo contro la fede alla pietà che ignora e che prega oppose la credulità selvaggia che combatte i suoi successori presero piede in europa e minacciarono presto di invaderla la provvidenza ci castiga dicevano i cristiani e i musulmani rispondevano il destino è dalla nostra parte gli ebrei cabalistici che temevano di venire bruciati come stregoni nei paesi cattolici si rifugiarono dagli arabi che erano ai loro occhi degli eretici ma non degli idolatri ammisero qualcuno di loro alla conoscenza dei misteri e l'islamismo già trionfante per mezzo della forza pote presto aspirare a trionfare anche per la scienza di questi che l'arabia letterata chiamava con stegno i barbari dell'occidente il genio della francia aveva opposto all'invasione della forza i colpi del suo martello terribile un dito guantato di ferro aveva tracciato una linea davanti alla marea montante delle armate maomettane e la grande voce della vittoria aveva gridato al flutto tu non andrai più lontano il genio della scienza suscitò ora il mondo lullo che rivendicò per il salvatore figlio di david l'eredità di salomone e che chiamò per la prima volta i figli della credenza cieca agli splendori della conoscenza universale bisogna vedere con quale disprezzo parlano ancora di questo grande uomo i falsi sapienti e i falsi saggi ma all'istinto popolare l'ha vendicato il romanzo e la leggenda si sono impadroniti della sua storia ce lo rappresentano amoroso come abelardo iniziato come faust alchimista come ermete penitente sapiente come san girolamo viaggiatore come l'ebreo errante pio e illuminato come san francesco d'assisi martire infine come santo stefano e glorioso nella morte come il salvatore del mondo cominciamo con il romanzo è uno dei più toccanti e dei più belli che conosciamo un giorno di domenica dell'anno 1259 a palma nell'isola di maiorca una dama saggia e bella di nome ambrosia di castello nativa di genova si recava in chiesa un cavaliere di alta statura e ricchezza la vide passare in strada si arrestò come fulminato e l'entrò in chiesa e scomparve nell'ombra del portico il cavaliere senza sapere ciò che faceva lanciò il suo cavallo ed entrò dietro di lei in mezzo ai fedeli spaventati grande rumore grande scandalo il cavaliere è noto è il signor raimondo lullo siniscalco dell'isola e maestro di palazzo ha una moglie e tre figli due figli uno di nome raimondo come lui l'altro guglielmo e una figlia di nome maddalena madame ambrosia di castello è ugualmente meritata e gode inoltre di una reputazione senza macchia raimondo lullo passa invece per un grande seduttore il suo ingresso nella chiesa di palma fece un gran rumore in città ambrosia tutta confusa consultò suo marito che era senza dubbio un uomo saggio e che non trovò che sua moglie fosse offesa perché la sua bellezza aveva fatto girare la testa di un giovane brillante signore ma consigliò ad ambrosia di guarire il suo folle adoratore della follia di cui ella era la causa già raimondo lullo aveva scritto alla dama per scusarsi o per accusarsi ciò che ella gli aveva ispirato diceva era strano sovrumano fatale rispettava il suo onore i suoi affetti che sapeva appartenere ad un altro ma era toccato dal fulmine gli occorrevano devozioni da compiere sacrifici da fare miracoli da compiere penitenze da stilita prodezze da cavaliere errante ambrosia gli rispose per rispondere a un amore che definite sovrumano mi occorrerebbe un'esistenza immortale bisognerà che questo amore eroicamente pienamente sacrificato al nostro dovere per tutta la vita degli esseri che ci sono cari vita che io desidero sia lunga possa creare un'eternità per noi al momento in cui dio e il mondo ci permetteranno di amarci si dice che esiste un elisir di vita cercate di trovarlo e quando sarete sicuro della vostra scoperta venite a trovarmi fino a quel momento vivete per vostra moglie i vostri figli come io vivrò per mio marito che amo e se mi rincontrerete per strada non riconoscetemi era un grazioso congedo che rimetteva come si vede il nostro amoroso alle calende greche ma lui non lo intese così e a partire da questo giorno il brillante signore scomparve per far posto a un cupo e grave alchimista don giovanni era divenuto faust la moglie di raimondo lullo morì ambrosia di castello a sua volta divenne vedova ma l'alchimista sembrava averla dimenticata per non occuparsi più che della sua grande opera un giorno infine quando la vedova era sola le fu annunciato raimondo lullo e la vita entrare un vecchio pallido e calvo che teneva in mano una fiala piena di un elisir rosso come il fuoco si avanzò barcollando e le cercò gli occhi ella era davanti a lui e lui non la riconobbe perché nel suo pensiero ella era sempre giovane e bella come nella chiesa di palma sono io disse elle infine che volete da me all'accento di quella voce l'alchimista trassalì la riconobbe credete di vederla ancora giovane si gettò i suoi piedi e tendendole la fiala quasi in delirio prendete disse bevete è la vita vi ho messo trent'anni dei miei ma io l'ho assaggiato ne sono sicuro è l'elisir di immortalità come l'avete assaggiato disse ambrosia con un triste sorriso per due mesi disse raimondo dopo aver bevuto una quantità di elisir pari a questa mi sono astenuto da qualsiasi nutrimento la fame mi ha torto le viscere ma non solo non sono morto posso dire che sento in me più vita e più forza che mai vi credo disse ambrosia ma questo elisir che conserva la vita non fa tornare la giovinezza mio povero amico guardatevi e gli presentò uno specchio raimondo lullo si ritrasse mai da trent'anni aveva pensato a guardarsi ora raimondo guardatemi disse ambrosia scoprendosi i capelli bianchi poi staccando il fermaglio del vestito gli mostrò il suo seno che era quasi tutto eroso da un cancro è questo aggiunse ella che volete rendere immortale poi vedendo l'alchimista costernato ascoltatemi disse ella da trent'anni vi amo e non voglio condannarvi alla prigione perpetua nel corpo di un vecchio non condannate anche me fatemi la grazia di questa morte che si chiama vita lasciatemi trasformare per rivivere ritempriamoci nella giovinezza eterna non voglio del vostro elisir che prolunga la notte della tomba io aspiro all'immortalità raimondo lullo gettò allora a terra la fiala che si ruppe io vi libero disse lui e resto in prigione per voi vivete nell'immortalità del cielo io sono condannato per sempre alla morte vivente della terra poi nascondendosi il viso nelle mani fuggì in lacrime qualche mese dopo un monaco dell'ordine di san francesco assistette ambrosia di castello nei suoi ultimi momenti questo monaco era raimondo lullo qui il romanzo termina e la leggenda comincia questa leggenda non fa che un solo uomo di tre o quattro raimondo lullo che sono esistiti in epoche diverse da all'alchimista pentito diversi secoli di esistenza e di espiazione il giorno in cui naturalmente il povero adepto dovette morire questi risentì tutte le angosce dell'agonia poi in una crisi suprema sentì la vita che ricominciava come l'avvoltoio di prometeo riprendeva il suo festino rinnovantesi il salvatore del mondo che già gli tendeva la mano rientrò tristemente nel cielo che si chiudeva e raimondo lullo si ritrovò sulla terra senza speranza di morire mai si mise a pregare e dedicò tutta la sua esistenza alle opere buone dio gli accordò tutte le grazie ad eccezione della morte e che farne delle altre senza quella che doveva completarle e coronarle tutte un giorno l'albero della scienza gli apparve carico dei suoi frutti luminosi egli comprese l'essere le sue armonie indovinò la cabala gettò le basi e tracciò il piano di una scienza universale e da allora non fu chiamato altrimenti che il dottore illuminato aveva trovato la gloria questa fatale ricompensa del lavoro che dio nella sua misericordia non elargisce i grandi uomini che dopo la loro morte perché ubriaca e avvelena i vivi ma raimondo lullo che non aveva potuto morire per farle posto doveva temere ancora di vederla morire prima di lui e questa gloria non gli sembrava essere che una derisione della sua immortale fortuna sapeva fare dell'oro e poteva comprare il mondo e tutti i suoi monumenti senza potersi assicurare il godimento di una sola tomba era il povero dell'immortalità andava dappertutto mendicando la morte e nessuno gliela poteva donare aveva preso corpo a corpo la filosofia degli arabi lottò vittoriosamente contro l'islamismo e aveva tutto da temere dal fanatismo dei settari tutto da temere vale a dire forse qualcosa da sperare e quello che sperava era la morte prese come domestico un giovane arabo dei più fanatici e si prefisse di essere per lui il flagello della dottrina di maometto l'arabo assassinò il suo padrone era quello che il raimondo lullo attendeva ma non morì come aveva sperato non poteva ottenere la grazia del suo assassino ed ebbe un nuovo rimorso di coscienza al posto della liberazione e la pace appena guarito dalle sue ferite si imbarcò e partì per tunisi predicò pubblicamente il cristianesimo ma il bei ammirando la sua scienza il suo coraggio lo difese dal furore del popolo e lo fece imbarcare con tutti i suoi libri raimondo lullo tornò predicò a bona a bugie e in altre città dell'africa i musulmani stupefatti non osavano mettergli le mani addosso ritornò infine a tunisi e ammassando folle per le strade gridò di essere stato già cacciato dal paese ma che ritornava al fine di confutare i dogmi empi di maometto e di morire per gesù cristo questa volta ogni protezione fu impossibile il popolo furioso lo inseguì ci fu una vera sedizione e gli fuggì per eccitarlo ancora di più fu fatto a pezzi inondato di sangue coperto di ferite e sempre vivo cadde infine letteralmente sepolto da una montagna di pietre la notte seguente due mercanti genovesi di nome stefano colombo e luigi di pastorga passando in pieno mare videro una grande luce sollevarsi dal porto di tunisi si avvicinarono e videro un cumulo di pietre che proiettava in lontananza questo miracoloso splendore cercarono sotto le pietre e vi trovarono raimondo lullo ferito e vivo lo imbarcarono sul loro vascello e lo riportarono a maiorca sua patria ma in vista di quest'isola il martire infine spirò dio l'aveva liberato con un miracolo e la sua penitenza era compiuta tale è l'odissea del raimondo lullo leggendario veniamo ora alla realtà storica raimondo lullo il filosofo e l'adepto colui che meritò il soprannome di dottore illuminato era il figlio di quel siniscalco di maiorca celebre per la sua passione infelice per ambrosia di castello non compose l'elisir di immortalità ma fece dell'oro in inghilterra per il re eduardo terzo quest'oro fu chiamato l'oro di raimondo e ne esistono ancora dei pezzi molto rari che i curiosi chiamano raimondini lui figlie suppone che questi raimondini siano i nobili della rosa colpiti sotto il regno di eduardo terzo e disse con una certa leggerezza che forse l'alchimia di raimondo lullo non era che una sofisticazione di oro difficile da riconoscere in un tempo in cui i procedimenti chimici erano molto meno perfezionati che i giorni nostri questo dotto non diminuisce comunque il valore scientifico di raimondo lullo ed ecco come lo giudica da dottrina e lavoro degli alchimisti pagina 82 raimondo lullo di cui il genio si esercitò in tutte le branche della conoscenza umana e che espose nel suo libro ars magna tutto un vasto sistema di filosofia che riassumeva i principi enciclopedici della scienza dei suoi tempi non poteva non lasciare ai chimici un'utile eredità perfezionò e descrisse con cura diversi composti che sono molto in uso in chimica è a lui che dobbiamo la preparazione del carbonato di potassio per mezzo del tartrato e per mezzo delle ceneri di legno la rettificazione dell'alcol divino la preparazione degli oli essenziali la acopellazione dell'argento e la preparazione del mercurio dolce altri sapienti convinti della purezza dell'oro dei nobili della rosa pensavano che la chimica pratica del medioevo avesse dei procedimenti molto imperfetti per cui le trasmutazioni di raimondo lullo e di altri adepti non fossero altro che la separazione dell'oro nelle miniere d'argento purificato per mezzo dell'antimonio che è indicato in effetti da un gran numero di simboli ermetici come l'elemento efficiente e principale della polvere di proiezione conveniamo con loro che la chimica non esisteva nel medioevo e aggiungiamo che fu creata dagli adepti o piuttosto che gli adepti tenendo per sé i segreti della sintesi questo tesoro dei santuari magici insegnarono ai loro contemporanei qualcuno dei procedimenti dell'analisi procedimenti che in seguito sono stati perfezionati ma che non hanno ancora portato i nostri saggi a ritrovare quell'antica sintesi che è per parlare propriamente la filosofia ermetica raimondo lullo ha confermato nel suo testamento filosofico tutti i principi di questa scienza ma in modo velato come era l'uso e il dovere di tutti gli adepti compose così una chiave di questo testamento poi una chiave della chiave vale a dire un codicillo che è secondo noi il più importante dei suoi scritti sull'alchimia i principi che vi si trovano e i procedimenti che vi sono esposti non hanno niente in comune con la sofisticazione dei metalli puri né con la separazione delle leghe è una teoria conforme ai principi di geber e di arnold villeneuve per la pratica e alle più alte concezioni della cabala per la dottrina gli spiriti seri che non si lasciano scoraggiare dal discredito in cui l'ignoranza fa a volte cadere le grandi cose devono per continuare dopo i più grandi geni dell'antichità alla ricerca dell'assoluto studiare subito e meditare cabalisticamente il codicillo di raimondo lullo tutta la vita di questo meraviglioso adepto il primo iniziato dopo san giovanni che si era votato all'apostolato gerarchico della santa ortodossia tutta la sua vita diciamo passò in fondazioni pie in prediche in lavori scientifici immensi così nell'anno 1276 fondò a palma un collegio di francescani votati allo studio delle lingue orientali e soprattutto della lingua araba con la missione speciale di rifiutare i libri dei dottori maomettani e di predicare ai mori la fede cristiana giovanni ventunesimo confermò quest'istituzione con un breve datato da viterbo il 16 dicembre il primo anno del suo pontificato dall'anno 1293 fino al 1311 sollecita e ottiene dal papa nicola quinto e dal re di francia di sicilia di cipro di maiorca la creazione di molti collegi per lo studio delle lingue ovunque insegna la sua grande arte che è una sintesi universale delle conoscenze umane e ha per scopo di portare gli uomini a non avere che una sola lingua come un solo pensiero viene a parigi e vi meraviglia i dottori più sapienti poi va in spagna si ferma compiuta e vi fonda un'accademia centrale per lo studio delle lingue e delle scienze riforma vari conventi viaggia in italia e recluta dei soldati per un nuovo ordine militare di cui sollecita l'istituzione a questo stesso concilio di vienna che condanna i templari è la scienza cattolica è la vera iniziazione di san giovanni che vuole riprendere dalle mani degli infedeli il gladio difensore del tempio i grandi della terra si beffano del povero raimondo lullo ma fanno loro malgrado tutto quello che lui desidera questo illuminato che deridendo chiamano raimondo il fantastico e fa l'elemosina ai sovrani viene detto folle e confonde i saggi il più grande politico dei tempi il cardinale chimenes spirito vasto e serio non parla di lui che chiamandolo il divino raimondo lullo e il dottore molto illuminato morì secondo genebrar nel 1314 o nel 1315 secondo l'autore della prefazione delle meditazioni dell'eremita blachern aveva 80 anni e la fine della sua laboriosa e santa esperienza arrivò nel giorno della festa e del martirio degli apostoli pietro e paolo discepolo dei grandi cabalisti raimondo lullo voleva stabilire una filosofia universale e assoluta sostituendo alle astrazioni convenzionali dei sistemi la nozione fissa delle realtà della natura e ai termini ambigui della scolastica un verbo semplice e naturale rimproverava alle definizioni dei sapienti dei suoi tempi di perpetuare le dispute con le loro inesattezze e le loro anfibologie l'uomo è un animale ragionevole dice aristotele l'uomo non è un animale si può rispondere ed è raramente ragionevole inoltre animale ragionevole sono due termini che non sapremmo accordare un folle secondo voi non sarebbe un uomo eccetera raimondo lullo definisce le cose con il loro stesso nome e non con dei sinonimi o dei pressappochismi poi spiega i nomi con l'etimologia quindi a questa domanda che cos'è l'uomo questa parola presa in un'accezione generale significa la condizione umana presa in un'accezione particolare designa la persona umana ma che cos'è la persona umana originariamente alla persona che dio ha fatto donando un soffio di vita a un corpo estratto dalla terra umus attualmente siete voi sono io è pietro e paolo eccetera le persone abituate al gergo scientifico si lamenteranno a questo punto e diranno al dottore illuminato che tutti potrebbero dire le stesse cose con questo metodo tutti sarebbero dei saggi e il buon senso del popolo verrebbe preferito alla dottrina accademica ed è proprio quello che voglio risponderebbe semplicemente raimondo lullo da qui il rimprovero di puerilità rivolto a tutta la teoria di raimondo lullo ed era puerile in effetti puerile come la morale di colui che ha detto se non diverrete simili a dei bambini non entrerete mai nel regno dei cieli il regno dei cieli non è il regno della scienza perché tutta la vita celeste degli uomini e di dio non è che intelligenza e amore raimondo lullo voleva opporre la cabala divenuta cristiana alla magia fatalista degli arabi le tradizioni dell'egitto a quelle dell'india la magia della luce alla magia nera diceva che negli ultimi tempi le dottrine dell'anticristo sarebbero state un realismo materializzato e che allora sarebbero resuscitate tutte le mostruosità e la magia cattiva preparava dunque gli spiriti al ritorno di enoch cioè alla rivelazione ultima della scienza la cui chiave è nell'alfabeto geroglifico di enoch e la cui luce conciliatrice della ragione della fede precederà il regno messianico e universale del cristianesimo sulla terra per i veri cabalisti e i veggenti quest'uomo è stato dunque un grande profeta e per gli scettici che sanno rispettare meno i grandi caratteri e le alte aspirazioni è stato un sublime sognatore capitolo quarto alchimisti flamel appartiene esclusivamente all'alchimia così non lo menzioneremo che per parlare di quel libro geroglifico di abramo l'ebreo in cui lo scrittore della russa enchak la boucherie trovò le chiavi assolute della grande opera questo libro era basato sulle chiavi dei tarocchi e non era che un commentario geroglifico ermetico del sefer gesira vediamo in effetti nella descrizione che ne fa flamel che i foglietti erano 21 22 col titolo e si dividevano in tre settenari con un foglio senza scrittura ad ogni settima pagina osserviamo che l'apocalisse questo sublime riassunto cabalistico e profetico di tutte le figure occulte divide anch'essa le sue immagini in tre settenari dopo ognuno dei quali si fa un silenzio nel cielo analogia meravigliosa con il foglio non scritto del libro mistico di flamel i settenari dell'apocalisse sono dapprima sette sigilli da aprire cioè sette misteri da conoscere e sette difficoltà da vincere sette trombe da suonare cioè sette parole da comprendere e sette coppe da avversare cioè sette sostanze da volatilizzare e fissare nel libro di flamel i primi sette fogli portano per geroglifico la verga di mosè trionfante sui serpenti lanciati dagli incantatori del faraone e che si divorano tra loro figura analoga al trionfatore dei tarocchi che attacca al suo carro cubico la sfinge bianca e nera della magia egiziana questa figura corrisponde al settimo dogma del simbolo di maimonide non abbiamo che un profeta ed è mosè rappresenta l'unità della scienza e dell'opera rappresenta anche il mercurio dei saggi che si forma dalla soluzione dei misti e con l'azione reciproca dello zolfo e del sale dei metalli la figura del secondo settenario era la rappresentazione del serpente di rame fissato su una croce la croce rappresenta il matrimonio dello zolfo e del sale purificato e la condensazione della luce astrale il numero 14 dei tarocchi rappresenta un angelo cioè lo spirito della terra mescolato ai liquidi di un vaso d'oro e di un vaso d'argento è dunque lo stesso simbolo rappresentato in un'altra maniera nell'ultimo settenario del libro di flamel si vede il deserto delle fontane e dei serpenti che corrono da tutte le parti immagine dello spazio e della vita universale nei tarocchi lo spazio è raffigurato dei quattro segni dei punti cardinali del cielo e la vita da una fanciulla nuda che corre in un cerchio flamel non dice il numero delle fontane e dei serpenti potevano esserci quattro fontane zampillanti da una stessa fonte come nel pentacolo edenico con quattro sette nove o dieci serpenti al quarto foglio si vedeva il tempo pronto a tagliare i piedi a mercurio lì accanto un rosaio fiorito la cui radice è blu il fusto bianco le foglie rosse e i fiori d'oro il numero 4 è quello della realizzazione elementare il tempo è il nitro atmosferico la sua falce è l'acido che se ne può fare che fissa il mercurio trasformandolo in sale il rosaio è l'opera con i suoi tre colori successivi il magistero al nero bianco e rosso che fa germogliare e fiorire l'oro al quinto foglietto il numero 5 è quello del grande mistero si vedono ai piedi del rosaio fiorito dei ciechi che frugano la terra per cercare il grande agente che è dappertutto qualcuno più avveduto pesa un'acqua bianca che sembra aria espessita al rovescio della pagina si vede il massacro degli innocenti e il sole e la luna che vanno a bagnarsi nel loro sangue questa allegoria che esprime in effetti il grande segreto dell'arte ermetica si rapporta a quell'arte di prendere l'aria nell'area come dice aristeo o in lingua intelligibile di impiegare l'aria come forza dilatandola per mezzo della luce astrale come si dilata l'acqua in vapore per azione del fuoco cosa che si può fare con l'aiuto dell'elettricità dei magneti e di una proiezione potente della volontà dell'operatore diretta dalla scienza e dalla buona volontà il sangue dei bambini rappresenta questa luce essenziale che il fuoco filosofico estrai dai corpi elementari e nella quale il sole e la luna vengono a bagnarsi vale a dire l'argento vi si tinge d'oro e l'oro vi acquisisce un grado di purezza che trasforma lo zolfo in vera polvere di proiezione la tradizione popolare assicura che flamel non è morto e che ha sotterrato un tesoro sotto la torre di saint jacques la boucherie questo tesoro contenuto in un cofano di cedro rivestito di lamine di sette metalli non sarebbe altro dicono gli adepti illuminati che l'esemplare originale del famoso libro di abramo l'ebreo con le sue spiegazioni scritte di mano di flamel e dei campioni della polvere di proiezione sufficienti a cambiare l'oceano in oro se l'oceano fosse di mercurio dopo il flamel vennero bernardo trevigiano basilio valentino ed altri alchimisti celebri le dodici chiavi di basilio valentino sono allo stesso tempo cabalistiche magiche ed ermetiche poi nel 1480 apparve giovanni tritemio che fu il maestro di cornelio agrippa e il più grande mago dogmatico del medioevo tritemio era un abate dell'ordine di san benedetto di una irreprensibile ortodossia e dalla condotta più che regolare non ebbe l'imprudenza di scrivere apertamente sulla filosofia occulta come il suo discepolo l'avventuroso agrippa tutti i suoi lavori magici trattano dell'arte di nascondere i misteri per quanto riguarda la sua dottrina la espressa attraverso un pentacolo secondo l'uso dei veri adepti questo pentacolo estremamente raro si trova soltanto in qualche esemplare manoscritto del trattato delle cause seconde un gentiluomo polacco che ha uno spirito alto e un cuore nobile il conte alexander branischi ne possiede un curioso esemplare che ben volentieri ci ha comunicato questo pentacolo è composto da due triangoli uniti per la base uno bianco e l'altro nero sotto la punta del triangolo nero è accucciato un folle che raddrizza penosamente la testa e guarda con una smorfia di terrore nell'oscurità del triangolo in cui si riflette la propria immagine sulla punta del triangolo bianco si appoggia un uomo nel fiore degli anni vestito da cavaliere con lo sguardo fermo e l'atteggiamento di un comandante forte e pacifico nel triangolo bianco sono tracciati i caratteri del tetragramma divino si potrebbe spiegare questo pentacolo con questa leggenda il saggio si appoggia sul timore del vero dio l'insensato è schiacciato dalla paura di un falso dio a sua immagine questo è il senso naturale ed esoterico del simbolo ma meditando nel suo insieme in ognuna delle sue parti gli adepti vi troveranno l'ultima parola della cabala la formula indicibile del grande arcano la distinzione tra i miracoli e i prodigi il segreto delle apparizioni la teoria universale del magnetismo e la scienza di tutti i misteri tritemio ha composto una storia della magia tutta in pentacoli sotto questo titolo veterum soforum sigilla et imagines magiche poi nella sua steganografia e nella sua poligradia dà la chiave di tutte le scritture occulte e spiega in termini velati la scienza reale degli incantesimi e delle vocazioni tritemio è in magia il maestro dei maestri e non esitiamo a proclamarlo il più saggio e il più sapiente degli adepti non è la stessa cosa per cornelio agrippa che fu per tutta la vita un cercatore che non trovò nella vera scienza nella pace i libri di agrippa sono pieni di erudizione di ardimento aveva egli stesso un carattere fantastico indipendente passo anche per un abominevole stregone e fu perseguito dal clero e dei principi scrisse infine contro le scienze che non avevano potuto donargli la felicità e morì abbandonato e in miseria arriviamo infine alla dolce buona figura di questo sapiente sublime postel che conosciamo per il troppo mistico amore per una vecchia arzitella illuminata in postel vi sono tutte altre cose del discepolo di madre giovanna ma gli spiriti volgari sono così felici di denigrare per poter fare a meno di imparare che non vorranno mai vedervi niente di meglio non è dunque a loro che riveleremo il genio di guillon postel postel era il figlio di un povero contadino dei dintorni di barrenton in normandia a forza di perseveranza e di sacrifici arrivò a distruirsi e divenne presto l'uomo più sapiente dei suoi tempi la povertà l'accompagnò sempre e la stessa miseria lo forzò a volte a vendere i suoi libri postel sempre pieno di rassegnazione di mansuetudine lavorò come un uomo di fatica per guadagnare un pezzo di pane e dopo tornava a studiare imparò tutte le lingue conosciute tutte le scienze dei suoi tempi scoprì dei manoscritti preziosi e rari fra gli altri i vangeli apocrifi e il seferge zirà si iniziò lui stesso ai misteri dell'alta cabala e nella sua ingenua ammirazione per questa verità assoluta per questa ragione superiore a tutte le filosofie e a tutti i dogmi volle rivelarla al mondo parlò dunque apertamente la lingua dei misteri scrisse un libro avente per titolo la chiave delle cose nascoste dall'inizio del mondo indirizzò questo libro ai padri del concilio di trento pregandoli di entrare nella via della conciliazione della sintesi universale nessuno lo comprese qualcuno lo accusò di eresia i più moderati si contentarono di dire che era folle la trinità diceva ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza il corpo umano è doppio e la sua unità ternaria si compone dell'unione di due metà anche l'anima umana è doppia è animus e anima è spirito e tenerezza a due sessi il sesso paterno sta nella testa il sesso materno nel cuore il compimento della redenzione deve dunque essere doppio nell'umanità occorre che lo spirito con la sua purezza raccolga gli smarrimenti del cuore poi occorre che il cuore con la sua generosità accolga le secchezze egoiste della testa il cristianesimo aggiungeva non è ancora stato compreso che dalle teste ragionevoli non è ancora disceso ai cuori il verbo si è fatto uomo ma è quando si sarà fatto donna che il mondo sarà salvato è il genio materno della religione che insegnerà agli uomini le sublime grandezze dello spirito di carità e allora la ragione si concilierà con la fede perché comprenderà spiegherà e governerà le sante follie della devozione vedete adesso aggiunge di che si compone la religione della maggior parte dei cristiani una parzialità ignorante persecutrice una testardaggine superstiziosa e stupida e soprattutto la paura la vile paura e perché questo perché non ci sono dei cuori femminili perché non sentono i divini entusiasmi dell'amore materno che spiegherebbero loro la religione tutta intera la potenza che si è impadronita del loro cervello e che lega il loro spirito non è il dio buono intelligente e longanime è il malvagio stupido e codardo satanasso hanno molta più paura del diavolo che amore per dio sono dei cervelli ghiacciati e ristretti posti come delle tombe su dei cuori morti o quando la grazia risusciterà i cuori che risveglio per le intelligenze che rinascita per la ragione che trionfo per la verità perché sono il primo e il solo a comprenderlo che può fare un solo risuscitato in mezzo a dei morti che non riescono ancora a capire niente vieni dunque vieni spirito materno che mi è apparso a venezia nell'anima di una vergine ispirata da dio e che insegna alle donne del nuovo mondo la loro missione redentrice e il loro apostolato di amore santo e spirituale queste nobili ispirazioni postel le doveva in effetti a una pia donna di nome giovanna che aveva conosciuto a venezia fu il confidente spirituale di quest'anima scelta e fu trascinato nella corrente di poesia mistica che vorticava attorno ad essa quando le dava la comunione la vedeva raggiante e trasfigurata ella aveva allora più di 50 anni e il povero padre confessò ingenuamente che non gliene avrebbe dati 15 tanto la simpatia dei loro cuori la trasfigurava ai suoi occhi strani smarrimenti di due anime pure matrimonio mistico di due verginità puerilità liriche celesti allucinazioni per comprendere tutto questo occorre aver vissuto una vita scetica era lei diceva l'entusiasta era lo spirito di gesù cristo vivente in lei che doveva rigenerare il mondo questa luce del cuore che deve cacciare da tutti gli spiriti lo spettro odioso di satana non è una chimera dei miei sogni io l'ho vista e lei apparsa nel mondo si è incarnata in una vergine e io ho salutato in lei la madre del mondo avvenire noi analizziamo qui postel piuttosto che tradurlo ma il veloce riassunto che diamo dei suoi sentimenti e del suo linguaggio non sono sufficienti a far comprendere che tutto quello che è stato detto in forma figurata e che secondo la assennata affermazione del saggio gesuita desbillon nella sua opera sulla vita e le opere di postel niente era più lontano dal suo pensiero che fare come è stato preteso una seconda incarnazione una divinità di quella povera sorella ospitaliera che l'aveva sedotto unicamente per lo splendore delle sue umili virtù crediamo davvero sinceramente che i calunniatori e gli sbeffeggiatori del buon postel non valessero la madre giovanna le relazioni mistiche di postel e di questa religiosa durarono circa cinque anni dopo i quali la madre giovanna morì e la aveva promesso al suo confessore di non separarsi mai da lui e di assisterlo quando si fosse liberata dalle catene della vita attuale ha mantenuto la sua parola dice postel è venuta in seguito a visitarmi a parigi mi ha illuminato della sua luce ha conciliato la mia ragione con la mia fede la sua sostanza e il suo corpo spirituale due anni dopo la sua ascesa al cielo sono discesi su di me e si sono distesi sensibilmente in tutto il corpo al punto che è lei e non io a vivere in me dopo quest'epoca postel non si chiamò mai in altro modo che il resuscitato firmava postellus restitutus e di fatto un singolare fenomeno si era compiuto in lui i suoi capelli da bianchi erano ridiventati neri le sue rughe si cancellarono e il colore rosso della giovinezza si effuse di nuovo sul suo viso pallido ed estenuato dalle austerità e dalle veglie i suoi biografi motteggiatori pretendevano che si tingesse i capelli e che si desse la cipria come se non fosse stato sufficiente farne un pazzo volevano anche che un uomo di un carattere così nobile generoso fosse stato un salto in banco e un ciarlatano c'è qualcosa di più prodigioso dell'eloquente irragionevolezza dei cuori entusiasti è la stupidità o la malafede degli spiriti scettici e freddi che li giudicano ci si è immaginato scrive il padre desbillon e vedo che ci si crede ancora oggi che la rigenerazione che si suppone essere stata fatta da madre giovanna sia il fondamento del suo sistema il sistema da cui non si è mai allontanato se non forse qualche anno prima della sua morte sussisteva già nella sua interezza prima che avesse inteso parlare di questa madre giovanna si era messo in testa che il regno evangelico di gesù cristo costruito dagli apostoli non potesse più sostenersi tra i cristiani né propagarsi fra gli infedeli se non si fosse appoggiato ai lumi della ragione a questo principio che lo riguardava personalmente egli ne aggiunse un altro che consisteva nella predestinazione di un re di francia alla monarchia universale occorreva preparargli la via con la conquista dei cuori e la convinzione degli spiriti affinché nel mondo non restasse che una sola credenza e che gesù cristo regnasse attraverso un solo re una sola legge e una sola fede ecco quello che prova secondo padre desbillon che postel fosse pazzo pazzo per aver pensato che la religione dovesse regnare sugli spiriti attraverso la ragione suprema del suo dogma e che la monarchia per essere forte e durevole dovesse incatenare i cuori con le conquiste della prosperità pubblica e della pace pazzo per aver creduto all'avvento del regno di colui a cui chiediamo tutti i giorni di giungere col suo regno pazzo perché credeva alla ragione alla giustizia sulla terra bene dicevano il vero il povero postel era pazzo la prova della sua follia è che scriveva come abbiamo detto ai padri del concilio di trento per supplicarli di benedire tutto il mondo e di non lanciare anatemi contro nessuno altra follia cercava di convertire gesuiti alle sue idee e di far loro predicare la concordia universale tra gli uomini la pace tra i sovrani la ragione e i preti e la bontà ai principi del mondo infine ultima e suprema follia non si curava dei beni terreni e del favore dei grandi visse sempre umilmente poveramente non possedette mai altro che i suoi libri e non aspirò mai ad altre cose se non alla verità e alla giustizia dio dia la pace all'anima del povero guillon postel era così dolce buono che i suoi superiori ecclesiastici ebbero pietà di lui e pensando probabilmente come ha detto in seguito della fontaine che fosse più stupido che cattivo si accontentarono di chiuderlo in un convento per il resto dei suoi giorni postel le ringraziò della calma che li procurarono fino alla fine della sua vita e morì in pace e ritrattando tutto quello che vollero i suoi superiori l'uomo della concordia universale non poteva essere un anarchico e prima di tutto era il più sincero dei cattolici e il più umile dei cristiani un giorno si ritroveranno le opere di postel e si leggeranno con stupore passiamo a un altro folle colui che si chiama teofrasto aureolo bombasto e che si conosce nel mondo sotto il celebre nome di paracelso non ripeteremo quello che abbiamo detto di questo maestro nel nostro dogma e rituale dell'alta magia aggiungeremo soltanto qualche cosa sulla medicina occulta di cui paracelso fu il rinnovatore questa medicina veramente universale riposa su una vasta teoria della luce che gli adepti chiamano l'oro fluido o potabile la luce questo agente creatore le cui vibrazioni danno a tutte le cose il movimento e la vita la luce latente nell'etere universale raggiante attorno a dei centri assorbenti che saturati della luce proiettano a loro volta il movimento alla vita e formano così delle correnti creatrici la luce astralizzata negli astri animalizzata negli animali umanizzata negli uomini la luce che vegeta nelle piante che brilla nei metalli che produce tutte le forme della natura e le equilibra tutte per la legge della simpatia universale è questa luce che produce i fenomeni del magnetismo indovinati da paracelso è essa che colore il sangue permea l'aria aspirata e rinviata col respiro ermetico dei polmoni il sangue allora diviene un vero elesir di vita in cui i globuli vermigli e magnetizzati dalla luce vivente nuotano in un fluido leggermente dorato questi globuli sono dei veri semi pronti a prendere tutte le forme del mondo di cui il corpo umano è il riassunto possono assottigliarsi o coagularsi rinnovando così gli spiriti che circolano nei nervi e la carne che si stringe attorno alle ossa irraggiano al di fuori o piuttosto spiritualizzandosi si lasciano trascinare dalle correnti della luce e circolano nel corpo astrale questo corpo interiore luminoso che l'immaginazione dilata negli estatici di modo che il loro sangue va a volte a colorare a distanza degli oggetti che il loro corpo astrale penetra per poterli identificare dimostreremo in un'opera speciale sulla medicina occulta tutto quello che anticipiamo qui quantunque strano e paradossale possa sembrare sulle prime agli uomini di scienza tali erano le basi della medicina di paracelso guariva attraverso la simpatia della luce applicava i medicamenti non al corpo esteriore e materiale che è passivo e che si può anche tagliare e lacerare senza che senta nulla quando il corpo astrale si ritira ma a quel medium interno a quel corpo principio delle sensazioni di cui ravvivava la quintessenza con delle quintessenze simpatiche così per esempio guariva le ferite applicando dei potenti reagenti al sangue sparso dal quale rinviava verso il corpo l'anima fisica e il succo purificato per guarire un membro malato faceva un membro di cera al quale attaccava col potere della sua volontà il magnetismo del membro malato applicava questa cera il vetriolo il ferro e il fuoco e reagiva anche con l'immaginazione la corrispondenza magnetica sul malato stesso di cui il membro era divenuto l'appendice e il supplemento paracelso conosceva i misteri del sangue sapeva perché i sacerdoti di bal per far discendere il fuoco dal cielo si facevano delle incisioni col coltello sapeva perché gli orientali che volevano ispirare amore fisico a una donna spandevano il loro sangue davanti a lei sapeva come il sangue sparso gridi vendetta o misericordia e riempia l'aria di angeli o demoni è il sangue in effetti che è lo strumento dei sogni è esso che suscita le immagini nel nostro cervello durante il sonno perché il sangue è pieno di luce astrale i globuli sono bisessuali magnetizzati e ferrosi simpatici e repulsivi dall'anima fisica del sangue si possono far uscire tutte le forme tutte le immagini del mondo leggiamo il racconto di uno stimato viaggiatore a baroche dice il viaggiatore tavernier gli inglesi hanno una casa bellissima e mi ricordo che arrivando un giorno nel viaggio di ritorno da agra assurate con il presidente degli inglesi vennero dei ciarlatani a chiedergli se voleva che li mostrassero qualche cosa del loro mestiere cosa che egli ebbe la curiosità di vedere la prima cosa che fecero fu di accendere un gran fuoco e di far arroventare delle catene di ferro di cui si circondarono il corpo facendo finta di sentire qualche dolore ma senza riceverne in fondo alcun danno poi presero un pezzetto di legno e piantatolo in terra chiesero a qualcuno della compagnia quale frutto volesse avere si disse loro che essi volevano dei mangi e allora uno di questi ciarlatani si copriò di un lenzuolo e si accucciò a terra in quattro cinque riprese ebbi la curiosità di salire in una camera per vedere dall'alto da un'apertura del lenzuolo cosa facesse quest'uomo e vidi che tagliandosi la carne delle ascelle con un rasoio bagnava di sangue il legno ogni volta il legno cresceva a vista d'occhio e alla terza ne uscirono dei rami con delle gemme alla quarta volta l'albero si coprì di foglie e alla quinta vi vidi dei fiori il presidente degli inglesi aveva allora il suo ministro con sé l'aveva portato ad madabat per battezzare un figlio del comandante olandese e di cui era stato pregato di essere il padrino perché bisogna dire che gli olandesi non hanno ministri di culto se non nei luoghi in cui si riuniscono mercanti e soldati il ministro inglese aveva protestato sulle prime che non poteva consentire a che dei cristiani assistessero a simili spettacoli e non appena vide che da un pezzo di legno secco questi facevano venire in meno di mezz'ora un albero di quattro cinque piedi di altezza con delle foglie e fiori come in primavera si sentì in dovere di andare a romperlo e disse ad alta voce che non avrebbe mai dato la comunione a nessuno di coloro che restassero a vedere tali cose questo obbligò il presidente a congedare questi ciarlatani il dottor clever de maldigny a cui attribuiamo questa citazione si dispiace del fatto che i mangi si fossero fermati nel loro bel cammino ma non pretende di spiegare il fenomeno crediamo che sia una fascinazione attraverso il magnetismo della luce irraggiante dal sangue è quello che abbiamo definito altrove un fenomeno di elettricità magnetizzata identico a quello che si chiama palingenesi e che consiste nel fare apparire una pianta viva in un vaso che contiene la cenere della stessa pianta morta da tempo tali erano i segreti che conosceva paracelso ed è impiegando nell'uso della medicina queste forze segrete della natura che si creò tanti ammiratori e nemici d'altronde paracelso era lungi dall'essere un uomo buono come postel era naturalmente aggressivo e battagliero il suo genio familiare era nascosto diceva nel pomo della sua grande spada e non la lasciava mai la sua vita fu una lotta incessante viaggiava disputava scriveva insegnava era più curioso dei risultati fisici che delle conquiste morali così fu il primo dei maghi operativi e l'ultimo degli adepti saggi la sua filosofia era tutta di sagacia e la chiamava lui stesso filosofia sagax ha indovinato più di tutti senza aver mai saputo niente completamente niente uguali alle sue intuizioni se non la temerità dei suoi commentari era l'uomo delle esperienze ardite si inebriava delle sue opinioni e della sua parola e si ubriacava anche di altro se si crede i suoi cronisti gli scritti che ha lasciato sono preziosi per la scienza ma occorre leggerli con precauzione si può chiamarlo il divino paracelso prendendo questo aggettivo nel senso di indovino quindi come oracolo ma non fu mai un maestro vero fu soprattutto come medico che fu grande perché aveva trovato la medicina universale non poté tuttavia salvaguardare la propria vita e morì ancora giovane spossato dai suoi lavori e dai suoi accessi lasciando dietro a sé un nome di una gloria fantastica e dubbia fondata su delle scoperte di cui i suoi contemporanei non approfittarono morì senza aver detto le sue ultime parole ed è uno dei personaggi misteriosi di cui si può dire come di enoch e di san giovanni non è morto e ritornerà a visitare la terra prima dell'ultimo giorno capitolo quinto stregoni e maghi celebri i commentari e gli studi sulle opere di dante si sono moltiplicati e nessuno che sappiamo ne ha segnalato il carattere principale l'opera del grande ghibellino è una dichiarazione di guerra al papato attraverso la rivelazione ardita dei misteri l'epopea di dante è gioannita e gnostica è un'applicazione ardita delle figure dei numeri della cabala ai dogmi cristiani e una negazione segreta di tutto quello che c'è di assoluto in questi dogmi il suo viaggio attraverso i mondi soprannaturali si compie come l'iniziazione ai misteri di eleusi e di tebe è virgilio a condurlo e a proteggerlo nei cerchi del nuovo tartaro come se virgilio il tenero e malinconico profeta dei destini del figlio di poglione fosse agli occhi del poeta fiorentino il padre illegittimo ma vero dell'epopea cristiana grazie al genio pagano di virgilio dante sfugge a quella voragine sulla porta della quale aveva letto una frase di disperazione ne fugge mettendo la testa al posto dei piedi e i piedi al posto della testa vale a dire prendendo il dogma in contropiede e allora risale alla luce servendosi del demone stesso come di una scala mostruosa sfugge allo spavento a forza di spavento all'orribile a forza di orrore l'inferno sembra dire è un vicolo cieco solo per coloro che non sanno ritornare prende il diavolo a ritroso se mi è concesso di usare questa espressione familiare e si emancipa grazie alla sua audacia il protestantesimo è già passato e il poeta dei nemici di roma ha già addivinato il faust salendo al cielo sulla testa di mefistofole vinto rimarchiamo qui che l'inferno di dante non è che un purgatorio negativo spieghiamoci il suo purgatorio sembra essere formato nel suo inferno come in uno stampo è il coperchio il tappo dell'abisso e si comprende che il titano fiorentino scalando verso il paradiso vorrebbe gettare con un calcio il purgatorio dentro l'inferno il suo cielo si compone di una serie di cerchi cabalistici divisi da una croce come il pentacolo di ezechiele al centro di questa croce fiorisce una rosa e vediamo apparire per la prima volta esposto pubblicamente quasi categoricamente e spiegato il simbolo dei rosa croce diciamo per la prima volta perché guillaume de laurie morto nel 1260 cinque anni prima della nascita della ligheri non aveva terminato il suo romanzo della rosa che fu continuato da clopinel un mezzo secolo più tardi si scoprirà non senza stupore che il romanzo della rosa e la divina commedia sono le due forme opposte di una stessa opera l'iniziazione all'indipendenza dello spirito la satira di tutte le istituzioni contemporanee e la formula allegorica dei grandi segreti della società dei rosa croce queste importanti manifestazioni dell'occultismo coincidevano con l'epoca della caduta dei templari perché jean de men o clopinel contemporaneo alla vecchiaia di dante fioriva nei suoi più begli anni alla corte di filippo il bello il romanzo della rosa è l'epopea della vecchia francia è un libro profondo sotto una forma leggera è una rivelazione sapiente come quella di apuleio dei misteri dell'occultismo la rosa di flamel quella di jean de men e quella di dante sono nate nello stesso rosaio dante aveva troppo genio per essere un'eresiarca i grandi uomini imprimono all'intelligenza un movimento che si prova più tardi con delle azioni la cui iniziativa appartiene alle mediocrità torbolente dante non ha mai potuto essere eletto e non è mai stato certamente compreso dal lutero intanto l'opera dei ghibellini fecondata dal potente pensiero del poeta sollevò lentamente l'impero contro il papato perpetuandosi sotto diversi nomi di secolo in secolo e infine rese protestante la germania non è certo lutero che ha fatto la riforma ma la riforma si è impadronita di lutero e l'ha spinto in avanti questo monaco dalle spalle quadrate era ricco solo di testardaggine e audacia ma fu lo strumento che occorreva alle idee rivoluzionarie lutero era il danton della teologia anarchica superstizioso e temerario si credeva ossessionato dal diavolo il diavolo gli dettava argomenti contro la chiesa il diavolo lo faceva ragionare sragionare e soprattutto scrivere questo genio ispiratore di tutti caino non chiedeva allora che dell'inchiostro sicuro che questo inchiostro distillato dalla piuma di lutero si sarebbe trasformato in fiotti di sangue lutero lo sentiva e odiava il diavolo perché era ancora un maestro un giorno gli lanciò il calamaio sulla testa come se volesse abbeverarlo con questa violenta libagione lutero che getta il suo calamaio sulla testa del diavolo ricorda quel faceto regicida che firmando la morte di carlo primo imbrattò di inchiostro i suoi complici piuttosto turco che papista era il motto di lutero e in effetti il protestantesimo è in fondo come l'islamismo deismo puro organizzato in culto convenzionale e non ne differisce che per dei resti di cattolicesimo mal cancellati i protestanti sono dal punto di vista della negazione del dogma cattolico dei musulmani con qualche superstizione in più e un profeta in meno gli uomini rinunciano più volentieri a dio che al diavolo gli apostati di tutti i tempi l'hanno dimostrato i discepoli di lutero divisi presto dall'anarchia non avevano più tra loro che un legame di credenza comune credevano tutti a satana e questo spettro si ingrandiva via via che il loro spirito di rivolta li allontanava da dio arrivando a proporzioni terribili carlostad arcidiacono di vurterberg era un giorno sul pulpito e vide entrare nel tempio un uomo nero che si sedette davanti a lui e lo guardò per tutto il tempo del sermone con una terribile fissità si turbò discese dal pulpito interrogò i suoi assistenti nessuno aveva visto quel fantasma carlostad tornò a casa sua tutto spaventato il più giovane dei suoi figli gli andò incontro e gli raccontò che uno sconosciuto vestito di nero era venuto a cercare di lui e aveva promesso di ritornare entro tre giorni per l'allucinato non ci furono dubbi il visitatore non era altri che lo spettro della visione il terrore gli dette la febbre si mise a letto e morì prima del terzo giorno questi infelici settari avevano paura della loro ombra la loro coscienza era rimasta cattolica e li condannava impietosamente lutero una sera passeggiava con la moglie catrin debora guardò il cielo pieno di stelle e disse a mezza voce con un profondo sospiro bel cielo che non vedrò mai e che disse la moglie pensate dunque di essere riprovato chissà disse lutero se dio non ci punirà per essere stati infedeli ai nostri voti forse se allora catrin vedendolo dubitare anche di se stesso l'avesse abbandonato maledicendolo il riformatore colpito da questo avvertimento divino avrebbe riconosciuto quanto fosse stato criminale tradendo la chiesa la sua prima sposa e avrebbe voltato gli occhi in lacrime verso il chiostro che lui stesso aveva abbandonato ma dio che resisti ai superbi non lo trovò senza dubbio degno di questo salutare dolore la commedia sacrilega del matrimonio di lutero era stata il castigo provvidenziale del suo orgoglio e poiché perseverò nel suo peccato il suo castigo non lo lasciò e lo ridicolizzò fino alla fine morì tra il diavolo e sua moglie spaventato dall'uno e imbarazzato dall'altra la corruzione la superstizione si trovano bene insieme l'epoca del rinascimento corrotto persecutore e credulo non fu certo la rinascita della ragione caterina dei medici era strega carlo nono consultava i negromanti enrico terzo si divideva fra devozione e dissolutezza era allora un buon tempo per gli astrologi anche se ogni tanto se ne torturava qualcuno per forzarlo a cambiare le sue predizioni gli stregoni di corte a quell'epoca si dedicavano sempre un po agli avvelenamenti e meritavano anche la corda trescale il mago di carlo nono era prestigiatore briccone si confessò un giorno al re e non erano dei peccatucci sui misfatti il re gli fece grazia minacciandolo di impiccagione in caso di ricaduta trescale ricante e fu impiccato quando la lega ebbe giurato la morte del debole miserabile enrico terzo ricorse alle fatture della magia nera l'etuale assicura che l'immagine in cera del re fu posta sugli altari su cui i preti della lega dicevano la messa e veniva forata con una lama mentre si pronunciavano preghiere di maledizioni e anatemi poiché il re non morì presto si concluse che fosse stregone girarono dei libelli in cui enrico terzo era rappresentato come presidente di riunioni in cui i crimini di sodoma e gomorra non erano che il preludio di attentati più inauditi e spaventosi il re si diceva aveva tra i suoi favoriti un personaggio sconosciuto che era il diavolo in persona venivano rapite giovani vergini che questo principe prostituiva violentemente a belzebù il popolo credeva a queste fole e si trovò infine un fanatico per eseguire le minacce delle fatture jacques clement aveva delle visioni e intese delle voci imperiose che gli ordinavano di uccidere il re questo allucinato corse al regicidio come un martire e morì ridendo come gli eroi della mitologia scandinava dei cronisti scandalosi hanno preteso che una gran dama di corte avesse unito alle aspirazioni alla solitudine del monaco il magnetismo delle sue carezze questo aneddoto manca di verossimiglianza la castità del monaco eccitava la sua esaltazione e se avesse cominciato a vivere la vita fatale delle passioni una sete insaziabile di piacere si sarebbe impadronita di tutto il suo essere e non avrebbe più voluto morire mentre le guerre di religione insanguinavano il mondo le società segrete dell'illuminismo che non erano che delle scuole di teurgia e di alta magia presero consistenza in germania la più antica di queste società sembra essere stata quella dei rosa croce i cui simboli risalgono ai tempi dei guelfi e dei ghibellini come vediamo dalle allegorie del poema di dante e dalle figure del romanzo della rosa la rosa che è stata in tutti i tempi il simbolo della bellezza della vita dell'amore e del piacere esprimeva misticamente il pensiero segreto di tutte le proteste manifestate nel rinascimento era la carne che si rivoltava contro l'oppressione dello spirito era la natura che si dichiarava figlia di dio come la grazia era l'amore che non voleva essere soffocato dal celibato era la vita che non voleva più essere sterile era l'umanità che aspirava a una religione naturale tutta di ragione e di amore fondata sulla rivelazione delle armonie dell'essere di cui la rosa era per gli iniziati il simbolo vivente e fiorito la rosa in effetti è un pentacolo è di forma circolare i petali della corolla sono tagliati a cuore e si appoggiano armoniosamente gli uni sugli altri il suo colore presenta le sfumature più dolci dei colori primitivi il suo calice è di porpora e d'oro abbiamo visto che flamel o piuttosto il libro di abramo l'ebreo ne faceva il segno geroglifico della realizzazione della grande opera tale è la chiave del romanzo di clopinel e di guillaume de laurie la conquista della rosa era il problema posto dall'iniziazione alla scienza mentre la religione lavorava a preparare a stabilire il trionfo universale esclusivo e definitivo della croce riunire la rosa alla croce tale era il problema posto dall'alta iniziazione e in effetti la filosofia occulta essendo la sintesi universale doveva tener conto di tutti i fenomeni dell'essere la religione considerata unicamente come un fatto fisiologico è la rivelazione la soddisfazione di un bisogno delle anime la sua esistenza è un fatto scientifico negarla sarebbe negare l'umanità stessa nessuno l'ha inventata si è formata come la legge come le civiltà per le necessità della vita morale e considerata solamente da questo punto di vista filosofico e ristretto la religione deve essere considerata come fatale se la si spiega tutta in base alla fatalità e come divina se si ammette un'intelligenza suprema alla fonte delle leggi naturali ne segue che il carattere di tutte le religioni propriamente dette è quello di manifestare direttamente la divinità per mezzo di una rivelazione soprannaturale poiché nessun altro modo di trasmissione darebbe al dogma una sanzione sufficiente occorre concludere che la vera religione naturale è la religione rivelata vale a dire che è naturale adottare una religione che sia creduta rivelata tutte le vere religioni esigono dei sacrifici e l'uomo non ha mai né il potere né il diritto di imporla ai suoi simili al di fuori e soprattutto al di sopra delle condizioni ordinarie dell'umanità è partendo da questo principio rigorosamente razionale che i rosa croce arrivarono al rispetto della religione dominante gerarchica e rivelata di conseguenza non potevano più essere i nemici del papato e della monarchia legittima e se cospiravano contro i papi e contro i re era perché li consideravano personalmente come degli apostati del dovere e dei fautori supremi dell'anarchia che cos'è in effetti un despota sia spirituale che temporale se non un anarchico incoronato è per questa considerazione che si può spiegare il protestantesimo e lo stesso radicalismo di certi grandi adepti più cattolici di certi papi e più monarchici di certi re di qualche adepto eccentrico come ad esempio henry kunrath e i veri illuminati della sua scuola henry kunrath è un personaggio poco conosciuto da coloro che non hanno fatto delle scienze occulte uno studio particolare è tuttavia un maestro e un maestro di prim'ordine è un principe sovrano della rosa croce degno sotto tutti i rapporti di quel titolo scientifico e mistico i suoi pentacoli sono splendidi come la luce del sohar sapienti come tritemio esatti come pitagora rivelatori della grande opera come il libro d'abramo e di nicola flamel henry kunrath era chimico e medico era nato nel 1502 e aveva 42 anni quando giunse all'alta iniziazione teosofica la più notevole delle sue opere il suo anfiteatro della saggezza eterna fu pubblicata nel 1598 perché l'approvazione dell'imperatore rodolfo che vi si trova annessa è datata primo giugno dello stesso anno l'autore pur facendo professione di un protestantesimo radicale vi rivendica altamente il nome di cattolico e d'ortodosso dichiara di avere in suo possesso ma custodita segretamente come occorre una chiave dell'apocalisse chiave tripla e unica come la scienza universale la divisione del libro è settenaria e vi si divide in sette gradi l'iniziazione all'alta filosofia il testo è un commentario mistico degli oracoli di salomone l'opera termina con delle tavole sinottiche che sono la sintesi dell'alta magia e della cabala occulta in tutto quello che può essere scritto e reso pubblico verbalmente il resto cioè la parte esoterica e non dicibile della scienza è espresso con dei magnifici pentacoli disegnati e incisi con cura questi pentacoli sono nove il primo contiene il dogma di ermete il secondo la realizzazione magica il terzo rappresenta il cammino della saggezza e il lavoro preparatorio dell'opera il quarto rappresenta la porta del santuario illuminato da sette raggi mistici il quinto è una rosa di luce al centro della quale una forma umana stende le braccia in forma di croce il sesto rappresenta il laboratorio magico di kunrat con il suo oratorio cabalistico per dimostrare la necessità di unire la preghiera al lavoro il settimo è la sintesi assoluta della scienza l'ottavo esprime l'equilibrio universale il nono riassume la dottrina particolare di kunrat con un'energica protesta contro tutti i suoi detrattori è un pentacolo ermetico inquadrato in una caricatura tedesca piena di verve e di collere ingenua i nemici del filosofo sono travestiti da insetti da papere imbrigliate da buoi e asini il tutto ornato da leggende latine da grossi epigrammi in tedesco kunrat vi è rappresentato a destra e a sinistra in abito civile in costume dal laboratorio che fronteggia i suoi avversari sia all'interno che all'esterno in abito civile è armato di una spada e cammina sulla coda di uno scorpione in costume dal laboratorio è munito di pinzette e cammina sulla testa di un serpente all'esterno dimostra e a casa insegna come i suoi gesti fanno comprendere sempre la stessa verità senza temere il soffio impuro dei suoi avversari soffio così pestilenziale che gli uccelli del cielo cadono morti ai loro piedi questa tavola curiosissima manca in un gran numero di esemplari dell'anfiteatro di kunrat questo libro straordinario contiene tutti i misteri della più alta iniziazione è come l'autore annuncia nello stesso titolo cristiano cabalistico divino magico fisico chimico triplo unico e universale è un vero manuale di alta magia e di filosofia ermetica e non si saprebbe trovare altrove se non nel sefer gesirà e nel sohar una iniziazione più completa e più perfetta nei quattro importanti corollari che seguono la spiegazione della terza figura kunrat stabilisce uno che la spesa necessaria per la grande opera a parte il mantenimento e le spese personali dell'operatore non deve cedere la somma di 30 talleri ne parlo scientemente aggiunge l'autore avendolo appreso da qualcuno che lo sapeva quelli che spendono di più si sbagliano e buttano via i loro soldi le parole avendolo appreso da qualcuno che lo sapeva provano che kunrat non ha fatto lui stesso la pietra filosofale o non vuol dire di averla fatta e questo per timore di persecuzione 2 kunrat stabilisce poi l'obbligo per l'adepto di non consacrare a usi personali che la decima parte della sua ricchezza e consacrare tutto il resto alla gloria di dio e alle opere di carità 3 in terzo luogo afferma che i misteri del cristianesimo e quelli della natura si spiegano e si illustrano reciprocamente il regno del futuro messia il messianismo si stabilisce sulla doppia base della scienza e della fede di modo che il libro della natura conferma gli oracoli del vangelo e potrà convincere con la scienza e la ragione della verità del cristianesimo gli ebrei e i maoittani così bene che col concorso della grazia divina saranno infallibilmente convertiti alla religione dell'unità 4 termine infine con questa frase sigillum nature et artis simplicitas il sigillo della natura e dell'arte è la semplicità al tempo di kunrat viveva un altro medico iniziato filosofo ermetico e continuatore della medicina di paracelso era oswald crolius osvaldo croglio autore del libro delle segnature o della vera e vivente anatomia del grande del piccolo mondo in quest'opera la cui prefazione è un riassunto molto ben fatto della filosofia ermetica crolius cerca di stabilire che dio e la natura hanno in qualche modo segnato tutte le loro opere e che tutti i prodotti di una qualsiasi forza della natura portano per così dire lo stampo di questa forza impresso in caratteri indelebili di modo che l'iniziato alle scritture occulte può leggere al libro aperto le simpatie e le antipatie delle cose le proprietà delle sostanze e tutti gli altri segreti della creazione i caratteri delle differenti scritture saranno primitivamente improntati a quelle segnature naturali che esistono nelle stelle e nei fiori sulle montagne e sul più umile sassolino le figure dei cristalli le fratture dei minerali sarebbero delle impronte del pensiero che il creatore aveva formandoli questa idea è piena di poesia e di grandezza ma manca una grammatica a questa lingua misteriosa dei mondi manca un vocabolario ragionato a questo verbo primitivo e assoluto il re salomone solo sembra aver realizzato questo doppio lavoro ora i libri occulti di salomone sono perduti croglio non si riproponeva di ricostruirli ma di ritrovare i principi fondamentali di questa lingua universale del verbo creatore da questi principi si deduce che i geroglifici primitivi formati dagli stessi elementi della geometria corrisponderebbero alle leggi costitutive e essenziali delle forme determinate dai movimenti alternati o combinati che decidono le attrazioni equilibranti si riconosceranno dunque dalla loro sola figura esteriore i semplici e i composti e per analogia delle figure con i numeri si potrà fare una classificazione matematica di tutte le sostanze rivelate dalle linee delle loro superfici c'è in fondo a queste aspirazioni che sono delle riminiscenze della scienza edenica tutto un mondo di scoperte future per le scienze paracelso le aveva presentite croglio le indica un altro verrà per realizzarle e dimostrarle la follia di ieri sarà il genio del domani e il progresso saluterà questi sublimi ricercatori che avranno indovinato questo mondo perduto e ritrovato questa atlantide del sapere umano l'inizio del diciassettesimo secolo fu la grande epoca dell'alchimia allora apparvero philippe muller jean thornburg michel mayer ortelius poterius samuel norton il barone di bossoleil david planiscampe jean du chesne robert flud benjamin mustafa il presidente d'espagné il cosmopolita che si doveva nominare per primo nuisemen che ha tradotto e pubblicato i notevoli scritti del cosmopolita jean baptiste van elmon irene philalette rodolphe globert il sublime calzolaio giacom bohem i principali di questi iniziati si dedicavano alle ricerche dell'alta magia e ne nascondevano con cura il nome vietato sotto le apparenze delle ricerche ermetiche il mercurio dei saggi che volevano trovare donare ai loro discepoli era la sintesi scientifica e religiosa era la pace che risiede nella sovrana unità i mistici non erano allora che i credenti ciechi dei veri illuminati e l'illuminismo propriamente detto non era che la scienza universale della luce nel 1623 in primavera si trovò affisso nelle strade di parigi questo strano proclama noi deputati dei fratelli rosa croce facciamo soggiorno visibile e invisibile in questa città per la grazia dell'altissimo verso cui si volgono i cuori dei saggi noi insegniamo senza alcun tipo di mezzo esteriore a parlare la lingua dei paesi che abitiamo e togliamo gli uomini simili a noi al terrore e alla morte se a qualcuno prendesse la voglia di vederci per sola curiosità non comunichi mai con noi ma se la sua volontà lo portasse realmente e di fatto a iscriversi sul registro della nostra confraternita noi che giudichiamo dei pensieri gli faremo vedere la verità delle nostre promesse al punto che non indichiamo il luogo della nostra dimora poiché il pensiero unito alla volontà reale del lettore sarà capace di far conoscere noi a lui e lui a noi l'opinione pubblica si preoccupò allora di questa manifestazione misteriosa e se qualcuno allora chiedeva ad alta voce chi fossero questi fratelli rosa croce spesso un personaggio sconosciuto prendeva da parte il richiedente e gli diceva gravemente predestinati alla riforma che deve compiersi presto in tutto l'universo i rosa croce sono i depositari della suprema saggezza e pacifici possessori di tutti i doni della natura che possono dispensare al loro piacimento in qualsiasi luogo siano conoscono meglio di tutti le cose che avvengono nel resto del mondo come se fossero presenti non sono soggetti né alla fame né alla sete e non temono né la vecchiaia né le malattie possono comandare agli spiriti e i geni più potenti dio li ha coperti di una nuve per difenderli dei loro nemici e non si può vederli che quando vogliono anche per occhi più penetranti di quelli dell'aquila tengono le loro assemblee generali nelle piramidi di egitto ma queste piramidi sono per loro come la roccia da cui zampilla la fonte di mosè marciano con loro nel deserto e li seguiranno fino al loro ingresso nella terra promessa capitolo 6 processi di magia l'autore che ha scritto la descrizione della tavola allegorica dice vete finisce la sua opera con questa ammirevole conclusione non c'è che un vero bene da desiderare è la saggezza e non c'è che un male da temere è la follia il male morale in effetti la malvagità il crimine non è altro che una vera follia e il padre e lario antisso a tutte le simpatie del nostro cuore quando ripete senza posa nei suoi opuscoli follemente coraggiosi che invece che punire i criminali occorrerebbe curarli e guarirli diciamo le simpatie del nostro cuore perché la nostra ragione protesta contro questa troppo caritatevole interpretazione del crimine di cui le conseguenze sarebbero distruggere la sanzione della morale disarmando la legge noi paragoniamo la follia all'ubriachezza e considerando che l'ubriachezza è forse sempre volontaria applaudiamo la saggezza dei giudici che non considerando una scusa la perdita spontanea della ragione puniscono senza pietà i delitti e i crimini commessi durante l'ubriachezza un giorno verrà forse in cui l'ubriachezza sarà contata fra le circostanze aggravanti e in cui ogni essere intelligente che si metterà volontariamente fuori della ragione si troverà fuori della legge la legge non è forse la ragione dell'umanità disgrazia all'uomo che si ubriaca sia divino sia di orgoglio sia di odio sia dello stesso amore è cieco è ingiusto è in balia della fatalità è un flagello che cammina è una calamità vivente può uccidere può violare è un folle senza catene alla larga la società ha diritto di difendersi più che un suo diritto è un suo dovere perché ella ha dei figli queste riflessioni ci giungono a proposito dei processi di magia di cui dobbiamo render conto la chiesa e la società sono state accusate troppe volte di assassini o giudiziari o sui pazzi ammettiamo che gli stregoni fossero senza dubbio dei folli ma erano dei folli per la loro perversione se fra essi qualche innocente malato e perito queste sono disgrazie di cui la chiesa e la società non possono essere responsabili tutti gli uomini condannati secondo le leggi del loro paese e le forme giudiziarie del loro tempo sono condannati giustamente la loro possibile innocenza non appartiene che a dio davanti agli uomini sono e devono restare colpevoli ludwig tiek in un notevole romanzo intitolato il sabba degli stregoni mette in scena una santa donna una povera vecchia spossata dalle macerazioni la testa indebolita dai digiuni e dalle preghiere che piena d'orrore per gli stregoni e disposta per eccesso di umiltà ad accusarsi di tutti i crimini finisce per credersi in effetti una strega si accusa e viene condannata per errore e per prevenzione e viene bruciata viva questa storia fosse anche vera che proverebbe niente di più niente di meno ma se l'errore giudiziario è possibile nei fatti non lo sarebbe nel diritto altrimenti che ne sarebbe della giustizia umana socrate condannato a morte avrebbe potuto fuggire e i suoi giudici stessi gliene avrebbero dato il mezzo ma egli rispettò la legge e volle morire è alle leggi e non ai tribunali del medioevo che occorre attribuire il rigore di certe sentenze ma gil de laval di cui abbiamo raccontato i crimini e il supplizio fu condannato ingiustamente e doveva essere assolto perché era pazzo erano innocenti quelli orribili pazzi che componevano dei filtri con il midollo dei bambini piccoli la magia nera d'altronde era la follia generale di quella disgraziata epoca i giudici a forza di studiare le questioni della stregoneria finivano a volte per credersi essi stessi stregoni la stregoneria in varie località diveniva epidemica e i supplizi sembravano moltiplicare i colpevoli si possono leggere nei demonografi come dell'ancre del rio sprenger boden torre blanca ed altri i racconti di un gran numero di processi di cui i dettagli sono rivoltanti quanto fastidiosi i condannati sono per la maggior parte degli allucinati e degli idioti ma degli idioti cattivi e degli allucinati pericolosi le passioni erotiche la cupidigia e l'odio sono le cause principali dello smarrimento della loro ragione erano capaci di tutto sprenger dice che gli stregoni si intendevano con le levatrici per comprare loro dei cadaveri di bambini appena nati le levatrici uccidevano questi innocenti al momento stesso della loro nascita infiggendovi dei lunghi aghi nel cervello e dichiarando che il bambino era nato morto lo seppellivano la notte seguente gli stregoni o le streghe grattavano la terra e recuperavano il cadavere lo facevano bollire in un pentolone con delle erbe narcotiche velenose poi distillavano alambiccavano e mescolavano questa gelatina umana il liquido serviva da elisir di lunga vita il solido veniva bruciato e incorporato al grasso di gatto nero e ad altro e serviva per frizioni magiche si rivolta lo stomaco alla lettura di queste rivelazioni abominevoli e l'indignazione fa tacere la pietà ma quando si arriva ai processi quando si vede la credulità e la crudeltà dei giudici le false promesse di grazia che impiegavano per ottenere le confessioni le torture atroci le visite oscene le precauzioni vergognose ridicole e poi dopo tutto questo il supplizio in piazza l'assistenza derisoria del clero che consegna il braccio secolare chiedendo grazia per coloro che vota si pensa che gli uomini siano tutti ugualmente degli idioti o degli scellerati così nel 1598 un prete limosino pierre opetit viene bruciato vivo per delle confessioni ridicole che gli erano state strappate con la tortura a doll nel 1599 si brucia una donna di nome antide collas perché la sua conformazione sessuale aveva qualcosa di fenomenale che non si credeva di poter spiegare che per un commercio infame con satana l'infelice messa e rimessa la tortura spogliata sondata visitata in presenza di medici e di giudici schiacciata dall'onta e dai dolori confessò tutto per finirla henry boguet giudice di saint claude racconta lui stesso che fece torturare una donna come strega perché mancava qualcosa alla croce del suo rosario segno certo di stregoneria al dire di questo feroce imbecille un bambino di 12 anni addestrato dagli inquisitori accusa suo padre di averlo portato a un sabba il padre muore in prigione in seguito alle torture e ci si propone di far bruciare il figlio boguet vi si oppose e si fece un merito di questa clemenza una donna di 35 anni rolande vernois viene dimenticata in una prigione così glaciale che promette di confessarsi colpevole di magia se la lasciano avvicinarsi al fuoco non appena sente il calore le viene la febbre e il delirio in questo stato viene messa alla tortura e dice tutto quello che le si vuole far dire viene trascinata morente al patibolo la pioggia spegne il fuoco boguet si felicita allora della sentenza che ha emesso poiché evidentemente questa donna che il cielo sembrava difendere doveva essere protetta dal diavolo lo stesso boguet fece bruciare anche due uomini pier godillon e il grosso pier per aver corso la notte uno in forma di lepre l'altro in forma di lupo ma il processo che fece maggior rumore all'inizio del diciassettesimo secolo fu quello di messer luis gofridi curato della parrocchia degli accol a marsiglia lo scandalo di questo affare diede un esempio funesto che fu seguito ben presto un prete accusato da altri preti un curato trascinato davanti al tribunale dai suoi confratelli costantino aveva detto che se avesse visto un prete disonorare la sua dignità per un peccato vergognoso lo avrebbe coperto con la sua porpora parole belle e regali il sacerdozio in effetti doveva essere impeccabile come la giustizia infallibile davanti alla morale pubblica nel dicembre 1610 una fanciulla di marsiglia di nome magdalen de la palud era andata in pellegrinaggio alla sembo in provenza e fu presa da estasi e convulsioni un'altra devota di nome louise capo fu presto presa dallo stesso male dei domenicani e dei cappuccini credettero alla presenza del demonio e fecero degli esorcismi magdalen de la palud e la sua compagna diedero allora quello spettacolo che si rinnovellò così spesso un secolo dopo durante l'epidemia delle convulsioni gridavano si torcevano e chiedevano di essere battute e calpestate un giorno sei uomini calpestarono il petto di magdalen che non sentì alcun dolore in questo stato ella si accusava delle più strane sregolatezze diceva di essere stata fidanzata al demonio da un prete di nome gaufridi invece di rinchiudere questa pazza la ascoltarono e inviarono a marsiglia tre cappuccini per informare segretamente i superiori ecclesiastici di quello che accadeva alla sembo e portare se era possibile senza violenza e senza scandalo il curato gaufridi per confrontarlo con i pretesi demoni intanto si cominciavano a scrivere le ispirazioni infernali delle due isteriche erano dei discorsi di una devozione ignorante e fanatica che presentavano la religione tal quale la comprendevano gli stessi esorcisti le possedute sembravano raccontare i sogni di coloro che le interrogavano era esattamente il fenomeno dei tavoli parlanti e dei medium dei nostri tempi i diavoli si davano dei nomi incongrui come quelli degli spiriti americani declamavano contro la stampa e contro i libri facevano dei sermoni degni dei cappuccini più ferventi e più ignari in presenza di questi demoni fatti a loro immagine e somiglianza i padri non dubitarono più della verità della possessione e della veracità degli spiriti infernali i fantasmi della loro immaginazione malata prendevano corpo e apparivano loro vivi nel corpo di queste due donne le cui confessioni oscene sovrecitavano la loro curiosità e la loro indignazione piene di segrete voglie divennero furiosi e occorse loro una vittima giunse là a loro disposizione quando fu portato loro il disgraziato Luis Goffridi Goffridi era un prete molto mondano di una figura gradevole, di un carattere debole e di una moralità più che sospetta era stato il confessore di Magdalene della Palud che gli aveva ispirato un'implacabile passione questa passione, mutata in odio dalla gelosia era divenuta una fatalità e trascinò il disgraziato prete nel suo vortice di follia che lo condusse al carnefice tutto quello che poteva dire l'accusato per difendersi li fu ritorto contro attestava Dio e Gesù Cristo e la sua Santa Madre e il suo precursore Giovanni Battista e gli si rispondeva recitate a meraviglia le litanie del sabba con Dio voi intendete Lucifero con Gesù Cristo Belzebù con la Santa Vergine e la Madre Apostata dell'Anticristo con San Giovanni Battista e il falso profeta precursore di Gog e Magog poi fu messo alla tortura e gli si promise la grazia se avesse voluto firmare le dichiarazioni di Magdalene della Palud il povero prete, sperduto, circuito, battuto, firmò tutto quello che vollero abbastanza per poter essere bruciato ed era quello che si chiedeva i cappuccini di Provenza diedero infine al popolo questo spettacolo spaventoso gli insegnarono così come si violano i privilegi del santuario gli mostrarono come si uccidono i preti e il popolo se ne ricordò in seguito «O Santo Tempio!» diceva un rabbino testimone dei prodigi che precedettero la distruzione di Gerusalemme «O Santo Tempio! Che hai tu dunque? E perché fai paura a te stesso?» Né la Santa Sede né i Vescovi protestarono contro l'assassinio di Gaufridi ma il XVIII secolo stava per arrivare, trascinando con sé la rivoluzione una delle possedute, che aveva ucciso il curato di Accul dichiarò un giorno che il demone l'aveva lasciata per andare a preparare la perdita di un altro prete di cui disse il nome profeticamente senza conoscerlo fece il nome di Urbain Grandier allora regnava il terribile cardinale di Richelieu che considerava l'autorità assoluta come la salvezza degli stati disgraziatamente le tendenze del cardinale erano più politiche e abili che veracemente cristiane questo grande spirito aveva per limite una certa ristrettezza di cuore che lo rendeva sensibile all'offesa personale e implacabile nelle sue vendette quello che perdonava meno al talento era l'indipendenza voleva avere per aiutanti gente di spirito piuttosto che adulatori e provava un certo piacere nel distruggere tutto quello che voleva brillare senza di lui la sua testa aspirava a dominare tutto padre Giuseppe era il suo braccio destro e Lobardemont il sinistro c'era allora in provincia a Ludin un ecclesiastico di un genio notevole di un grande carattere aveva scienza e talento ma poca cautela fatto per piacere alle folle e per attirare le simpatie dei grandi poteva l'occasione divenire un pericoloso settario il protestantesimo allora si muoveva in Francia e il curato di Saint-Pierre di Ludin troppo propenso alle nuove idee per la sua poca attrazione al celibato ecclesiastico poteva divenire alla testa di quel partito un predicatore più brillante di Calvino e altrettanto audace di Lutero si chiamava Urbain Grandier già delle dispute col suo vescovo avevano segnalato la sua abilità e il suo carattere inflessibile abilità disgraziata e maldestra d'altronde poiché si era appellato contro i suoi potenti nemici al re e non al cardinale il re gli aveva dato ragione il cardinale doveva dargli torto Grandier era tornato trionfante a Ludin e si era permesso la fanfaronata poco clericale di rientrare con un ramo d'alloro in mano a partire da quel giorno fu perduto le religiose orsoline di Ludin avevano allora per superiore sotto il nome di madre Giovanna degli Angeli una certa Jean de Belfiel figlia minore del barone di Coz questa religiosa non era molto fervida e il suo convento non passava per uno dei più regolari del paese vi accadevano scene notturne che venivano attribuite a degli spiriti le famiglie ritirarono le pensionanti e la casa fu presto senza risorse Grandier aveva qualche intrigo e non lo nascondeva abbastanza era d'altronde un personaggio troppo in vista perché l'ozio di una cittadina non facesse un gran rumore delle sue debolezze le pensionanti delle orsoline ne intendevano parlare con mistero dei loro parenti le religiose ne parlavano fra loro per deplorare lo scandalo e restavano preoccupate dal personaggio scandaloso che però sognavano lo vedevano di notte apparire nei loro dormitori con degli atteggiamenti ben conformi a quello che si diceva dei suoi costumi gridavano, si credevano ossesse ed ecco il diavolo nella casa i direttori di queste ragazze e mortali nemici di Grandier videro tutti i vantaggi che potevano trarre da questo affare nell'interesse del loro rancore e del convento si fecero in segreto degli esorcismi poi li si fecero in pubblico gli amici di Grandier sentivano che si tramava qualcosa e spinsero il curato di Saint-Pierre a permutare i suoi benefici e a lasciare Ludin tutto si sarebbe calmato quando si fosse visto partire ma Grandier era un uomo coraggioso e non voleva cedere alla calunnia restò e fu arrestato un mattino quando entrava nella sua chiesa vestito dei suoi abiti sacerdotali appena arrestato Grandier fu trattato da criminale di stato le sue carte furono sequestrate, i sigilli apposti ai suoi mobili e lui stesso fu condotto ben scortato alla fortezza di Angers nel frattempo gli si preparava a Ludin una prigione che sembrava fatta più per una bestia feroce che per un uomo Richelieu, istruito di tutto, aveva inviato l'obardemont per farla finita con Grandier e aveva fatto proibire al Parlamento di occuparsi della cosa se la condotta del curato di Saint-Pierre era stata quella di un mondano la condotta di Grandier, prigioniero e accusato di magia fu quella di un eroe e di un martire l'avversità rivela così le grandi anime ed è molto più facile sopportare la sofferenza che la prosperità scriveva a sua madre sopporto la mia afflizione con pazienza e piango più la vostra che la mia io sono molto scomodo non avendo neanche un letto cercate di farmi portare il mio perché se il corpo non riposa lo spirito soccombe infine inviatemi un breviario, una Bibbia e un Sant'Ommaso per la mia consolazione per il resto non vi affliggete, io spero che Dio metterà in mostra la mia innocenza Dio in effetti prende prima o poi le parti dell'innocenza oppressa ma non la libera mai dai suoi nemici sulla terra o non la libera che con la morte Grandier lo doveva provare presto non facciamo d'altronde gli uomini più malvagi di quello che non siano i nemici di Grandier non credevano alla sua innocenza lo perseguitavano con rabbia ma era un grande colpevole quello che credevano di perseguitare i fenomeni sterici erano allora poco conosciuti e il sonnambulismo interamente ignorato le contorsioni delle religiose, i loro movimenti fuori del normale le prove che davano di una seconda vista tutto questo era della natura da poter convincere i meno creduli un ateo celebre di quei tempi il signore di Cariolet consigliere al Parlamento di Bretagna venne a vedere gli esorcismi per prendersene gioco le religiose che non l'avevano mai visto l'apostrofarono col suo nome e rivelarono ad alta voce dei peccati che il consigliere credeva di aver nascosto a tutti la sua coscienza fu sconvolta e passò da un estremo all'altro come fanno tutte le nature impetuose pianse, si confessò e visse per il resto dei suoi giorni nell'ascetismo più rigoroso il sofisma degli esorcisti di Ludin era questo assurdo paralogismo che il signore di Mirville osa sostenere ancora i giorni nostri il diavolo è l'autore di tutti i fenomeni che non si spiegano con le leggi note della natura a questo sofisma antilogico ne aggiungevano un altro di cui facevano in qualche modo un articolo di fede il diavolo debitamente esorcizzato è costretto a dire la verità e può essere ammesso a testimoniare in tribunale il disgraziato Grandier non era dunque abbandonato a degli scelerati era con dei pazzi furiosi che aveva a che fare questi, forti della loro coscienza diedero a questo incredibile processo la più grande pubblicità mai uno scandalo simile aveva afflitto la chiesa religiose e urlanti si torcevano si abbandonavano ai gesti più osceni vestemmiavano cercavano di gettarsi su Grandier come le baccanti su Orfeo le cose più sacre della religione mescolate a questo spettacolo orribile trascinate in questo fango Grandier solo, calmo alzava le spalle e si difendeva con dignità e dolcezza dei giudici pallidi, smarriti che sudavano profusamente lo bardemò, in abito rosso, che planava su questo confitto come un avvoltoio che attende un cadavere tale fu il processo di Urbain Grandier diciamolo ad alta voce per l'onore dell'umanità un complotto simile a quello che supporrebbe l'assassinio giuridico di quest'uomo se non si ammette la buona fede degli esorcisti e dei giudici è fortunatamente impossibile i mostri sono rari come gli eroi la folla si compone di mediocrità che sono incapaci di grandi crimini come di virtù i più santi personaggi di quei tempi hanno creduto alla possessione di Ludin San Vincenzo dei Paoli non fu estraneo a questa storia e fu chiamato per dare il suo parere Richelieu in persona che avrebbe trovato comunque il modo di sbarazzarsi di Grandier finì col crederlo colpevole la sua morte fu il crimine dell'ignoranza e dei pregiudizi dei suoi tempi e questa fu una catastrofe molto più che un assassino noi non affliggeremo i nostri lettori con il dettaglio delle sue torture rimase fermo, rassegnato, senza collera e non confessò niente non affettò neanche di disprezzare i giudici pregò con dolcezza gli esorcisti di risparmiarlo e voi, miei padri, disse loro moderate il rigore dei miei tormenti e non riducete la mia anima alla disperazione si sente, attraverso questo singhiozzo della natura che si lamenta tutta la mansuetudine del cristiano che perdona gli esorcisti, per nascondere il loro intenerimento gli rispondevano con delle ivettive e gli esecutori piangevano tre delle religiose in uno dei loro momenti lucidi vennero a prosternarsi davanti al tribunale gridando che Grandier era innocente si credete che fosse il diavolo a parlare per la loro bocca e questa confessione non fece che affrettare il supplizio Urbain Grandier fu bruciato vivo il 18 agosto 1634 fu paziente e rassegnato fino alla fine quando discese dalla carretta, poiché aveva le gambe ferite cade rudemente col viso a terra senza emettere un solo grido o un solo gemito un francescano di nome padre Grillo fendette allora la folla e volle sollevare quel poveretto che lo abbracciò piangendo io vi porto, disse, la benedizione di vostra madre lei e Dio preghiamo Dio per voi grazie padre, rispose Grandier voi solo qui avete pietà di me consolate la mia povera madre e fatele da figlio l'aiutante del prevosto, tutto commosso, gli disse allora signore, perdonatemi perché sono costretto a prender parte al vostro supplizio voi non mi avete offeso, rispose Grandier voi siete obbligato ad assolvere i doveri della vostra carica gli avevano promesso di strangolarlo prima di bruciarlo ma quando il boia volle tirare la corda la trovò annodata e l'infelice curato di Saint-Pierre cadde tutto vivo nel fuoco i principali esorcisti il padre tranquillo e il padre lattanzio morirono subito dopo durante il trasporto di un attacco di pazzia furiosa il padre che li rimpiazzò divenne folle Manuri, il chirurgo che aveva aiutato a torturare Grandier morì perseguitato dal fantasma della vittima Lobardemont perse suo figlio in un modo tragico e cadde lui stesso nella disgrazia del suo maestro le religiose restarono idiote in realtà erano colpite da una malattia terribile e contagiosa la malattia mentale del falso zelo e della falsa devozione la provvidenza punisce gli uomini per le loro colpe e li istruisce per le tristi conseguenze dei loro errori dieci anni appena dopo la morte di Grandier gli scandali di Loudun si rinnovarono in Normandia delle religiose di Louvier accusarono due preti di averle stregate uno di questi preti era morto si violò la tomba per strapparne il cadavere i fenomeni della possessione furono gli stessi che a Loudun e alla Saint-Bombe queste donne isteriche traducevano in linguaggio volgare gli incubi dei loro direttori i due preti, uno morto e l'altro vivo, furono condannati al drogo cosa orribile si attaccò lo stesso palo a un uomo e un cadavere il supplizio di Mezzenzio, finzione di un poeta pagano trovò dei cristiani per essere realizzato un popolo cristiano assistette freddamente a questa esecuzione sacrilega e i pastori non compresero che nel profanare così il sacerdozio e la morte davano all'impietà uno spaventoso segnale si chiudeva così il XVII secolo che venne a spegnere i roghi col sangue dei preti e come accade quasi sempre furono i buoni che pagarono per i cattivi era cominciato il XVIII secolo e si bruciavano ancora degli uomini la fede era già persa e si abbandonava per ipocrisia il giovane Labar ai più orribili supplizi per aver rifiutato di salutare la processione Voltaire era allora al mondo e si sentiva crescere nel cuore una vocazione simile a quella di Attila le passioni umane profanavano la religione e Dio inviava questo nuovo devastatore per riprendere la religione a un mondo che non era più degno Nel 1731 Madame Gella Catrin Cadier di Tolone accusò il suo confessore, il padre Girard, gesuita, di seduzione e di magia questa fanciulla era un'estatica stigmatizzata che per molto tempo era passata per santa ci fu tutta una storia immonda di toccamenti lascivi, di flagellazioni segrete quale luogo infame ha dei misteri simili a quelli di una immaginazione celibataria e sregolata da un pericoloso misticismo la Cadier non fu creduta sulla parola e padre Girard sfuggì al rischio di una condanna non di meno lo scandalo fu immenso e il rumore che fece ebbe come eco delle risate abbiamo detto che Voltaire allora era al mondo le persone superstiziose avevano fino ad allora spiegato i fenomeni straordinari con l'intervento del diavolo e degli spiriti la scuola di Voltaire, non meno assurda, negava contro ogni evidenza gli stessi fenomeni quello che non riusciamo a spiegare viene dal diavolo, dicevano gli uni quello che non riusciamo a spiegare non esiste, rispondevano gli altri la natura, riproducendo sempre in circostanze analoghe le stesse serie di fatti eccentrici e meravigliosi protestava contro l'ignoranza presuntuosa degli uni e la scienza limitata degli altri in tutti i tempi delle perturbazioni fisiche hanno accompagnato certe malattie nervose i folli, gli epilettici, i catalettici, gli isterici hanno delle facoltà eccezionali sono soggetti a delle allucinazioni contagiose e producono a volte sia nell'atmosfera sia negli oggetti che li attorniano dei movimenti e delle sregolatezze l'allucinato proietta i suoi sogni attorno a sé ed è tormentato dalla sua ombra il corpo si circonda di riflessi difformi per le sofferenze del cervello ci si vede allora in qualche modo nella luce astrale di cui le correnti eccessive, agendo come un magnete spostano e fanno girare i mobili si odono allora dei rumori e delle voci come nei sogni questi fenomeni, ripetuti tante volte ai nostri giorni al punto che sono divenuti comuni venivano attribuiti dai nostri padri ai fantasmi e ai demoni la filosofia di Voltaire trovò più comodo negarli trattando da imbecilli i testimoni oculari dei fatti più incontestabili cosa c'è di più verificato per esempio delle meraviglie delle convulsioni alla tomba del diacono paride e nelle riunioni degli estatici di Semmedar come spiegare quegli strani soccorsi che chiedono i convulsionari migliaia di colpi sulla testa, delle pressioni da schiacciare a un ippopotamo delle torsioni di mammelle con delle pinze di ferro la stessa crocifissione con dei chiodi ficati nei piedi e nelle mani poi delle contorsioni sovrumane e dei sollevamenti in aria i volteriani non hanno voluto vedere in questo che smorfie e sgambetti i jansenisti gridavano al miracolo e i cattolici gemevano ma la scienza che sola doveva intervenire per spiegare questa fantastica malattia la scienza si teneva da parte era a essa sola peraltro che appartenevano ora le orsoline di Ludin le religiose di Louvier, i convulsionari e i medium americani i fenomeni di magnetismo non si mettono sulla via delle nuove scoperte la sintesi chimica che si prepara non porterà d'altra parte noi fisici alla conoscenza della luce astrale e una volta conosciuta questa forza universale chi impedirà di determinare la forza, il numero e la direzione dei suoi magneti sarà tutta una rivoluzione nella scienza si sarà tornati all'alta magia dei caldei si è parlato molto del presbiterio di Sidville i signori di Mirville, Gougenot, Desmousseau e altri credenti hanno visto spassionatamente nelle cose strane che avvenivano una rivelazione contemporanea del diavolo ma le stesse cose arrivarono a Saint-Maur nel 1706 e tutta Parigi vi corse si udivano battere grandi colpi contro i muri i letti rotolavano senza che qualcuno li toccasse i mobili si spostavano tutto questo finiva con una crisi violenta accompagnata da un profondo svenimento durante il quale il padrone di casa, un giovane di 24-25 anni di una costituzione fragile e nervosa credeva di udire degli spiriti che gli parlavano lungamente senza poter mai ripetere dopo neanche una parola di quello che gli avevano detto ecco la storia di un'apparizione all'inizio del XVIII secolo l'ingenuità del racconto ne prova l'autenticità ci sono certi caratteri di verità che non possono essere imitati un buon prete della città di Valogna di nome Besuel fu invitato a cena il 7 gennaio 1708 da una signora parente dell'abate di Saint-Pierre con questo abate raccontò a loro, secondo il loro desiderio, l'apparizione di uno dei suoi camerati avvenuta in pieno giorno circa 12 anni prima nel 1695, disse loro Besuel, quando ero un giovane scolaro di circa 15 anni feci conoscenza con i due figli di Abaken, procuratore, scolare come me uno aveva la mia età, il cadetto aveva 18 mesi di meno, si chiamava Desfontaine facevamo delle passeggiate e tutti insieme ci divertivamo e sia che Desfontaine mi fosse più amico, sia che fosse più allegro più compiacente, più spirituale di suo fratello, io l'amavo di più nel 1696 passeggiavamo tutti e due nel chiostro dei Cappuccini e mi raccontò che aveva letto da poco una storia di due amici che si erano promessi che colui che fosse morto per primo sarebbe andato a dare nuove del suo stato al vivo che il morto ritornò e gli disse delle cose sorprendenti a questo Desfontaine mi disse che aveva un favore da domandarmi che mi chiese all'istante, era di fargli una promessa simile e che da parte sua lui me la faceva, io gli dissi che non volevo per vari mesi me ne parlò spesso e molto seriamente io resistevo però sempre infine verso il mese d'agosto 1696 poiché doveva partire per andare a studiare a Cain mi pressò tanto con le lacrime agli occhi che io acconsentii in quel momento egli estrasse due foglietti di carta che aveva scritto già prima uno firmato col suo sangue in cui mi prometteva in caso di morte di venire a darmi notizia del suo stato l'altro in cui gli promettevo la stessa cosa io mi punsi il dito ne uscì una goccia di sangue con la quale io firmai fu rapido a prendere il mio biglietto e abbracciandomi mi fece mille ringraziamenti qualche tempo dopo partì con suo fratello la nostra separazione ci causò molto dolore ci scrivevamo ogni tanto le nostre novità e non erano sei settimane da quando avevo ricevuto le sue lettere che mi capitò questo fatto di cui vi parlerò il 31 luglio 1697 un giovedì me ne ricorderò per tutta la mia vita il signor di Sortovil presso cui alloggiavo e che aveva avuto della bontà per me mi pregò di andare da un prete presso Cordelier e di aiutare i lavoranti che stavano falciando erano passate da poco le due e un quarto che mi sentii di colpo stordito e debole mi appoggiai in vano sul mio forcone e poi mi sdraiai sul fieno per una mezz'oretta per riprendermi poi la cosa passò ma siccome non mi era mai accaduto niente di simile ne fui sorpreso e temevo l'inizio di una malattia ne rimasi quindi colpito per il resto del giorno e la notte dormii meno del solito l'indomani alla stessa ora mentre camminavo a fianco del signor di Saint-Simon nipote del signor di Sortovil che aveva allora dieci anni stavo camminando e mi venne una debolezza simile e mi sedetti su una pietra all'ombra poi passò e noi continuamo il nostro cammino quel giorno non mi accadde altro e la notte quasi non dormii infine l'indomani il 12 di agosto ero nel granaio in cui si metteva il fieno portato dai campi precisamente alla stessa ora fui preso da un simile stordimento e da una debolezza simile ma più degli altri giorni io svegni e persi conoscenza uno di quelli che mi si erano avvicinati e che mi avevano chiesto cosa avessi mi disse che gli avevo risposto ho visto ciò che non avrei mai creduto ma non mi ricordo né la domanda né la risposta questo però si accorda con quello che mi ricordo di aver visto una persona a torso nudo ma che non riconobbi mi aiutò a scendere la scala mi tenevo stretto agli scalini ma poiché vidi des fontaines il mio camerata alla base della scala mi riprese la debolezza la mia testa se ne andò e persi ancora conoscenza mi aiutarono a sdraiarmi e mi misero su una grossa pietra che serviva da sedile sulla grande piazza dei cappuccini non vedevo più allora né il signor di Sortoville né i suoi domestici anche se erano presenti ma percependo des fontaines verso la base della scala che mi faceva cenno di andare verso di lui arretrai sul mio sedile come per fargli posto e quelli che mi vedevano e che io non vedevo quantunque avessi gli occhi aperti notarono questo movimento siccome lui non si avvicinava mi alzai per andare da lui si avanzò verso di me mi prese il braccio sinistro sotto il suo braccio destro e mi condusse a trenta passi da là in una strada appartata tenendomi sempre così i domestici credevano che il mio stordimento fosse passato e che andassi via per qualche necessità per cui se ne andarono per i fatti loro ad eccezione di un piccolo che andò a dire al signor di Sortoville che credeva fossi ubriaco si avvicinò e mi intese chiedere qualcosa e rispondere altro che poi mi ha raccontato rimasi là circa tre quarti d'ora a parlare con Desfontaine io ti ho promesso mi disse che se fossi morto prima di te sarei venuto a dirtelo io sono annegato ieri l'altro nel fiume di Caen più o meno a quell'ora ero a passeggiare con il tale e il talaltro faceva molto caldo ci prese voglia di fare il bagno mi venne debolezza dentro il fiume e caddi in fondo la batte di Meniljan mio amico si tuffò per riprendermi io gli afferrei un piede ma sia che avesse paura che lo potessi trascinare a fondo perché lo stringevo forte sia che volesse risalire subito fuori dall'acqua si scosse rudemente mi diede un calcio sul petto e mi gettò in fondo al fiume che là è molto profondo Desfontaine mi raccontò in seguito di tutti quelli che erano arrivati sulla passeggiata e di quelli che si erano fermati avevo un bel fargli le domande se fosse salvo o dannato se si trovasse in purgatorio o in stato di grazia e se io lo avrei seguito da presso ma continuò i suoi discorsi come se non mi udisse e come se non volesse udirmi io mi avvicinai più volte per abbracciarlo ma mi parve di non abbracciare niente sentivo chiaramente che mi teneva fortemente per il braccio e tutte le volte che cercavo di voltare la testa per non vederlo più perché mi rattristava il vederlo mi scuoteva il braccio come per obbligarmi a guardarlo e ascoltarlo mi pareva sempre più grande di quanto mai l'avessi visto e più grande anche di quanto non fosse stato al momento della sua morte quantunque fossero già 18 mesi che non ci vedevamo lo vedevo sempre a torso nudo la testa nuda con i suoi capelli biondi e una fascia nei capelli sulla fronte sulla quale c'era scritto qualcosa di cui riuscì a leggere solo in eccetera era suo anche il suono della voce non mi parve né allegro né triste ma calmo e tranquillo mi pregò quando sarebbe tornato suo fratello di dirgli certe cose da riportare a suo padre e a sua madre mi pregò di dire i sette salmi che aveva avuto come penitenza la domenica precedente che non aveva ancora recitato in seguito mi raccomandò ancora di parlare a suo fratello e poi mi disse addio e si allontanò da me dicendo presto presto che era il termine ordinario di cui si serviva quando noi ci lasciavamo alla passeggiata per andare ognuno a casa propria mi disse che mentre annegava suo fratello che stava facendo una traduzione si era pentito di averlo lasciato andare senza accompagnarlo temendo qualche accidente mi descrisse così bene il luogo in cui era negato e l'albero della strada di Louvigny su cui aveva scritto qualche parola che due anni dopo trovandomi con il cavaliere di Gotot uno dei due che erano stati con lui quando era negato gli indicai io stesso il punto e contando gli alberi di un certo lato che Desfontaine mi aveva specificato andai dritto all'albero e vi trovai il suo scritto mi disse anche che la cosa dei sette salmi era vera perché all'uscita dalla confessione si erano detti le loro penitenze suo fratello mi disse poi che era vero che a quell'ora lui scriveva la sua affersione e che rimpiangeva di non aver accompagnato suo fratello poiché passo quasi un mese senza che io potessi fare quello che mi aveva detto Desfontaine a riguardo di suo fratello egli mi apparve ancora due volte la prima volta fu prima di cena in una casa di campagna dove ero andato a cena a una lega da qui mi sentivo male dissi che mi lasciassero stare che non era niente che mi sarei ripreso andai in un punto del giardino Desfontaine mi apparve mi rimproverò di non avere ancora parlato a suo fratello e si trattenne ancora un quarto d'ora senza voler rispondere alle mie domande un'altra volta mi apparve ancora quando andavo il mattino a Notre Dame de la Victoire ma per meno tempo e mi pressò ancora a parlare a suo fratello e mi lasciò dicendomi sempre presto presto senza voler rispondere alle mie domande è una cosa notevole che abbia avuto sempre un dolore nell'interno del braccio in cui mi aveva stretto la prima volta fino a che non ebbe parlato a suo fratello erano tre giorni che non dormivo per lo stupore in cui mi trovavo dopo la prima conversazione dissi al signor di Varonville che Desfontaine era annegato che era venuto lui stesso a dirmelo andò subito di corsa ad informarsi dei parenti per sapere se era vero e da loro ebbe conferma della notizia ma per un malinteso comprese che fosse il fratello maggiore mi assicurò che aveva letto le lettere di Desfontaine sosteneva ancora che la cosa non potesse essere io sostenni ancora che Desfontaine in persona mi era apparso egli allora vi riandò ritornò e poi mi disse piangendo non è che troppo vero da quel momento non mi è più accaduto nulla ed ecco la mia avventura è stata raccontata diversamente da altri ma io l'ho raccontata sempre come l'ho detta a voi il cavaliere di Gotot mi ha detto che Desfontaine apparve anche al signore di Meniljan ma io non lo conosco abita a venti leghe da qui sulla costa d'Argentan e non posso dire di più occorre rimarcare il carattere di sogno che si mostra per tutta questa visione di un uomo sveglio ma mezzo asfissiato a causa delle emanazioni del fieno si riconoscerà l'ebrezza astrale prodotta dalla congestione del cervello lo stato di sonnambulismo che ne è la conseguenza e che fa vedere al signor Besuel l'ultimo riflesso vivente che il suo amico ha lasciato nella luce è nudo e non si può vedere che a metà corpo perché la camicia a volta a cordone era servita a bagnare e a trattenere i suoi capelli Besuel ebbe allora l'intuizione sonnambulica di tutto quello che era avvenuto e gli sembrò di apprenderlo dalla stessa bocca del suo amico questo amico d'altronde non gli apparve né triste né allegro il che esprime l'impressione che gli fece quest'immagine senza vita tutta di riminiscenza e di riflesso quando questa visione gli giunge per la prima volta Besuel ebro per l'odore del fieno si lascia cadere su una scala e si ferisce al braccio gli sembra allora con la logica dei sogni che il suo amico gli stringa il braccio e al suo risveglio sente ancora del dolore cosa che si spiega naturalmente per il colpo che aveva ricevuto del resto i discorsi del defunto erano tutti retrospettivi niente sulla morte o sulla vita dell'aldilà cosa che prova una volta ancora quanto sia insuperabile la barriera che separa l'altro mondo da questo la vita nella profezia di Ezechiele è raffigurata da strade che si avvolgono le une nelle altre le forme elementari rappresentate dai quattro animali salgono e discendono con la strada e si inseguono senza raggiungersi mai come i segni dello zodiaco mai le strade del movimento perpetuo ritornano su se stesse mai le forme ritornano sulle stazioni che hanno lasciato per ritornare dove si è partiti occorre aver fatto il giro del cerchio con un movimento sempre uguale e sempre nuovo concludiamo che tutto quello che si manifesta a noi in questa vita è un fenomeno di questa stessa vita e che non ci è dato quaggiù né al nostro pensiero né alla nostra immaginazione né anche alle nostre allucinazioni e ai nostri sogni di rompere neanche per un istante le barriere irriducibili della morte capitolo settimo origini magiche della massoneria la grande associazione cabalistica nota in Europa col nome di massoneria apparve all'improvviso nel mondo al momento in cui la protesta contro la chiesa giunse a smembrare l'unità cristiana gli storici di quest'ordine non sanno come spiegarne l'origine gli uni le danno per madre una libera associazione di massoni formata al momento della costruzione della cattedrale di Strasburgo altri le attribuiscono Cromwell come fondatore senza troppo domandarsi se i riti della massoneria inglese dei tempi di Cromwell non fossero piuttosto organizzati contro questo capo dell'anarchia puritana ce ne sono poi di talmente ignoranti da attribuire ai gesuiti se non la fondazione almeno la continuazione la direzione di questa società per molto tempo segreta e sempre misteriosa a parte quest'ultima opinione che si elimina da sola si possono conciliare le altre dicendo che i fratelli massoni si sono ispirati nel nome e nell'emblema della loro arte ai costruttori della cattedrale di Strasburgo e che si sono organizzati pubblicamente la prima volta in Inghilterra a favore delle istituzioni radicali e nonostante il dispotismo di Cromwell si può aggiungere che hanno avuto i Templari come modello i Rosa Croce per padri e i Giovanniti per antenati il loro dogma è quello di Zoroastro e di Ermete la loro regola è l'iniziazione progressiva il loro principio l'uguaglianza regolata dalla gerarchia e la fraternità universale sono i continuatori della scuola di Alessandria erede di tutte le iniziazioni antiche sono i depositari dei segreti dell'Apocalisse e del Soar l'oggetto del loro culto è la verità rappresentata dalla luce tollerano tutte le credenze e non professano che una sola e stessa filosofia non cercano che la verità non insegnano che la realtà e vogliono portare progressivamente tutte le intelligenze alla ragione il fine allegorico della massoneria è la ricostruzione del Tempio di Salomone il fine reale è la ricostruzione dell'unità sociale attraverso l'alleanza della ragione e della fede e il ristabilimento della gerarchia con l'iniziazione e le prove per gradi niente più bello lo si vede niente più grande di queste idee e tendenze sfortunatamente le dottrine dell'unità e la sottomissione alla gerarchia non si conservarono nella massoneria universale ci fu presto una massoneria dissidente opposta alla massoneria ortodossa e le più grandi calamità della rivoluzione francese furono il risultato di questa scissione i franchi massoni hanno la loro leggenda sacra è quella di Iram completata da quella di Ciro e di Zoro Babele ecco la leggenda di Iram quando Salomone fece costruire il tempio confidò i suoi piani a un architetto di nome Iram questo architetto per mettere ordine nel lavoro divise i lavoratori in gradi di abilità e poiché erano moltissimi per poterli riconoscere sia per impiegarli secondo il loro merito sia per remunerarli secondo il loro lavoro diede a ogni categoria agli apprendisti ai compagni e ai maestri delle parole d'ordine e segni particolari tre compagni vollero usurpare il rango di maestri senza averne il merito si imboscarono alle tre principali porte del tempio e quando Iram si presentò per uscire uno dei compagni gli domandò la parola d'ordine dei maestri minacciandolo con la sua riga Iram gli rispose non è così che ho ricevuto la parola che mi chiedete il compagno furioso colpì Iram con la sua riga di ferro e gli fece una prima ferita Iram corse a un'altra porta e vi trovò il secondo compagno stessa domanda stessa risposta e questa volta Iram fu colpito con una squadra altri dicono con una leva alla terza porta c'era il terzo assassino che colpì il maestro con un colpo di mazzuolo questi tre compagni nascosero poi il cadavere sotto un mucchio di macerie e piantarono su questa tomba improvvisata un ramo da caccia poi fuggirono come Caino dopo l'omicidio di Abele nel frattempo Salomone non vedendo tornare il suo architetto inviò nove maestri a cercarlo il ramo da caccia rivelò loro il cadavere lo estrassero da sotto e poiché era rimasto sepolto a lungo gridarono mentre lo sollevavano mak benak che significa la carne si stacca dalle ossa si resero a Iram gli onori funebri poi 27 maestri furono inviati da Salomone a cercare gli assassini il primo fu sorpreso in una caverna una lampada bruciava accanto a lui e un ruscello scorreva sotto i suoi piedi accanto a sé aveva un pugnale per difesa il maestro che penetrò nella caverna riconobbe l'assassino afferrò il pugnale e lo colpì gridando necum parola che vuol dire vendetta la sua testa fu portata a Salomone che fremette vedendola e disse a colui che aveva ucciso l'assassino disgraziato non sapevi che mi ero riservato io il diritto di punirlo allora tutti i maestri si prosternarono e domandarono grazia per colui che era stato trascinato troppo dal suo zelo il secondo assassino fu tradito da un uomo che gli aveva dato asilo era nascosto dietro una rupe presso un cespuglio ardente sul quale brillava un arcobaleno un cane era accucciato vicino a lui i maestri ingannarono la vigilanza del cane afferrarono il colpevole lo legarono e lo portarono a Gerusalemme dove morì dell'ultimo supplizio il terzo assassino fu ucciso da un leone che bisogna sconfiggere per impadronirsi del cadavere in altre versioni invece l'assassino si difese a colpi d'ascia contro i maestri che arrivarono infine a disarmarlo e lo condussero da Salomone che gli fece spiare il suo crimine questa è la prima leggenda ed eccone la spiegazione Salomone è la personificazione della scienza e della saggezza supreme il tempio è la realizzazione e la figura del regno gerarchico della verità e della ragione sulla terra Iram è l'uomo giunto al comando attraverso la scienza e la saggezza governa con la giustizia e con l'ordine e dà ad ognuno secondo le sue opere ogni grado dell'ordine possiede una parola che ne esprime l'intelligenza non c'è che una parola per Iram ma questa parola si pronuncia in tre modi differenti in un modo per gli apprendisti e pronunciata da loro significa natura e si realizza per mezzo del lavoro in un altro modo per i compagni e da loro significa pensiero e si realizza con lo studio in un altro modo per i maestri e nella loro bocca significa verità parola che si realizza con la saggezza questa parola è quella di cui ci si serve per disegnare Dio di cui il vero nome è indicibile e incommunicabile dunque ci sono tre gradi nella gerarchia come ci sono tre porte nel tempio ci sono tre raggi nella luce ci sono tre forze nella natura queste forze sono raffigurate dalla riga che unisce dalla leva che solleva e dal mazzuolo che conferma la ribellione degli istinti brutali contro l'aristocrazia gerarchica della saggezza si arma successivamente di queste tre forze che distoglie dall'armonia ci sono tre ribelli tipici il ribelle alla natura il ribelle alla scienza il ribelle alla verità erano raffigurati nell'inferno degli antichi dalle tre teste di Cerbero sono raffigurati nella Bibbia da Coree Datan e Abiron nella leggenda massonica sono designati da nomi che variano secondo i riti il primo che si chiama ordinariamente Abiran o assassino di Iram colpisce il grande maestro con la riga è la storia del giusto messo a morte il nome della legge a causa delle passioni umane il secondo chiamato Miphi Boset dal nome di un pretendente ridicolo e malato alla regalità di David colpisce Iram con la leva o la squadra è così che la leva popolare o la squadra di una folle uguaglianza divengono lo strumento della tirannia nelle mani della moltitudine e attentano più disgraziatamente ancora della riga alla regalità della saggezza e della virtù il terzo infine colpisce Iram col mazzuolo come fanno gli istinti brutali quando si vuol fare ordine in nome della violenza e della paura schiacciando l'intelligenza il ramo di acacia sulla tomba di Iram è come la croce sugli altari è il segno della scienza che sopravvive alla scienza è il ramo verde che annuncia un'altra primavera quando gli uomini hanno turbato l'ordine della natura la provvidenza interviene per ristabilirlo come Salomone per vendicare la morte di Iram colui che è assassinato con la riga muore di pugnale colui che ha colpito con la leva o la squadra muore sotto l'ascia della legge è l'eterno arresto dei regicidi colui che ha trionfato col mazzuolo cadrà vittima della forza di cui ha abusato e sarà ucciso dal leone l'assassino con la riga è denunciato dalla lampada stessa che lo illumina e dalla fonte a cui si abbevera vale a dire che gli si applicherà la legge del taglione l'assassino con la leva sarà sorpreso quando la sua vigilanza sarà carente come un cane addormentato e sarà tradito dai suoi complici perché l'anarchia è madre del tradimento il leone che divora l'assassino col mazzuolo è una delle forme della sfinge di Edipo e chi avrà vinto il leone meriterà di succedere ad Iram il cadavere putrefatto di Iram mostra che le forme cambiano ma che lo spirito resta la fonte d'acqua che scorre vicino al primo assassino ricorda il diluvio che ha punito i crimini contro la natura il cespuglio ardente e l'arcobaleno che fanno scoprire il secondo assassino rappresentano la luce e la vita denunciando gli attentati contro il pensiero infine il leone vinto rappresenta il trionfo dello spirito sulla materia e la sottomissione definitiva della forza all'intelligenza dall'inizio del lavoro dello spirito per costruire il tempio dell'unità Iram è stato ucciso molte volte e risuscita sempre e Adone ucciso dal cinghiale è Osiride assassinato da Tifone è Pitagora proscritto è Orfeo dilaniato dalle Baccanti è Mosè abbandonato nelle caverne del Monte Nebo è Gesù messo a morte da Caifa Giuda e Pilato i veri massoni sono coloro che persistono a voler costruire il tempio secondo il piano di Iram tale è la grande principale leggenda della massoneria le altre non sono meno belle e profonde ma non crediamo di dover divulgare i misteri anche se non abbiamo ricevuto l'iniziazione che da Dio e dal nostro lavoro noi guardiamo il segreto dell'alta massoneria come il nostro giunti con i nostri sforzi a un grado scientifico che ci impone il silenzio noi ci crediamo più impegnati dalle nostre convinzioni che da un giuramento la scienza è una nobiltà che obbliga e non demeriteremo la corona dei rosa croce anche noi crediamo alla resurrezione di Iram i riti della massoneria sono destinati a trasmettere il ricordo dell'iniziazione a conservarlo fra i fratelli ci si domanderà forse perché se la massoneria è così sublime e così santa sia potuta essere proscritta e spesso condannata dalla chiesa abbiamo già risposto a questa domanda parlando delle scissioni e delle profanazioni della massoneria la massoneria è l'agnosi e i falsi ignostici hanno fatto condannare i veri ciò che la obbliga a nascondersi non è il timore della luce e la luce è ciò che vogliono ciò che cercano ciò che adorano ma temono i profanatori vale a dire i falsi interpreti i calunniatori gli scettici che ridono stupidamente e i nemici di ogni credenza e moralità ai nostri tempi d'altronde un gran numero di uomini che si credono franchi massoni ignorano il senso dei loro riti e hanno perso la chiave dei loro misteri non comprendono essi stessi i quadri simbolici e non capiscono più niente dei segni geroglifici di cui sono istoriati i tappeti delle loro logge questi quadri e questi segni sono le pagine del libro della scienza assoluta e universale si può leggerli con l'aiuto delle chiavi cabalistiche e non hanno niente di nascosto per l'iniziato che possiede le clavicole di Salomone la massoneria non soltanto è stata profanata ma è servita anche da velo e da pretesto per complotti anarchici per l'influenza occulta dei vendicatori di Jacques de Molay e dei continuatori dell'opera scismatica del Tempio invece che vendicare la morte di Iram hanno vendicato i suoi assassini gli anarchici hanno ripreso la riga la squadra e il mazzuolo e vi hanno scritto sopra libertà egalité fraternité vale a dire libertà per la cupidigia uguaglianza nella bassenza e fratellanza per distruggere ecco gli uomini che la Chiesa ha condannato giustamente e che condannerà sempre libro sesto la magia e la rivoluzione capitolo primo autori notevoli del diciottesimo secolo fino alla fine del diciassettesimo secolo la Cina era stata più o meno sconosciuta al resto del mondo è solo in quest'epoca che questo vasto impero esplorato dai nostri missionari ci si rivelò attraverso di essi e ci apparve come una necropole di tutte le scienze del passato i cinesi sembrano essere un popolo di mummie niente progredisce da loro e vivono nell'immobilità delle loro tradizioni il cui spirito e la vita si sono ritirati da molto tempo non sanno più niente ma si ricordano vagamente di tutto il genio della Cina è il drago delle speridi che difende le mele d'oro del giardino della scienza il loro archetipo umano della divinità invece del vincitore del drago come Cadmo si è accoccolato affascinato e magnetizzato dal mostro che fa irradiare davanti a lui il riflesso cangiante delle sue scaglie il mistero solo è vivo in Cina la scienza è in letargo o almeno essa dorme profondamente e non si parla mai che di sogno abbiamo detto che la Cina possiede dei tarocchi calcolati sugli stessi dati cabalistici assoluti del Sefer Jezirah degli ebrei possiede anche un libro geroglifico composto unicamente da combinazioni di due figure questo libro è Li King attribuito all'imperatore Fo Hi e De Maison nelle sue lettere sulla Cina lo dichiara assolutamente indecifrabile non lo è però più del Soar di cui sembra essere un complemento curiosissimo e una preziosa appendice il Soar è la spiegazione del lavoro del bilanciamento dell'equilibrio universale Li King nella dimostrazione geroglifica e cifrata la chiave di questo libro è un pentacolo noto sotto il nome dei trigrammi di Fo Hi secondo la leggenda raccontata nel Vai Ki raccolta di grande autorità in Cina e che fu composta da Leon Tao Yuan sotto la dinastia dei Soms 7-800 anni fa l'imperatore Fo Hi meditando un giorno in riva al fiume sui grandi segreti della natura vide uscire dall'acqua una sfinge vale a dire un animale allegorico che aveva la forma mista di un cavallo e di un drago la testa era allungata come quella di un cavallo aveva quattro piedi e finiva con una coda di serpente il dorso era coperto di scaglie e su ognuna di esse brillava la figura dei misteriosi trigrammi più piccoli verso le estremità più grandi sul petto e sul dorso ma in perfetta armonia gli uni con gli altri questo dragone si guardava nell'acqua e il suo riflesso aveva le stesse forme e le sue stesse immagini ma in senso inverso rispetto alle immagini e alle forme reali questo cavallo serpente ispiratore o piuttosto portatore di ispirazione come il pegaso della mitologia greca simbolo della vita universale come il serpente di Kronos iniziò fohi alla scienza universale i trigrammi gli servirono da introduzione contò le scaglie del cavallo serpente e combinò i trigrammi in tanti modi che concepì una sintesi delle scienze comparate e unite tra loro delle armonie preesistenti e necessarie della natura la redazione delle tavole dell'Iking fu il risultato di questa meravigliosa combinazione i numeri di fohi sono gli stessi di quelli dell'alta cabala il suo pentacolo è analogo a quello di Salomone come abbiamo spiegato nel nostro dogma rituale dell'alta magia le sue tavole corrispondono alle 32 vie e alle 50 porte della luce e l'Iking non ha nulla di oscuro per i saggi cabalisti che hanno la chiave del Sefer Jezirah e del Sohar la scienza della filosofia assoluta è dunque esistita in Cina i King non sono che i commentari di questo assoluto nascosto ai profani come il pentateuco di Mosè sta alle rivelazioni del Sifra Zenyuta che è il libro dei misteri e la chiave del Sohar per gli ebrei Kukfu Zè o Confucio non fu che il rivelatore di questa cabala che avrebbe negato forse per distogliere le ricerche dei profani come il sapiente talmudista Maimonide negò la realtà delle clavicole di Salomone poi venne il materialista Fo che sostituì le tradizioni della stregoneria indiana ai ricordi dell'alta magia degli egiziani il culto di Fo paralizzò in Cina i progressi della scienza e la civiltà abortita di questo grande popolo cadde nella routine e nell'abrutimento un filosofo di una ammirevole sagacia e di una grande profondità il saggio Leibniz che sarebbe stato così degno da essere iniziato alle verità supreme della scienza assoluta credete di vedere nei King la sua propria invenzione dell'aritmetica binaria e nella linea dritta e nella linea spezzata di Fo e ritrovò i caratteri uno e zero impiegati da lui stesso nei calcoli era molto vicino alla verità ma non la intravedeva che in uno dei suoi dettagli non riusciva ad abbracciarne l'insieme delle dispute teologiche sono state l'occasione di ricerche importantissime sulle antichità religiose della Cina si tratta di sapere se i gesuiti avessero ragione di tollerare fra i cinesi convertiti al cristianesimo il culto del cielo e degli antenati in altri termini se si deve credere che per il cielo la letteratura della Cina intendesse Dio o semplicemente lo spazio e la natura sarebbe stato del tutto naturale rapportarsi alla letteratura al buonsenso pubblico ma questi non sono delle autorità teologiche per cui si discusse molto si scrisse molto si intrigò ancor più e infine i gesuiti che avevano ragione in fondo furono convinti di aver torto per la forma e si crearono loro delle nuove difficoltà che non sono ancora state superate e che i nostri giorni fanno versare in Cina il sangue dei nostri infaticabili martiri mentre si disputavano così alla religione le sue conquiste in Asia un'immensa inquietudine agitava l'Europa la fede cristiana sembrava pronta a spegnersi e da ogni parte si parlava di nuove rivelazioni e di miracoli un uomo versato seriamente nella scienza e nel mondo Emmanuel Swedenborg meravigliava la Svezia con le sue visioni e la Germania era piena di nuovi illuminati il misticismo dissidente cospirava per rimpiazzare i misteri della religione gerarchica con i misteri dell'anarchia si preparava un'imminente catastrofe Swedenborg il più onesto e il più dolce dei profeti del falso illuminismo non era per questo meno pericoloso degli altri pretendere in effetti che tutti gli uomini siano chiamati a comunicare direttamente col cielo è rimpiazzare l'insegnamento religioso regolare e l'iniziazione progressiva con tutte le divagazioni dell'entusiasmo e tutte le follie dell'immaginazione e dei sogni gli illuminati intelligenti sapevano bene che essendo la religione e un grande bisogno dell'umanità non l'avrebbero mai distrutta così vollero forgiarsi con la stessa religione o col fanatismo a cui porta per una conseguenza fatale dell'entusiasmo ispirato dall'ignoranza delle armi per distruggere l'autorità gerarchica della chiesa contando di vedere uscire dai conflitti del fanatismo una nuova gerarchia di cui speravano essere i fondatori e i capi sarete come degli dèi saprete tutto senza darvi la pena di imparare sarete come dei re che possiederanno tutto senza darsi la pena di acquisire niente tali sono in sintesi le promesse dello spirito rivoluzionario alle moltitudini invidiose lo spirito rivoluzionario è lo spirito della morte è l'antico serpente della genesi e nel frattempo è il padre del movimento e del progresso poiché le generazioni non si rinnovano che attraverso la morte è per questo che gli indiani adorano Shiva lo spietato distruttore di cui la forma simbolica era quella dell'amore fisico e della generazione materiale il sistema di Svedenborg non è altro che la cabala meno i principi della gerarchia è il tempio senza la chiave di volta e senza fondamenta è un immesso edificio fortunatamente tutto fantastico e aereo perché se si fosse mai tentato di realizzarlo sulla terra sarebbe caduto sulla testa del primo bambino che vi fosse salito non diciamo di abbatterlo ma di appoggiarsi a una delle sue colonne principali organizzare l'anarchia tale è il problema che i rivoluzionari hanno e avranno eternamente da risolvere è la roccia di Sisifo che ricadrà sempre su di essi per esistere un solo istante sono e saranno sempre fatalmente ridotti a improvvisare un despotismo senza altra ragione di essere che la necessità e che di conseguenza è violento e cieco come essa non si sfugge alla monarchia armoniosa della ragione che per cadere sotto la dittatura disordinata della follia il mezzo proposto indirettamente da Swedenborg per comunicare col mondo soprannaturale era uno stato intermedio che ha del sogno dell'estasi e della catalessia l'illuminato svedese afferma la possibilità di questo stato ma non dà la teoria delle pratiche necessarie per arrivarci forse i suoi discepoli per colmare questa lacuna avrebbero finito per far ricorso al rituale magico dell'India quando un uomo di genio venne a completare con una taumaturgia naturale le intuizioni profetiche cabalistiche di Swedenborg quest'uomo era un medico tedesco di nome Mesmer Mesmer ebbe la gloria di ritrovare senza iniziatore senza conoscenze occulte la gente universale della vita e dei suoi prodigi i suoi aforismi che i sapienti del suo tempo dovevano considerare come altrettanti paradossi diverranno un giorno la base della sintesi fisica Mesmer riconosceva nell'essere naturale le due forme che sono la sostanza della vita da cui risultano la fissità e il movimento che costituiscono l'equilibrio delle cose riconosceva l'esistenza di una materia primaria fluida universale capace di fissità e di movimento che fissandosi determina la costituzione delle sostanze e che muovendosi sempre modifica e rinnova le forme questa materia fluida è attiva e passiva come passiva si attira da sé come attiva si proietta per essa i mondi e gli esseri viventi che popolano i mondi si attirano e si respingono passa dagli uni agli altri per una circolazione paragonabile a quella del sangue trattiene e rinnova la vita di tutti gli esseri è l'agente della loro forza e può divenire lo strumento della loro volontà i prodigi sono il risultato di forze o di volontà eccezionali i fenomeni di coesione di elasticità di densità o di sottigliezza dei corpi sono prodotti delle diverse combinazioni delle due proprietà del fluido universale o della materia primaria la malattia come tutti i disordini fisici proviene da una sregolatezza dell'equilibrio normale della materia primaria in un corpo organizzato i corpi organizzati sono simpatici o antipatici gli uni verso gli altri in seguito al loro equilibrio speciale i corpi simpatici possono guarirsi gli uni gli altri ristabilendo naturalmente il loro equilibrio queste proprietà dei corpi si equilibrano le une con le altre a causa dell'attrazione o della proiezione della materia primaria Mesmer la chiama magnetismo e poiché essa si specifica seguendo le specialità degli esseri quando se ne studiano i fenomeni negli esseri animati la chiama magnetismo animale Mesmer provò la sua teoria con delle opere e le sue esperienze furono coronate da un pieno successo avendo osservato l'analogia che esiste tra i fenomeni del magnetismo animale e quello dell'elettricità usò dei conduttori metallici che terminavano in un serbatoio comune che conteneva terra e acqua per assorbire o per proiettare le due forze poi questo complicato apparecchio con tubi fu abbandonato per venire rimpiazzato da una catena vivente di mani imposte a un corpo circolare e cattivo conduttore come il legno di un tavolo la stoffa di seta o di lana di un cappello eccetera in seguito applicò agli esseri viventi e organizzati i procedimenti della magnetizzazione metallica e acquisì la certezza della realtà e della somiglianza dei fenomeni che ne seguivano gli restava da fare un solo passo ed era di dichiarare che gli effetti attribuiti in fisica ai quattro fluidi imponderabili sono le manifestazioni diverse di una sola e stessa forza diversificata dai suoi usi e che questa forza inseparabile dalla materia primaria e universale che fa muovere ora splendida ora ignea ora elettrica che è ora magnetica non ha che un solo nome indicato da Mosè nella Genesi quando la fa apparire al richiamo dell'Onnipotente prima di tutte le sostanze prima di tutte le forme la luce e ora non temiamo di dirlo apertamente tutti lo riconosceranno in seguito la grande cosa del XVIII secolo non è l'enciclopedia non è la filosofia sogghignante e derisoria di Voltaire non è la metafisica negativa di Diderot e di Alenbert non è la filantropia odiosa di Rousseau è la fisica simpatica e miracolosa di Mesmer Mesmer è grande come Prometeo e gli ha donato agli uomini il fuoco del cielo che Franklin non ha saputo che sviare non mancò al genio di Mesmer né la sanzione dell'odio né la consacrazione delle persecuzioni e delle ingiurie fu cacciato dalla Germania si rise di lui in Francia pur facendogli una fortuna perché le sue guarigioni erano evidenti e i malati andavano da lui a pagamento e poi si dicevano guariti per caso per non attirare su di sé l'avversione dei saggi i corpi costituiti non fecero mai al taumaturgo l'onore di esaminare la sua scoperta e il grande uomo dovette rassegnarsi a passare per un ciarlatano i saggi soli non erano ostili al mesmerismo gli uomini sinceramente religiosi si allarmarono dei rischi della nuova scoperta e i superstiziosi gridarono allo scandalo e alla magia i saggi previdero gli abusi gli insensati non ammisero neanche l'uso di questa meravigliosa potenza non si potevano forse negare in nome del magnetismo i miracoli del salvatore e dei suoi santi dicevano gli uni che diverrà il potere del diavolo dicevano gli altri e poiché la religione è vera non deve temere la scoperta di alcuna verità d'altronde dando la misura della potenza umana il magnetismo non dà ai miracoli divini una nuova sanzione invece che distruggerli è vero che gli stupidi attribuiranno al diavolo meno prodigi cosa che lascerà loro meno occasioni di esercitare il loro odio e i loro furori ma non sono certamente le persone veramente pietose che penseranno mai a lamentarsene il diavolo deve perdere terreno quando si fa la luce e l'ignoranza si ritrae le conquiste della scienza e della luce estendono affermano e fanno amare sempre più al mondo l'impero e la gloria di Dio capitolo secondo personaggi meravigliosi del diciottesimo secolo il diciottesimo secolo non ha avuto credulità per la magia perché le credenze vaghe sono la religione delle anime senza fede si negavano i miracoli di Gesù Cristo e si attribuivano resurrezioni al conte di Saint Germain questo singolare personaggio era un teosofo misterioso di cui si diceva avesse i segreti della grande opera per fabbricare diamanti e pietre preziose era d'altronde un uomo di mondo con una conversazione gradevole e con modi molto distinti Madame de Genlis lo vedeva quasi tutti i giorni assicura che sapeva dare alle gemme che dipingeva tutto il loro splendore naturale e un fuoco di cui nessun chimico né nessun pittore poté indovinare il segreto aveva trovato il modo di fissare la luce sulla tela o impiegava qualche preparazione di madreperla o qualche incrostazione metallica questo c'è impossibile saperlo perché non c'è rimasta nessuna di queste pitture meravigliose il conte di Saint Germain faceva professione di religione cattolica e nell'osservare la pratica aveva una grande fedeltà si parlava però di evocazioni sospette e di apparizioni strane lui stesso si vantava di possedere il segreto dell'eterna giovinezza era misticismo era follia nessuno conosceva la sua famiglia e a sentirlo parlare di cose del tempo passato sembrava che avesse vissuto molti secoli parlava poco di tutto quello che si riferiva alle scienze occulte e quando gli si chiedeva sull'iniziazione pretendeva di non sapere niente sceglieva lui stesso i suoi discepoli e domandava loro subito un'obbedienza passiva poi parlava loro di una regalità alla quale erano chiamati quella di Melchisedec e di Salomone la regalità degli iniziati che è anche un sacerdozio siate le fiaccole del mondo diceva se la vostra luce non è che quella di un pianeta non sarete niente davanti a Dio io vi riservo uno splendore di cui quello del sole non è che l'ombra allora dirigerete il cammino delle stelle e governerete coloro che regnano sugli imperi queste promesse il cui significato ben compreso non ha niente che possa stupire i veri adepti sono riportate se non testualmente almeno quanto al senso delle parole dall'autore anonimo di una storia delle società segrete in Germania e sufficienti a far comprendere a quale iniziazione apparteneva il conte di Saint Germain ecco adesso qualche dettaglio fino ad oggi ignoto su questo illuminato era nato a Landmeritz in Bohemia alla fine del XVII secolo era figlio naturale o adottivo di un rosa croce che si faceva chiamare Comes Cabalicus il compagno cabalista e che fu messo in ridicolo col nome di Conte di Gabalis dall'infilice abate di Villar Mai Saint Germain parlava di suo padre all'età di sette anni diceva ero proscritto e erravo con mia madre nelle foreste questa madre di cui voleva parlare era la scienza degli adepti la sua età di sette anni è quella degli iniziati promossi al grado di maestro le foreste sono gli imperi mondani spogli secondo gli adepti della vera civiltà e della vera luce i principi di Saint Germain erano quelli dei rosa croce e aveva fondato in patria una società da cui si separò in seguito quando le dottrine anarchiche prevalsero nelle associazioni dei nuovi settari dell'agnosi così fu sconfessato dai suoi fratelli accusato addirittura di tradimento e qualche autore di memorie sull'illuminismo sembra insinuare che fu precipitato nelle prigioni del castello di Ruel Madame de Genly al contrario lo fa morire nel ducato di Holstein tormentato dalla sua coscienza e agitato dal terrore dell'altra vita ciò che è certo è che scomparve all'improvviso da Parigi senza che si potesse sapere con certezza dove si fosse ritirato e che gli illuminati lasciarono cadere fin tanto che fu loro possibile sulla sua memoria il velo del silenzio e dell'oblio la società che aveva fondato con il titolo di Saint-Jacques di cui si fece San Gioacchino durò fino alla rivoluzione e scomparvi allora o si trasformò come tante altre ecco sul tema di questa società un aneddoto che si trova nei livelli ostili all'illuminismo è estratto da una corrispondenza da Vienna tutto questo come si vede non è certamente autentico né certo ecco comunque l'aneddoto sono stato ricevuto molto bene dietro vostra raccomandazione da MNZ sapeva già del mio arrivo l'armonica ebbe tutta la sua approvazione mi parlò subito di certi temi particolari di cui non compresi assolutamente niente capì solo quel poco che la mia intelligenza mi permetteva ieri verso sera mi condusse in campagna in cui i giardini sono bellissimi dei templi delle grotte delle cascate dei labirinti dei sotterranei procurano agli occhi una lunga serie di incantamenti ma un muro altissimo che circonda queste bellezze mi dispiacque moltissimo levando all'occhio un sito incantevole avevo portato l'armonica su invito di MNZ per suonarla solo per qualche minuto in un luogo designato e a un segno convenuto e lì mi condusse dopo la nostra visita nel giardino in una sala sul davanti della casa e mi lasciò presto con qualche pretesto era molto tardi non lo vedevo tornare la noia e il sonno cominciavano a prendermi quando fu interrotto dall'arrivo di molte carrozze aprì la finestra era notte e non riuscivo a vedere niente compresi ancora meno il parlottare basso e misterioso di quelli che sembravano entrare nella casa presto il sonno si impadronì di me e dopo aver dormito circa un'ora fui risvegliato di soprassalto da un domestico inviato per guidarmi e per portare lo strumento camminava molto veloce e parecchio avanti a me io lo seguivo quasi macchinalmente quando intesi dei suoni di trombe che mi parevano uscire dalle profondità di una caverna in quell'istante persi di vista la mia guida e avanzando verso il lato da cui sembrava venire il rumore discesi a metà la scala di un cavo che si apriva davanti a me pensate la mia sorpresa vi si salmodiava un canto funebre vidi distintamente un cadavere in una bara aperta accanto un uomo vestito di bianco pareva pieno di sangue mi parve che avesse aperta una vena al braccio destro ad eccezione di quelli che gli prestavano il loro ministero gli altri erano avvolti nei lunghi mantelli neri con la spada nuda in mano per quanto il terrore di cui ero preda mi permise di valutare c'erano all'ingresso della caverna dei mucchi di ossa umane buttatele una sulle altre la luce che rischierava questo spettacolo lugubre mi parve prodotta da una fiamma simile a quella dello spirito divino che brucia incerto se potessi raggiungere la mia guida mi affrettai a ritirarmi lo trovai precisamente a qualche passo che mi cercava aveva l'occhio smarrito mi prese la mano con una sorta di inquietudine e mi trascinò con sé in un giardino particolare dove mi credetti trasportato per effetto di magia la luce diffusa da un numero prodigioso di lampioni il mormorio delle cascate il canto degli usignoli artificiali il profumo che si respirava esaltarono subito la mia immaginazione fui posto dentro un capanno di fronde di cui l'interno era riccamente decorato e nel quale venne immediatamente trasportata una persona svenuta verosimilmente quella che avevo visto nella bara aperta e anche mi si fece segno di suonare il mio strumento molto turbato da questa scena molte cose mi sono probabilmente sfuggite ho osservato comunque che l'individuo svenuto rinvenne appena suonai lo strumento domandando sorpreso dove sono di chi è questa voce grida di gioia accompagnate da trombe e da cimbali furono la sola risposta si corse alle armi e tutti si dileguarono all'interno del giardino dove non vidi più nessuno nota il neofita di cui si parla in questa lettera e che fu preso per un cadavere era in stato di sonnambulismo prodotto dal magnetismo a proposito del capanno di piante di cui si parla e degli effetti dell'armonica si può consultare un'opera curiosa storia critica del magnetismo animale di Deleuze contiene delle notizie molto interessanti sulla catena e la bacchetta magnetiche gli alberi magnetizzati la musica la voce del magnetizzatore e lo strumento che impiega l'autore è d'altronde un partigiano del mesmerismo cosa che non rende sospette le sue opinioni vi scrivo questo ancora tutto agitato se non avessi preso la precauzione di annotare questa scena sul campo oggi la prenderei per un sogno quello che c'è di più inesplicabile in questa scena è la presenza del profano che la racconta come mai l'associazione poteva esporsi così alla divulgazione dei suoi misteri ci è impossibile rispondere a questa questione ma per quello che riguarda i misteri in sé possiamo facilmente spiegarli i successori degli antichi Rosa Croce deviando a poco a poco dalla scienza austera e gerarchica dei loro antichi iniziatori si erano costituiti in setta mistica avevano accolto con trasporto i dogmi magici dei templari e si credevano i soli depositari dei segreti del Vangelo di San Giovanni vedevano nei racconti del Vangelo una serie di allegorie e diritti rivolti a completare l'iniziazione e credevano che la storia di Cristo dovesse realizzarsi nella persona di ognuno degli adepti raccontavano una leggenda agnostica secondo la quale il Salvatore unto di profumi e bendato non sarebbe stato messo nel nuovo sepolcro di Giuseppe di Arimatea e sarebbe tornato in vita nella casa stessa di San Giovanni era questo presunto mistero che celebravano al suono dell'armonica e delle trombe il recipientario era invitato a fare il sacrificio della sua vita e subiva in effetti un salasso che gli procurava uno svenimento questo svenimento gli veniva detto che era la morte e quando ritornava in sé delle fanfare di gioia e delle grida di trionfo celebravano la sua risurrezione queste emozioni diverse queste scene volta a volta lugubre o brillanti dovevano impressionare come non mai la sua immaginazione e renderlo fanatico o veggente molti credevano a una risurrezione reale e si credevano certi di non morire più i capi dell'associazione mettevano così al servizio dei loro progetti segreti il più terribile di tutti gli strumenti la follia e si assicuravano da parte dei loro adepti una di quelle devozioni fatali e infaticabili che la perdita della ragione produce più spesso e più certamente dell'amicizia la setta di Saint-Jacques era dunque una società di gnostici dediti alle illusioni della magia fascinatrice stava tra i Rosa Croce e i Templari il suo nome di Saint-Jacques veniva da uno dei due nomi incisi in iniziali sulle due principali colonne del Tempio di Salomone Giacques e Boas l'iniziale di Giacques in ebraico è la Iod lettera sacra dell'alfabeto ebraico iniziale del nome di Jehovah che il nome di Giacques serve a velare ai profani è per questo che lo si chiamava Saint-Jacques i Saint-Jacques erano dei teosofi che si occupavano troppo di teurgia tutto quello che si racconta del misterioso conte di Saint-Germain fa credere che fosse un fisico abile e un chimico distinto si assicura che possedesse il segreto di saldare insieme i diamanti senza che si potesse percepire qualche traccia del lavoro aveva l'arte di purificare le pietre e di dare un gran valore alle più imperfette e alle più comuni l'autore imbecille e anonimo che abbiamo già citato gli accorda molto talento ma nega che egli abbia mai fatto dell'oro come se non si facesse oro facendo delle pietre preziose Saint-Germain inventò anche secondo lo stesso autore e lasciò alle scienze industriali l'arte di dare al rame più splendore e dottilità altra invenzione che bastava fare la fortuna del suo autore opere simili dovevano far perdonare al conte di Saint-Germain di avere ben conosciuto la regina Cleopatra e di avere anche trattato familiarmente la regina di Saba era d'altronde un uomo buono e galante che amava i bambini e a cui piaceva fare lui stesso dei bonbon deliziosi e dei meravigliosi giocattoli era bruno e piccolo sempre riccamente vestito ma con molto gusto e si dedicava con piacere a tutte le raffinatezze del lusso si assicura che il re Luigi XV lo ricevesse familiarmente e si occupasse con lui di diamanti e di pietre preziose è probabile che questo monarca interamente dominato da dei cortigiani e assorbito dai suoi piaceri cedesse invitando Saint Germain a qualche udienza particolare piuttosto a qualche capriccio di curiosità che ha un serio amore per la scienza Saint Germain fu un momento alla moda e poiché era un amabile giovane vecchio che sapeva unire le chiacchiere del furbo all'estasi di un teosofo faceva furore in certi circoli ma poi venne rimpiazzato da altre fantasie così va il mondo è stato detto che Saint Germain altri non fosse che quel misterioso alto tas che fu il maestro in magia di un adepto di cui ci occuperemo presto e che prese il nome cabalistico di Asharat niente meno fondato di questa supposizione come vedremo studiando questo nuovo personaggio mentre il conte di Saint Germain era alla moda a Parigi un altro adepto misterioso percorreva il mondo reclutando i suoi apostoli per la filosofia di Ermete era un alchimista che si faceva chiamare Lascaris e si diceva archimandrita d'Oriente incaricato di raccogliere le mosine per un convento greco solamente invece di chiedere l'elemosina Lascaris sembrava che sudasse oro e ne lasciava dappertutto una traccia che lo seguiva non faceva che apparire dappertutto e le sue apparizioni cambiavano forma qui si mostrava vecchio altrove era ancora giovane non faceva lui l'oro pubblicamente ma lo faceva fare ai suoi discepoli ai quali lasciava abbandonandoli un po' di polvere di proiezione niente di più vero e di meglio accertato delle trasmutazioni operate dagli emissari di Lascaris lui Figuier nella sua dotta opera sugli alchimisti non ne mette in dubbio né la realtà né l'importanza ora poiché non c'è niente soprattutto in fisica di più inesorabile dei fatti occorrerebbe dunque concludere da questo che la pietra filosofale non è una fantasia se l'immensa tradizione dell'occultismo se le mitologie antiche se i lavori seri dei più grandi uomini di tutte le epoche non ne dimostrassero sufficientemente l'esistenza e la realtà un chimico moderno che si è affrettato a pubblicare il suo segreto è giunto a estrarre l'oro dall'argento con un procedimento rovinoso perché l'argento distrutto da lui non rende in oro che la decima parte circa del suo valore Agrippa che non è mai arrivato alla scoperta del solvente universale era stato ciò nonostante più fortunato del nostro chimico perché aveva trovato in oro un valore equivalente a quello dell'argento impiegato non aveva dunque perso altro che il suo lavoro se si può considerare una perdita impiegare il tempo alla ricerca dei grandi segreti della natura impegnare gli uomini per l'attrazione verso l'oro nelle ricerche che li conducano alla filosofia assoluta tale pareva essere stato lo scopo della propaganda di Lascaris secondo cui lo studio dei libri ermetici doveva necessariamente portare gli uomini di studio alla conoscenza della cabala gli iniziati in effetti pensavano nel diciottesimo secolo che il loro tempo fosse giunto gli uni per fondare una gerarchia nuova gli altri per rovesciare ogni autorità e far passare su tutte le sommità dell'ordine sociale il livello egualitario le società segrete inviarono i loro agenti in tutto il mondo per sondare e risvegliare l'opinione al bisogno dopo Saint Germain nella Scaris Mesmer dopo Mesmer Cagliostro ma non tutti erano della stessa scuola Saint Germain era l'uomo degli illuminati teosofi la Scaris rappresentava i naturalisti attaccati alla tradizione di Ermete Cagliostro era la gente dei Templari e dunque scriveva in una circolare indirizzata a tutti i franchi massoni o fran massoni di Londra che era giunto il tempo di mettere mano all'opera per ricostruire il Tempio dell'Eterno come i Templari Cagliostro si dedicava alle pratiche della magia nera e praticava la scienza funesta delle evocazioni divinava il passato e il presente prediceva l'avvenire faceva delle cure meravigliose e pretendeva anche di fare l'oro aveva introdotto nella massoneria un nuovo rito che chiamava rito egiziano e provava a risuscitare il culto misterioso di Iside lui stesso la testa fasciata da bende e acconciato come una sfinge di tebe presiedeva delle solennità notturne in appartamenti pieni di geroglifici e di fiaccole aveva come sacerdotesse delle fanciulle che chiamava Colombe e che esaltava fino all'estasi per far sì che dicessero oracoli per mezzo dell'idromanzia essendo l'acqua un eccellente conduttore un potente riflettore e un mezzo molto rifrangente la luce astrale come dimostrano i miraggi del mare e delle nuvole Cagliostro come si vede continuava mesmer e aveva ritrovato la chiave dei fenomeni di mediomania lui stesso era un medium vale a dire un uomo di un'organizzazione nervosa eccezionalmente impressionabile aggiungeva ciò molto fascino e acume l'esagerazione pubblica e l'immaginazione delle donne facevano il resto Cagliostro ebbe un successo folle se lo disputavano il suo busto era dappertutto con questa iscrizione il divino Cagliostro si poteva prevedere da quel momento una reazione uguale e contraria dopo essere stato un dio Cagliostro divenne un intrigante un ciarlatano un mantenuto di sua moglie uno scellerato e infine a cui l'inquisizione di Roma credette far grazia condannandolo solamente a una prigione perpetua fece credere di tradire la moglie ma era sua moglie a tradirlo fu imprigionato e processato e del processo fu pubblicato solo quello che si volle nel frattempo arrivò la rivoluzione e tutti dimenticarono Cagliostro questo adepto non è però senza importanza nella storia della magia il suo sigillo è altrettanto importante di quello di Salomone e attesta la sua iniziazione ai segreti più alti della scienza questo sigillo spiegato dalle lettere cabalistiche dei nomi di Asharat e di Alto Tas esprime principali caratteri del grande arcano e della grande opera è un serpente trapassato da una freccia raffigurante la lettera Aleph immagine dell'unione dell'attivo e del passivo dello spirito e della vita della volontà e della luce la freccia è quella dell'Apollo antico il serpente è il pitone del mito il drago verde dei filosofi ermetici la lettera Aleph rappresenta l'unità equilibrata questo pentacolo si riproduce sotto diverse forme nei talismani dell'antica magia ma a volte il serpente viene rimpiazzato dal pavone di Giunone il pavone dalla testa reale dalla coda multicolore il simbolo della luce analizzata l'uccello della grande opera di cui il piumaggio è tutto scintillante d'oro a volte invece del pavone colorato c'è l'agnello bianco l'agnello o il giovane ariete solare attraversato dalla croce come lo si vede ancora nelle insegne della città di Rouen il pavone la riete e il serpente rappresentano lo stesso segno geroglifico quello del principio passivo e lo scettro di Giunone la croce e la freccia sono il principio attivo la volontà l'azione magica la coagulazione del solvente la fissazione per la proiezione del volatile la penetrazione della terra da parte del fuoco l'unione dei due è la bilancia universale è il grande arcano è la grande opera è l'equilibrio di Jacqueline e di Boas il trigramma LPD che accompagna questa figura vuol dire libertà potere dovere e significa anche luce proporzione densità legge principio e diritto i frammassoni hanno cambiato l'ordine delle lettere scrivendo LDP ne fanno le iniziali delle parole libertà di pensiero che inscrivono su un ponte simbolico leggendovi per i profani libertà di passare negli atti del processo di Cagliostro è indicato che lui stesso dava queste tre lettere nei suoi interrogatori un altro significato le avrebbe tradotte con questa leggenda Lilia Destru e Pedibus ovvero Calpeste e Gigli e si può citare a sostegno di questa versione una medaglia malinconica del XVI del XVII secolo dove si vede una spada che taglia un fusto del giglio con queste parole sull'esergo Talem David Ultio Messem Il nome Il nome di Asharat che prendeva Cagliostro scritto cabalisticamente in ebraico esprime la tripla unità unità di principio e di equilibrio unità di vita e perpetuità del movimento rigeneratore unità di fine in una sintesi assoluta Il nome di Atotas maestro di Cagliostro si compone del nome di Tot e delle sillabe Al e As che lette cabalisticamente sono Sala che significa messaggero inviato Il nome intero significa dunque Tot il messia degli egiziani e tale era in effetti colui che Cagliostro riconosceva innanzitutto per maestro La dottrina del grande cofto tale era si sa il titolo che prendeva Cagliostro la sua dottrina diciamo aveva un doppio scopo la rigenerazione morale e la rigenerazione fisica Ecco per la rigenerazione morale i precetti del grande cofto Monta sul Sinai con Mosè sul Calvario poi sul Tabor con Faleg sul Carmelo con Elia Sulla cima della montagna tu costruirai il tuo tabernacolo Sarà diviso in tre parti unite assieme e quella di mezzo avrà tre piani Il primo piano sarà il refettorio Il piano di mezzo sarà una camera rotonda con dodici letti attorno a uno e mezzo Questa sarà la camera del sonno e dei sogni La camera superiore quella del terzo piano sarà quadrata e aperta con sedici finestre e quattro da ogni lato Questa sarà la camera della luce La pregherai solo per quaranta giorni e dormirai per quaranta notti nel dormitorio dei dodici maestri Allora tu riceverai i segni dei sette geni e otterrai da loro il pentagramma tracciato sul foglio di pergamena vergine è il segno che nessuno conosce se non colui che lo riceve è il carattere occulto del ciotolo bianco di cui si è parlato nella profezia del più giovane dei dodici maestri Allora il tuo spirito sarà illuminato da un fuoco divino e il tuo corpo diverrà puro come quello di un bambino la tua penetrazione non avrà limiti il tuo potere sarà immenso tu entrerai nel riposo perfetto che è l'inizio dell'immortalità e potrei dire con verità e senza orgoglio io sono colui che è Questo enigma significa che per rigenerarsi moralmente occorre studiare comprendere e realizzare l'alta cabala le tre camere sono l'alleanza della vita fisica delle aspirazioni religiose e della luce filosofica i dodici maestri sono i grandi rivelatori di cui occorre comprendere i simboli il segno dei setti spiriti è l'iniziazione al grande arcano eccetera eccetera tutto questo è dunque allegorico e non si tratta di far costruire realmente una casa a tre piani come nella massoneria non si tratta di costruire un tempio a Gerusalemme veniamo adesso al segreto della rigenerazione fisica occorre sempre seguendo le prescrizioni occulte del grande cofto fare ogni 50 anni un ritiro di 40 giorni come un giubileo durante la luna piena di maggio solo in campagna con una persona fedele digiunare per 40 giorni bevendo la rugiada di maggio raccolta sul grano in erba con un telo di lino puro e bianco mangiando delle erbe tenere e nuove cominciare il pasto con un gran bicchiere di rugiada e finirlo con un biscotto o una semplice crosta di pane il diciassettesimo giorno un leggero salasso prendere sei gocce di balsamo d'azoto il mattino e sei la sera aumentare due gocce per giorno fino al trentaduesimo rinnovare allora la piccola emissione di sangue al crepuscolo del mattino dopo dormire e restare a letto fino alla fine della quarantena prendere al primo risveglio dopo il salasso un primo grano di medicina universale si proverà uno svenimento che deve durare tre ore poi delle convulsioni delle traspirazioni e delle evacuazioni considerevoli si cambieranno in seguito biancheria e letto occorre dopo prendere un brodo di bue senza grassi condito con ruta salvia valeriana verbena e melissa il giorno seguente secondo grano di medicina universale vale a dire di mercurio astrale combinato con zolfo d'oro il giorno dopo prendere un bagno tiepido il trentaseiesimo giorno bere un bicchiere di vino d'egitto il trentasettesimo terzo e ultimo grano di medicina universale seguirà un sonno profondo i capelli i denti e le unghie si rinnoveranno la pelle si rinnoverà il trentottesimo giorno bagno alle erbe aromatiche sunnominate il trentanovesimo giorno inghiottire due cucchiai di vino rosso due gocce dell'elisir di Asharat il quarantesimo giorno l'opera è raggiunta e il vecchio è ringiovanito è per mezzo di questo regime giubilare che Cagliostro pretendeva di aver vissuto lui stesso vari secoli era come si vede una nuova preparazione del famoso bagno di immortalità degli ignostici menandriti Cagliostro lo credeva seriamente? davanti ai suoi giudici mostrò molta fermezza e presenza di spirito si dichiarò cattolico e disse che onorava nel papa il capo della gerarchia religiosa sulle questioni relativi alle scienze occulte rispose in un modo enigmatico e poiché gli si diceva che le sue risposte erano assurde e inintelligibili come potete sapere che sono assurde rispose se le trovate inintelligibili i giudici si inquietarono e gli domandarono bruscamente i nomi dei peccati capitali Cagliostro nominò la lussuria l'avarizia l'invidia la gola e la pigrizia dimenticate l'orgoglio e la collera gli dissero perdonatemi replicò l'accusato io non li ho dimenticati ma non volevo nominarli davanti a voi per rispetto e per paura di offendervi venne condannato a morte poi la pena fu commutata in una detenzione perpetua nella sua prigione Cagliostro domandò di confessarsi e designò lui stesso il prete era un uomo presso a poco della sua taglia il confessore entrò e dopo un po' di tempo lo si vide riuscire qualche ora dopo il carceriere entrando nella prigione del condannato vi trovò il cadavere di un uomo strangolato questo cadavere sfigurato era coperto degli abiti di Cagliostro non si ritrovò mai il prete gli amanti del meraviglioso assicurano che il grande cofto è attualmente in America e che è il pontefice supremo e invisibile dei credenti agli spiriti che comunicano battendo i colpi capitolo terzo profezie di Casot la scuola dei filosofi sconosciuti fondata da Pasqualis Martinez e continuata da Saint-Martin sembra aver raccolto gli ultimi adepti della vera iniziazione Saint-Martin conosceva la chiave antica dei tarocchi vale a dire il mistero degli alfabeti sacri e dei geroglifici ieratici ha lasciato vari pentacoli curiosissimi che non sono mai stati stampati e di cui possediamo delle copie uno di questi pentacoli è la chiave tradizionale della grande opera e Saint-Martin la chiama chiave dell'inferno perché la chiave delle ricchezze i martinisti fra gli illuminati furono gli ultimi cristiani e furono gli iniziatori del famoso Casot abbiamo detto che nel diciottesimo secolo si era creata una scissione nell'illuminismo gli uni conservatori della tradizione della natura e della scienza volevano restaurare la gerarchia gli altri al contrario volevano livellare tutto rivelando il grande arcano che avrebbe reso impossibile nel mondo la regalità e il sacerdozio tra questi ultimi c'erano ambiziosi e scellerati che speravano di dominare sulla macerie del mondo altri erano semplicemente crudeli e sciocchi i veri iniziati vedevano con spavento la società lanciata così verso il precipizio e prevedevano tutti gli orrori dell'anarchia questa rivoluzione che in seguito doveva apparire al genio morente di Vernion sotto la cupa figura di Saturno che divora i suoi figli si drizzava già tutta armata nei sogni profetici di Casot una sera che si trovava in mezzo a degli strumenti ciechi del giacobinismo futuro predisse a tutti il loro destino ai più forti e ai più deboli il patibolo ai più entusiasti il suicidio e la sua profezia che parvi allora solo una lugubre facezia si realizzò completamente questa profezia non era in effetti che un calcolo di probabilità e il calcolo si dimostrò rigoroso perché le probabilità si erano già mutate in conseguenze necessarie la Harp che in seguito fu molto stupito da questa predizione vi aggiunse qualche dettaglio per renderla più meravigliosa come il numero esatto di colpi di rasoio che doveva darsi uno dei convitati eccetera bisogna perdonare un po' di licenza poetica a tutti i narratori di cose straordinarie simili abbellimenti non sono propriamente delle menzogne sono semplicemente poesia e stile dare agli uomini disuguali per natura una libertà assoluta è organizzare la guerra sociale e quando coloro che devono contenere gli istinti feroci delle folle hanno la follia di scatenarli non occorre essere un gran mago per vedere che i primi saranno divorati poiché le cupidige animali si divoreranno tra loro fino alla venuta di un cacciatore audace e abile che li finirà a colpi di fucile o con un solo lancio di rete Casot aveva previsto Marat Marat prevedeva una reazione e un dittatore Casot aveva debuttato nel mondo con qualche opuscolo di letteratura frivola e si racconta che dovette la sua iniziazione alla pubblicazione di uno dei suoi romanzi intitolato Il diavolo innamorato questo romanzo in effetti è pieno di intuizioni magiche e la più grande delle prove nella vita quella dell'amore vi viene mostrata sotto la vera luce della dottrina degli adepti l'amore fisico in effetti questa passione delirante questa follia invincibile per coloro che sono balocchi dell'immaginazione non è che una seduzione della morte che vuole rinnovare la sua messe con la nascita la venere fisica è la morte incipriata e vestita da cortigiana l'amore è distruttore come sua madre e recluta delle vittime per lei quando la cortigiana è sazia la morte si smaschera e chiede la sua preda a sua volta ecco perché la chiesa che salva la nascita con la santità del matrimonio svela e previene le debolezze della morte condannando senza pietà le deviazioni dell'amore se la donna amata non è un angelo che si immortala per i sacrifici del dovere nelle braccia di colui che l'ama è una strega che lo snerva lo spossa e lo fa morire mostrandosi infine a lui in tutto l'orrore del suo egoismo brutale disgrazia per le vittime del diavolo innamorato disgrazia a coloro che si lasciano prendere dalle lusinghe lascive di biondetta presto il viso grazioso della ragazza si trasformerà per loro in quella spaventosa testa di cammello che appare così tragicamente in fondo al romanzo di Casotte vi sono negli inferni dicono i cabalisti due regine delle streghe una è Lilith la madre degli aborti e l'altra è Naema la fatale bellezza assassina quando un uomo è infedele alla sposa che gli ha destinato il cielo quando si vota alle sregolatezze di una passione sterile Dio gli riprende la sua sposa legittima e santa per abbandonarlo nelle braccia di Naema questa regina delle streghe sa mostrarsi con tutti i suoi fascini della verginità e dell'amore ella distoglie il cuore dai padri e lo impegna ad abbandonare il proprio dovere e i propri figli essa spinge gli uomini maritati alla vedovanza e costringe ad un matrimonio sacrilego gli uomini consacrati a Dio quando usurpa il titolo di sposa è facile riconoscerla il giorno del suo matrimonio è calva perché i capelli della donna che sono il velo del pudore le sono interdetti in quel giorno poi dopo il matrimonio affetta la disperazione e il disgusto dell'esistenza predica il suicidio e lascia infine con violenza con lui che le resiste lasciandolo marchiato con una stella infernale fra i due occhi Naema può divenire madre dicono ancora ma non alleva mai i suoi figli li dà da divorare a Lilith la sua funesta sorella queste allegorie cabalistiche che si possono leggere nel libro ebraico della rivoluzione delle anime nel dizionario cabalistico del Soar e nei commentari dei talmudisti del Sota sembrano essere stati conosciuti o divinati dall'autore del diavolo innamorato così si dice che dopo la pubblicazione di quest'opera ricevette la visita di un personaggio sconosciuto avvolto in un mantello al modo dei franchi giudici questo personaggio gli fece dei segni che Casot non comprese poi infine gli chiese se realmente non fosse iniziato alla risposta negativa di Casot lo sconosciuto assunse una fisionomia meno cupa e gli disse voglio che non siate un depositario infedele dei nostri segreti ma un vaso di elezione per la scienza volete realmente dominare le passioni umane e gli spiriti impuri Casot era curioso per cui ne seguì una lunga conversazione che fu preliminare di molte altre e l'autore del diavolo innamorato fu realmente iniziato la sua iniziazione doveva farne un partigiano devoto dell'ordine e un nemico pericoloso degli anarchici in effetti abbiamo visto che si tratta di una montagna su cui ci si eleva per rigenerarsi secondo i simboli di Cagliostro ma questa montagna è bianca di luce come il Tabor o rossa di sangue come il Sinai e il Calvario ci sono due sintesi cromatiche dice il Soar il bianco che è quella dell'armonia e della vita morale il rosso che è quella della guerra e della vita materiale il colore della luce e quello del sangue i giacobini volevano innalzare lo stendardo del sangue e il loro altare si elevava già sulla montagna rossa Casot si era levato sotto lo stendardo della luce e il suo tabernacolo mistico era posto sulla montagna bianca la montagna sanguinante trionfò un momento e Casot fu proscritto aveva una figlia una fanciulla eroica che lo salvò dal massacro dell'abbazia mademoiselle Casot non aveva davanti al nome delle particelle nobiliari e fu questo che la salvò in quel brindisi di una orribile fraternità per il quale viene immortalata la pietà filiale di mademoiselle de sombrei questa nobile figlia che per discolparsi di essere una ragazza nobile dovette bere la grazia del padre nel bicchiere sanguinante degli sgozzatori Casot aveva profetizzato la propria morte perché la sua coscienza lo costringeva a lottare fino alla morte contro l'anarchia continuò dunque a obbedire alla sua coscienza fu nuovamente arrestato e comparve davanti al tribunale rivoluzionario ma era già stato condannato il presidente dopo aver pronunciato il suo arresto gli fece una strana allocuzione piena di stima e di dispiacere lo esortò a essere degno di se stesso fino all'ultimo e a morire da uomo di cuore come era vissuto la rivoluzione anche in tribunale era una guerra civile e i fratelli si porgevano il saluto prima della morte da entrambe le parti vi erano convinzioni sincere e per conseguenza rispettabili colui che muore perché crede la verità è un eroe anche se si inganna e gli anarchici della montagna sanguinante non furono solamente arditi per aver inviato gli altri al patibolo ma vi montarono essi stessi senza impallidire che Dio e la posterità siano i loro giudici capitolo quarto la rivoluzione francese c'era al mondo un uomo profondamente indignato di sentirsi debole e vizioso e che dava la colpa della sua vergogna a tutta la società quest'uomo era l'amante infelice della natura e la natura nella sua collera l'aveva armato di eloquenza come di un flagello osò sostenere contro la scienza la causa dell'ignoranza contro la civiltà quella della barbarie contro tutte le altezze sociali in una parola tutte le bassezze il popolo per istinto lapidò questo insensato ma i grandi lo accolsero le donne lo fecero diventare alla moda e ottenne tanto successo che il suo odio contro l'umanità aumentò e finì per uccidersi di collera e di disgusto dopo la sua morte il mondo si scosse per provare a realizzare i sogni di Jean-Jacques Rousseau e i cospiratori che dopo la morte di Jacques de Molay avevano giurato la rovina dell'edificio sociale stabilirono in Roup-la-Trière nella stessa casa dove aveva vissuto Jean-Jacques una loggia inaugurata sotto gli auspici del fanatico di Ginevra questa loggia divenne il centro del movimento movimento rivoluzionario e un principe di sangue reale venne a giurare la perdita dei successori di Filippo il Bello sulla tomba di Jacques de Molay fu la nobiltà del XVIII secolo che corruppe il popolo in quell'epoca erano presi da una furia di uguaglianza che era cominciata con le orge della reggenza allora ci si incanagliva per divertimento e la corte si divertiva a parlare il gergo di strada i registri dell'ordine dei templari attestano che il reggente era gran maestro di questa orribile società segreta e che ebbe per successore il duca di Men i principi di Bourbon-Condé e di Bourbon-Conti e il duca di Cossé-Brisac Cagliostro aveva accolto nel suo rito egiziano gli ausiliari del secondo ordine tutti si affrettavano ad obbedire a questo impulso segreto e irresistibile che spinge verso la loro distruzione le civiltà in decadenza gli eventi non si fecero attendere e giunsero quali casotto li aveva previsti precipitarono spinti da una mano invisibile il disgraziato Luigi XVI era consigliato dai suoi più mortali nemici organizzarono e fecero fallire il disgraziato progetto di evasione che portò la catastrofe di Varenne come avevano organizzato l'orgia di Versailles come ordinarono la carneficina del 10 agosto ovunque avevano compromesso il re ovunque lo salvarono dal furore del popolo per esasperare questo furore e portare agli eventi che si preparavano da secoli era un patibolo che occorreva alla vendetta dei templari sotto la pressione della guerra civile l'assemblea nazionale dichiarò il re sospeso dei suoi poteri e gli assegnò per residenza il palazzo del Lussemburgo ma un'altra assemblea più segreta aveva deciso altrimenti la residenza del re destituito doveva essere una prigione e questa prigione non poteva essere che l'antico palazzo dei templari rimasto in piedi col suo torrione e le sue torrette per attendere questo prigioniero reale promesso a dei ricordi inesorabili il re era nel tempio e l'elite del clero francese era in esilio all'abbazia il cannone tuonava sul pont Neff e scritte minacciose dichiaravano la patria in pericolo allora degli uomini sconosciuti organizzarono il massacro un personaggio odioso gigantesco dalla lunga barba era dovunque ci fossero preti da sgozzare prendi diceva loro con un ghigno selvaggio ecco per gli albigesi e i valdesi prendi ecco per i templari ecco per il san bartolomeo ecco per i proscritti delle seven e colpiva con rabbia e colpiva con la sciabola il coltello con la mazza le armi si rompevano e si rinnovavano nelle sue mani era rosso di sangue dalla testa ai piedi la barba ne era tutta piena e giurava con delle bestemmie spaventose che non l'avrebbe lavata che con del sangue fu quest'uomo che propose un brindisi alla nazione all'angelica mademoiselle de sombreil un altro angelo pregava intanto nella torre del tempio offrendo a dio i suoi dolori e quelli dei due figli per ottenere da lui il perdono per la regalità e per la Francia per espiare le folli gioie della pompa dura e della du barri occorrevano tutte le sofferenze e tutte le lacrime di questa vergine martire la santa madame elisabeth il giacobinismo era stato già nominato prima che venisse scelta l'antica chiesa dei giacobini per riunire i capi della congiura questo nome viene da quello di Jacques nome fatale e predestinato alla rivoluzione gli sterminatori in Francia si sono sempre chiamati Jacques il filosofo la cui fatale celebrità preparò nuove Jacques Herie e servì ai progetti sanguinosi dei cospiratori gioanniti si chiamava Jean Jacques e i motori occulti della rivoluzione francese avevano giurato il rovesciamento del trono e dell'altare sulla tomba di Jacques de Molay dopo la morte di Luigi XVI al momento stesso in cui veniva a spirare sotto l'ascia della rivoluzione l'uomo dalla lunga barba questo ebreo errante dell'omicidio e della vendetta montò sul patibolo davanti alla folla spaventata prese del sangue reale a piene mani e spruzzandolo sulla testa del popolo gridò con una voce terribile popolo francese io ti battezzo in nome di Jacques della libertà nota Proudhon nel suo giornale riporta altrimenti le parole di quest'uomo noi prendiamo per buone quelle di un vecchio che le ha intese la metà dell'opera era compiuta ed era ormai contro il Papa che l'armata del Tempio doveva dirigere tutti i suoi sforzi la spoliazione delle chiese la profanazione delle cose sacre le processioni derisorie l'inaugurazione del culto della ragione nella città di Parigi furono il segnale di questa nuova guerra il Papa fu bruciato in effigie al Palais Royal e presto le armate della Repubblica si disposero a marciare su Roma Jacques de Molay e i suoi compagni potevano essere stati dei martiri ma i loro vendicatori hanno disonorato la loro memoria la regalità si rigenerò sul patipolo di Luigi XVI la chiesa trionfò nella prigionia di Pio VI trascinato prigioniero a Valenza e morente di fatica e dolori ma gli indegni successori degli antichi cavalieri del Tempio morirono nella vergogna della loro funesta vittoria c'erano stati nello stato ecclesiastico dei grandi abusi e dei grandi scandali causati da grandi ricchezze le ricchezze scomparvero e si videro tornare le grandi virtù questi disastri temporali e questo trionfo spirituale erano stati predetti nell'Apocalisse di San Metodio di cui abbiamo già parlato possediamo di questo libro un esemplare scritto in gotico stampato nel 1527 e decorato con le figure più stupefacenti vi si vedono preti indegni che gettano le cose santi e i porci poi il popolo in rivolta che assassina i preti e rompe sulle loro teste i vasi sacri vi si vede poi il papa prigioniero di soldati poi un cavaliere incoronato che con una mano solleva lo stendardo della Francia e con l'altra stende la sua spada sull'Italia vi si vedono due aquile e un gallo che porta una corona sulla testa e un doppio fiore di giglio sul petto vi si vede la seconda aquila che fa alleanza con i grifoni e i liocorni per scacciare l'avvolto io dal nido e molte altre cose straordinarie questo libro singolare non è paragonabile che a un'edizione illustrata delle profezie dell'abate Gioacchino da Fiore in cui si vedono i ritratti di tutti i papi a venire con i segni allegorici del loro regno fino alla venuta dell'anticristo cronache strane dell'avvenire raccontate come se fossero passate e che farebbero credere a una successione di mondi in cui gli avvenimenti si rinnovano di modo che la previsione delle cose future non sarebbe che l'evocazione dei riflessi perduti del passato capitolo quinto fenomeni di mediomania nel 1772 un abitante di Semande di nome Loiseau in chiesa credete di vedere in ginocchio accanto a sé un personaggio molto singolare era un uomo tutto di colore scuro e che aveva come solo abito dei calzoni di lana grossolana quest'uomo aveva la barba lunga i capelli crespi e attorno al collo una cicatrice vermiglia e circolare portava un libro sul quale era tracciata in lettere d'oro questa iscrizione e c'è Agnus Day Loiseau si stupì molto vedendo che questa strana figura non era notata da nessuno terminò la sua preghiera e tornò a casa là trovò lo stesso personaggio che lo attendeva allora si avanzò verso di lui per parlargli e gli chiese cosa volesse ma il visitatore fantastico era scomparso all'improvviso Loiseau si mise a letto con la febbre senza poter dormire la notte vite ed un tratto la camera rischiarata da una luce rossastra credete a un incendio e si alzò bruscamente a sedere in mezzo alla stanza sul suo tavolo vide un piatto dorato e su questo piatto tutto bagnato di sangue la testa del suo visitatore del giorno questa testa era attorniata da un'aureola rossa e roteava gli occhi in un modo terribile aprendo la bocca come per gridare disse con voce strozzata e sibilante attendo le teste del re e quelle di cortigiani del re attendo Erode ed Erodiade poi l'aureola si spense e il malato non vide altro qualche giorno dopo guarì e poté ritornare ai suoi affari mentre attraversava la piazza Luigi XV fu avvicinato da un povero che gli chiese l'elemosina lo asò senza guardarlo estrasse una moneta e la gettò nel cappello dello sconosciuto grazie gli disse questo è una testa di re ma qui aggiunse tendendo la mano e mostrandogli il centro della piazza qui ne cadrà un'altra ed è quella che attendo lo asò allora guardò il povero con sorpresa e gettò un grido riconoscendo la strana figura della sua visione taci disse il mendicante o ti prenderanno per pazzo perché nessuno mi può vedere a parte te tu mi hai riconosciuto lo vedo sono in effetti San Giovanni Battista il precursore e vengo ad annunciarti il castigo dei successori di Erode e degli ereidi di Caifa puoi ripetere tutto quello che ti dirò dopo questo lo asò credete di vedere quasi tutti i giorni accanto a sé Giovanni Battista la visione gli parlava lungamente delle disgrazie che stavano per affliggere la Francia e la Chiesa lo asò raccontò la sua visione a qualcuno che ne fu colpito e che divenne visionario come lui formarono insieme una società mistica che si riuniva in gran segreto i membri di questa associazione si ponevano in cerchio e si tenevano la mano attendendo in silenzio le comunicazioni attendevano spesso varie ore poi la figura di San Giovanni appariva in mezzo a loro cadevano tutti insieme o successivamente in un sonno magnetico e vedevano svolgersi davanti ai propri occhi le scene future della rivoluzione e della restaurazione il direttore spirituale di questa setta o di questo cerchio era un religioso di nome Dom Gerl ne divenne il capo alla morte di Loiseau che giunse nel 1778 poi all'epoca della rivoluzione essendo stato conquistato dall'entusiasmo repubblicano fu rigettato dagli altri settari che seguirono in questo le ispirazioni della loro principale sonnambula che chiamavano la sorella Françoise André Dom Gerl aveva anche la sua sonnambula e volle esercitare in una mansarda di Parigi il mestiere allora nuovo di magnetizzatore la veggente era una vecchia quasi cieca di nome Catherine Théau e la fece delle predizioni che si realizzarono guarì vari malati e poiché le profezie avevano sempre qualcosa di politico la polizia del comitato di salute pubblica non tardò ad occuparsene una sera Catherine Théau circondata dai suoi adepti era in estasi ascoltate disse conosco il rumore dei suoi passi è l'eletto misterioso della provvidenza è l'angelo della rivoluzione è colui che sarà il salvatore e la vittima è il re delle rovine e della rigenerazione lo vedete si avvicina anche lui alla frontecinta della reola sanguinante del precursore è lui che porterà tutti i crimini di coloro che vogliono farlo morire oh che i tuoi destini sono grandi tu che colmerai l'abisso cadendovi lo vedete vestito a festa tiene in mano dei fiori sono le corone del suo martirio poi commuovendosi e scoppiando in lacrime quanto sono stati crudeli le tue prove figlio mio gridò e quanti ingrati malediranno il tuo ricordo nei tempi futuri alzatevi alzatevi e inchinatevi è il re è il re dei sacrifici sanguinari in quel momento la porta si aprì senza rumore e un uomo col cappello tirato sugli occhi e avvolto da un mantello entrò in camera l'assemblea si alzò Catherine Théo tese le sue mani tremanti verso il nuovo venuto sapevo che dovevi venire e io ti attendevo colui che tu non vedi e che io vedo alla mia destra ti ha mostrato a me oggi quando ti è stato presentato un rapporto contro di noi ci hanno accusati di cospirare per il re e in effetti io ho parlato di un re di un re di cui il precursore mi mostra in questo momento la corona tinta di sangue e sai tu su quale testa è sospesa sulla tua Maximilien a questo nome lo sconosciuto trassalì come se un ferro incandescente l'avesse toccato sul petto gettò attorno a sé uno sguardo rapido e inquieto poi riprendendo un contegno impassibile che volete dire mormorò con voce breve e agitata io non vi comprendo voglio dire riprese Catrinteo che ci sarà un bel sole quel giorno in cui un uomo vestito di blu e con in mano uno scettro di fiori sarà un istante il re e il salvatore del mondo voglio dire che tu sarai grande come Mosè e come Orfeo quando mettendo il piede sulla testa del mostro pronto a divorarci dirai al carnefici e alle vittime che esiste un dio smetti di nasconderti Robespierre e mostraci senza timore questa testa coraggiosa che Dio va a gettare sul piatto vuoto della sua bilancia la testa di Luigi XVI è pesante e solo la tua può equilibrarne il peso è una minaccia disse freddamente Robespierre lasciando cadere il mantello o credete con questi scherzetti di abbattere il mio patriottismo e influenzare la mia coscienza pretendete con delle minacce fantastiche dei vaneggiamenti di vecchi e di sorprendere le mie risoluzioni come avete spiato i miei passi voi mi attendevate a quel che sembra e disgrazia a voi per avermi atteso poiché dal momento in cui voi forzate il curioso il visitatore sconosciuto l'osservatore ad essere Maximilien Robespierre rappresentante del popolo allora io come rappresentante del popolo vi denuncio al comitato di salute pubblica e farò procedere al vostro arresto dopo queste parole Robespierre si buttò il mantello sulla testa incipriata e camminò deciso verso la porta nessuno osò trattenerlo né rivolgergli la parola Catherine Théau giunse le mani e disse rispettate le sue volontà è re e pontefice della nuova era se ci colpisce è Dio che vuole colpirci porgiamo il collo al coltello della provvidenza gli iniziati di Catherine Théau attesero tutta la notte che venissero ad arrestarli ma non comparve nessuno si separarono il giorno dopo due altri giorni e due altre notti passarono in cui i membri della setta non cercarono di nascondersi il quinto giorno Catherine Théau e coloro che venivano chiamati i suoi complici furono denunciati ai Giacobini da un nemico segreto di Robespierre che insinuò abilmente dei dubbi contro il tribuno si parlava di dittatura si era pronunciato addirittura il nome del re Robespierre lo sapeva e come poteva tollerarlo Robespierre alzò le spalle ma l'indomani Catherine Théau Domgerl e qualche altro furono arrestati e inviati in quelle prigioni che non si aprivano più una volta che vi si era entrati che per fornire il lavoro quotidiano al boia la storia dell'incontro di Robespierre con Catherine Théau trapelò non si sa come già la contropolizia dei futuri termidoriani spiava il dittatore presunto e lo si accusava di misticismo perché credeva in Dio Robespierre non era né l'amico né il nemico della setta dei nuovi gioanniti era venuto da Catherine per osservare dei fenomeni seccato di essere stato riconosciuto o se ne uscì a proferire delle minacce che non realizzò e coloro che trasformarono in cospirazione le conventicole del vecchio monaco e della vecchia beghina avevano sperato di far uscire da questo processo un dubbio o almeno un po' di ridicolo che si sarebbero attaccati alla reputazione dell'incorruttibile la profezia di Catherine Théo ebbe la sua realizzazione con l'inaugurazione del culto dell'essere supremo e la reazione rapida del termidoro nel frattempo la setta che si era raccolta attorno alla sorella Andrè di cui un signor Dussi scriveva le rivelazioni continuava le sue visioni e i suoi miracoli la loro idea fissa era la conservazione della legittimità per il regno futuro di Luigi XVII molte volte salvarono in sogno il piccolo orfanello del tempio e credettero di averlo realmente salvato delle antiche profezie promettevano il trono del Giglio a un giovane che era stato in passato prigioniero Santa Brigitta Santa Hildegarda Bernalto Yard Lichtenberg annunciavano tutti una restaurazione miracolosa dopo dei grandi disastri i neo-gioanniti furono gli interpreti e i continuatori di queste predizioni ma mancarono loro i Luigi XVII ne ebbero anzi in successione sette e otto tutti perfettamente autentici e non meno perfettamente conservati è all'influenza di questa setta che dobbiamo attribuire le rivelazioni del contadino Marten de Gayardon e i prodigi di Vintras in questo circolo magnetico come nelle assemblee dei quaccheri o dei tremanti della Gran Bretagna l'entusiasmo era contagioso e si trasmetteva di fratello in fratello dopo la morte di sorella Andrè la seconda vista e la facoltà di profetizzare furono a pannaggio di uno chiamato Le Grosse che era a Charenton quando Marten vi fu messo provvisoriamente riconobbe un fratello nel contadino che non aveva mai visto prima tutti questi settari a forza di volere un Luigi XVII lo crearono in qualche modo vale a dire che evocavano tali allucinazioni che dei medium prendevano l'aspetto del tipo magnetico e si credevano realmente l'infante regale sfuggito al tempio attirando su di sé tutti i riflessi astrali della dolce e fragile vittima e si sovvenivano di circostanze conosciute soltanto dalla famiglia di Luigi XVI questo fenomeno per quanto paia incredibile non è impossibile né ignoto Paracelso assicura che se per uno sforzo straordinario di volontà ci si può immaginare di essere una persona diversa da se stessi per conseguenza sarà possibile conoscere i pensieri più segreti della persona con la quale ci si sta identificando spesso dopo un incontro che ha creato un vincolo di immaginazione fra noi e il nostro interlocutore sogniamo dormendo dei ricordi inediti della sua vita fra i falsi Luigi XVII occorre dunque riconoscere che alcuni di loro non erano impostori ma degli allucinati e fra questi ultimi occorre distinguere un genovese di nome Naundorf visionario come Svedenborg e di una convinzione così contagiosa che degli antichi servitori della famiglia reale lo riconobbero e si gettarono ai suoi piedi piangendo aveva su di sé i segni particolari e le cicatrici di Luigi XVII raccontava la sua infanzia con una verità stupefacente entrava in quei dettagli insignificanti che sono decisivi per i ricordi intimi i suoi stessi tratti erano quelli che avrebbe avuto l'orfanello di Luigi XVI se fosse vissuto una sola cosa infine gli mancava per essere veramente Luigi XVII era quella di non essere che un certo Naundorf il potere contagioso del magnetismo di questo allucinato era tale che la sua morte non disingannò alcuni dei suoi credenti al suo regno futuro noi abbiamo visto uno dei più convinti al quale obiettammo timidamente quando parlava della prossima restaurazione da parte di colui che chiamava il vero erede legittimo che il suo Luigi XVII era morto è dunque più difficile a Dio resuscitarlo di quanto non sia stato ai nostri padri il salvarlo dal tempio ci rispose con un sorriso così trionfante che era quasi sdegnoso a questo non avemo niente da replicare e fumo perciò costretti a inchinarci davanti a una simile convinzione capitolo sesto gli illuminati della Germania da Germania la terra natale del misticismo metafisico e dei fantasmi fantasma è la stessa dell'antico impero romano sembra sempre evocare la grande ombra di Arminio consacrandogli il simulacro delle aquile prigioniere di Varo il patriottismo dei giovani tedeschi è sempre quello degli antichi germanici non sognano l'invasione delle ridenti contrade italiane non lo accettano tutt'al più che come una rivincita ma morirebbero mille volte per difendere i loro focolari amano i loro vecchi castelli e le loro vecchie leggende delle rive del Reno leggono pazientemente i passi più oscuri della loro filosofia e vedono nelle brume del loro cielo e nel fumo delle loro pipe mille cose indicibili che li iniziano alle meraviglie dell'altro mondo molto prima che si parlasse in America e in Francia di medium e di evocazioni c'erano in Prussia degli illuminati e dei veggenti che colloquiavano regolarmente con i morti un grande signore aveva fatto costruire a Berlino una casa destinata alle evocazioni il re Federico Guglielmo era molto curioso di tutti questi misteri e si fermava spesso in questa casa con un adepto di nome Steinert le impressioni che riceveva producevano in lui sensazioni così vive che sveniva e non riveriva che quando gli si dava qualche goccia di un elisir magico analogo a quello di Cagliostro si trova in una corrispondenza segreta sui primi tempi del regno di questo principe citato dal marchese di Luket nella sua diatriba contro gli illuminati una descrizione della camera oscura in cui si facevano le evocazioni era quadrata separata in due da un velo trasparente davanti a cui era posto il fornello magico o l'altare dei profumi dietro il velo c'era un piedistallo sul quale si mostrava lo spirito Hector Sausen nel suo libro tedesco sulla magia descrive tutta l'apparecchiatura di questa fantasmagoria è un sistema di macchine di procedimenti per aiutare l'immaginazione a crearsi fantasmi che desidera e per gettare i consultanti in una sorta di sonnambulismo vigile molto simile alla sovrecitazione nervosa prodotta dall'oppio dall'ashish quelli che si accontenteranno delle spiegazioni date dall'autore che ora citeremo non vedranno nelle apparizioni che degli effetti da lanterna magica ma vi è certamente dell'altro e la lanterna magica in quest'affare è certamente uno strumento utile ma non assolutamente necessario alla produzione del fenomeno non si fanno uscire dai riflessi di un vetro colorato dei visi conosciuti in passato e che si evocano col pensiero non si fanno parlare le immagini dipinte di una lanterna e non vengono a rispondere alle domande della coscienza il re di Prussia a cui apparteneva la casa sapeva meraviglia come era congegnata e non era vittima di una ciarlataneria come pretende l'autore della corrispondenza segreta i mezzi naturali preparano ma non realizzano il prodigio accadevano realmente là delle cose che avrebbero stupito i più scettici e turbato i più arditi Schrepper d'altronde non impiegava né la lanterna magica né il velo ma faceva bere ai suoi visitatori un punch preparato da lui le figure che faceva apparire erano come quelle del medium americano home per metà corporee e producevano una sensazione strana a colui che provava a toccarle era qualcosa di analogo a una commozione elettrica che faceva rabbrividire l'epidermide e non si provava niente se prima di toccare la visione ci si erano lavate le mani Schrepper era in buona fede come anche l'americano home credeva alla realtà degli spiriti che evocava e si uccise quando arrivò a dubitarne la valet che morì anche lui di morte violenta era interamente dedito all'evocazione degli spiriti ne aveva due ai suoi ordini faceva parte di un cerchio in cui si cadeva in estasi per mezzo dell'armonica allora si faceva la catena e una specie di idiota serviva da interprete allo spirito scrivendo sotto il suo impulso questo spirito diceva di essere un cabalista ebreo morto prima della nascita di Gesù Cristo e fece scrivere al medium delle cose assolutamente degne dei sonnamboli di Cahagnè come per esempio questa rivelazione sulle pene dell'altra vita in cui lo spirito assicura che l'anima dell'imperatore Francesco fosse condannata nell'altro mondo a fare il conto e lo stato esatto di tutti i gusci di lumaca che possono esistere o essere esistiti in tutto l'universo rivelò anche che i veri nomi dei tre magi non erano affatto come dice la tradizione delle leggende Gaspare Melchiorre Baldassarre ma bensì Vrasafarmion Melchisedec e Baleatrasaron sembra di leggere dei nomi scritti dai nostri moderni tavolini rotanti lo spirito dichiarò inoltre che era lui stesso in penitenza per aver alzato la spada magica contro suo padre e che era disposto a donare ai suoi amici il suo ritratto su sua richiesta si posero dietro un paravento carte e colori tutti pronti con dei pennelli si vide allora disegnarsi sul paravento la silhouette di una piccola mano e si intese un lieve grattare sulla carta quando cessò il rumore tutti accorsero e si trovò un ritratto dipinto grossolanamente rappresentante un vecchio rabbino vestito di nero con un collare bianco che ricadeva sulle spalle e una calotta nera sulla cima della testa costume un po' eteroclito per un personaggio anteriore a Gesù Cristo la pittura d'altronde era macchiata e non corretta e sembrava molto l'opera di qualche bambino che si fosse divertito a fare un disegno ad occhi chiusi le istruzioni scritte dalla mano del medium sotto l'impulso di Gablidone sono di una oscurità che supera quelle di tutti i metafisici tedeschi non bisogna dare diceva il nome di maestà alla leggera maestà deriva da mago perché i maghi essendo pontefici e re erano le maestà primarie peccare mortalmente e offendere Dio nella sua maestà vale a dire ferirlo come padre gettando la morte nella fonte della vita la fonte del padre è luce e vita la fonte del figlio è sangue e acqua la luce dello spirito santo è fuoco e oro si pecca contro il padre con la menzogna contro il figlio con l'odio e contro lo spirito santo con la dissolutezza che è opera di morte e distruzione il buon Lavatè riceveva queste comunicazioni come degli oracoli e quando domandava allo spirito qualche nuovo chiarimento il grande iniziatore verrà rispondeva Gablidone nascerà il prossimo secolo allora la religione dei patriarchi sarà conosciuta sul nostro globo spiegherà al mondo il trigramma di Agion Elion Tetragrammaton e il signore il cui corpo è cinto di un triangolo apparirà sul quarto scalino dell'altare l'angolo supremo sarà rosso e la divisa misteriosa del triangolo sarà venite ad patres osfal che vuol dire la parola osfal chiese uno degli assistenti allo spirito il medium scrisse queste tre parole alfos m alfon elifismatis senza dare altre spiegazioni qualche interprete ne concluse che il mago promesso al ventesimo secolo si sarebbe chiamato mafon figlio di elifisma era una spiegazione forse un po' arrischiata niente è più pericoloso del misticismo perché produce la follia che distrugge tutte le combinazioni della saggezza umana sono sempre dei fogli a sconvolgere il mondo e quello che i grandi politici non prevedono mai sono i colpi di testa e i colpi di mano degli insensati l'architetto del tempio di Diana a Efesori promettendosi una gloria eterna aveva fatto i conti senza erostrato i girondini non avevano previsto Marat che ci voleva per cambiare l'equilibrio del mondo dice Pascal a proposito di Cromwell un granello di sabbia ha formato per caso nelle viscere di un uomo che grandi cose si compiono per delle cause insignificanti quando il tempio della civiltà crolla è sempre un cieco come Sansone a scuoterne le colonne un miserabile della feccia del popolo è insonne e crede di essere chiamato a liberare il mondo dall'anticristo quest'uomo pugnala Enrico IV e fa conoscere alla Francia costernata il nome di Ravaillac i tomaturghi tedeschi videro in Napoleone l'Apollyon dell'Apocalisse e si trovò un fanciullo un giovane illuminato di nome Stubbs per uccidere questo atlante militare che in quel momento portava sulle spalle il mondo colpito dal caos dell'anarchia ma questa influenza magnetica che l'imperatore definiva la sua stella era più potente allora del movimento fanatico dei circoli tedeschi Stubbs non poté o non osò colpire Napoleone volle interrogarlo di persona e ammirò la sua risoluzione e la sua audacia tuttavia poiché conosceva bene la propria grandezza non volle sminuire il novello scevola facendogli grazia lo stimò a sufficienza da prenderlo sul serio e da lasciarlo fucilare Carl Sand che uccise Cozbue era pure un disgraziato fanciullo perduto nel misticismo ingaggiato dalle società segrete in cui si giurava la vendetta su dei pugnali Cozbue non meritava forse tanto ma il coltello di Sand lo riabilitò e ne fece un martire è bello in effetti morire nemico e vittima di coloro che si vendicano con l'agguato e l'assassinio le società segrete della Germania avevano delle cerimonie e dei riti che si ricollegavano più o meno a quelli dell'antica magia nella società dei Mopsi per esempio si rinnovava con delle forme audaci e quasi piacevoli la celebrazione dei misteri del sabba e del ricevimento segreto dei templari il becco di Baphometto era rimpiazzato da un cane c'era Hermanubis al posto di Pan la scienza al posto della natura sostituzione equivalente poiché non si conosce la natura che per mezzo della scienza i due sessi erano ammessi dai Mopsi come al sabba il ricevimento era accompagnato da abbrutimento e smorfie e come dai templari si proponeva al recipientario di baciare a sua scelta il di dietro del diavolo quello del gran maestro o quello del Mopse il Mopse era come diremo una piccola figura di cartone ricoperta di seta rappresentante un cane chiamato Mops in tedesco si doveva in effetti prima di essere ammessi baciare il di dietro del Mopse come si baciava quello del becco di Mendes nelle iniziazioni del sabba i Mopsi non si impegnavano reciprocamente con giuramenti si davano semplicemente la loro parola d'onore che è il giuramento più sacro della gente onesta le loro riunioni si svolgevano come quelle del sabba in danze e festini solamente le dame restavano vestite e non appendevano dei gatti vivi alle loro cinture e non mangiavano bambini era un sabba civilizzato il sabba ebbe in Germania il suo grande poeta e la magia la sua epopea è il dramma gigantesco del Faust questa babele compiuta dal genio umano Goethe era iniziato a tutti i misteri della magia filosofica aveva anche praticato in gioventù la magia cerimoniale e il risultato di questi tentativi audaci era stato il nutrire un profondo disgusto della vita e una voglia violenta di morire realizzò in effetti il suo suicidio non in un atto ma in un libro scrisse il romanzo di Werther questa opera fatale che predica la morte e che ha fatto tanti proseliti poi vittorioso infine sullo scoraggiamento e sul disgusto arrivò alle regioni serene della verità e della pace e scrisse Faust Faust è il magnifico commentario di una delle più belle pagine del Vangelo la parabola del figlio al prodigo è l'iniziazione al peccato attraverso la scienza insubordinata al dolore per mezzo del peccato all'espiazione e alla scienza armonica attraverso il dolore il genio umano rappresentato da Faust prende come servo lo spirito del male che aspira a divenire suo maestro esaurisce presto tutto quello che l'immaginazione mette di gioia negli amori illegittimi attraversa le orge della follia poi attratto dal fascino della sovrana bellezza si risolleva dal fondo dei suoi incantesimi per salire alle altezze dell'astrazione e dell'ideale imperituro qui Mephistopele non è più a suo agio colui che rideva sempre diviene triste Voltaire fa posto a Chateaubriand via via che si fa luce l'angelo delle tenebre si torce su se stesso e si tormenta gli angeli lo incatenano egli li ammira suo malgrado li ama piange è vinto nella prima parte del dramma abbiamo visto Faust separato violentemente da Margherita e delle voci dal cielo avevano gridato e la si è salvata mentre la portavano al supplizio ma può Faust essere perduto poiché è sempre amato da Margherita il suo cuore non è già fidanzato al cielo la grande opera della redenzione per mezzo della solidarietà si compie la vittima si consolerebbe mai delle sue torture se non convertisse il suo carnefice il perdono non è forse la vendetta dei figli del cielo l'amore che era arrivato in cielo per primo attira a sé la scienza per simpatia il cristianesimo si rivela nella sua ammirevole sintesi la novella Eva ha lavato col sangue di Abele la macchia dalla fronte di Caino e piange di gioia sui suoi due figli che tiene abbracciati l'inferno ormai inutile è chiuso a causa dell'ingrandimento del cielo il problema del male ha ricevuto la sua ultima soluzione e il solo bene necessario e trionfante va a regnare per l'eternità tale è il bel sogno del più grande di tutti i poeti ma sfortunatamente qui il filosofo dimentica tutte le leggi dell'equilibrio vuole assorbire la luce in uno splendore senza ombre e il movimento in un riposo assoluto che sarebbe la cessazione della vita fin tanto che ci sarà una luce visibile ci sarà un'ombra proporzionale a questa luce il riposo non sarà mai la felicità se non equilibrato da un movimento analogo e contrario fin tanto che vi sarà una benedizione libera la bestemmia sarà possibile fin tanto che ci sarà un cielo ci sarà un inferno è la legge immutabile della natura è la volontà eterna della giustizia che è Dio capitolo settimo impero e restaurazione Napoleone riempì il mondo di meraviglie ed era lui stesso la più grande meraviglia del mondo la moglie e l'imperatrice Josephine curiosa e credula come una creola passava da un incantamento all'altro questa gloria gli era stata predetta se da per certo da una vecchia zingara e il popolo delle campagne crede ancora che Josephine fosse lei il buon genio dell'imperatore era in effetti una dolce e modesta consigliera che gli avrebbe fatto evitare parecchi scogli se lui l'avesse ascoltata sempre ma la fatalità o piuttosto la provvidenza lo spingeva avanti e ciò che doveva accadere era già stato scritto in una profezia attribuita a San Cesario ma che è firmata a Jean de Vatiguerro e che si trova nel Liber Mirabilis raccolta di predizioni stampata nel 1524 si leggono queste sorprendenti parole le chiese le chiese saranno insozzate profanate il culto pubblico cesserà l'aquila volerà per il mondo e sottometterà a sé varie nazioni il principe più grande e il più augusto sovrano di tutto l'occidente sarà messo in fuga in seguito a una sconfitta sovrannaturale il principe nobilissimo sarà tenuto in prigionia dai suoi nemici e si affliggerà pensando a coloro che erano affezionati a lui prima che la pace si ristabilisca in Francia gli stessi avvenimenti ricominceranno e avverranno più volte l'aquila sarà incoronata da tre diademi e rientrerà vittoriosa al suo nido da dove non uscirà più che per innalzarsi al cielo Nostradamus dopo aver predetto la spoliazione delle chiese e l'assassinio dei preti annuncia che un imperatore nascerà vicino all'Italia che la sua sovranità sarebbe costata molto sangue alla Francia e che i suoi lo avrebbero tradito e l'avrebbero accusato del sangue versato un imperatore nascerà vicino all'Italia che all'impero sarà venduto molto caro ma dovrà vedere con chi si allea che diranno di lui che non è un principe ma un macellaio da soldato semplice arriverà all'impero dal vestito corto arriverà a lungo andando alle armi e contro la chiesa tratterà i preti come l'acqua fa la spugna in una raccolta di profezie pubblicata nel 1820 di cui possediamo un esemplare si trova dopo una predizione che concerne Napoleone I scrivo questa frase e farà la nipote quello che lo zio non aveva potuto fare la celebre mademoiselle Lenormand aveva nella sua biblioteca un volume rilegato col dorso di pergamena contenente il trattato di Olivarius sulle profezie seguito da dieci pagine manoscritte in cui il regno di Napoleone e la sua caduta erano formalmente annunciati l'indovina dette questo libro all'imperatrice Giosefin poiché abbiamo nominato mademoiselle Lenormand occorre dire qualche parola di questa donna singolare era una ragazza volgare brutta enfatica nei suoi discorsi oscura nello stile ma ha una sonnambula sveglia di una lucidità tutta particolare ella fu durante il primo impero e durante la restaurazione l'indovina alla moda niente più fastidioso della lettura delle sue opere ma ella faceva le carte con grandissimo successo la cartomanzia ritrovata in Francia da Etéia non è altro che la consultazione della sorte per mezzo di segni noti in anticipo questi segni combinati coi numeri ispirano degli oracoli al medium che si magnetizza guardandoli si estraggono a caso questi segni dopo averli mescolati lentamente si dispongono per numeri cabalistici e rispondono sempre al pensiero di colui che li interroga seriamente e in buona fede perché noi portiamo in noi tutto un mondo di presentimenti ai quali non occorre che un pretesto per apparirci le nature impressionabili e sensitive ricevono da noi la scossa magnetica che gli comunica l'impronta del nostro stato nervoso il medium può allora leggere i nostri timori e le nostre speranze nelle onde dell'acqua nella configurazione delle nubi nei punti segnati a caso sul terreno nei disegni lasciati su un piattino del caffè nelle possibilità di un gioco di carte o dei tarocchi i tarocchi soprattutto questo libro cabalistico e saggio in cui tutte le combinazioni sono una rivelazione delle armonie preesistenti tra i segni le lettere i numeri i tarocchi sono allora di un uso veramente meraviglioso ma noi non possiamo impunemente strappare a noi stessi i segreti della nostra comunicazione intima con la luce universale la consultazione delle carte e dei tarocchi è una vera evocazione che non si può fare senza pericolo e senza delitto nelle evocazioni noi forziamo il nostro corpo astrale ad aperirci nella divinazione lo costringiamo a parlarci diamo così un corpo alle nostre chimere e facciamo una prossima realtà di quell'avvenire che sarà verosimilmente il nostro quando l'avremo evocato con il verbo e adottato con la fede contrarre l'abitudine della divinazione delle consultazioni magnetiche è fare un patto con la vertigine ora abbiamo già stabilito che la vertigine è l'inferno mademoiselle norman era folle di infatuazione della sua arte e di se stessa il mondo non funzionava senza di lei e lei si credeva necessaria all'equilibrio europeo in occasione del congresso di Ella Chapelle l'indovina partì seguita da tutto il suo mobilio dette da fare a tutte le dogane e tormentò tutte le autorità perché venissero costrette ad occuparsi di lei era la vera mosca della vettura e che mosca al suo ritorno pubblicò le sue impressioni e mise in cima al suo libro una vignetta dove si rappresentava circondata da tutti i potenti che la consultavano e che tremavano davanti a lei i grandi avvenimenti che stavano accadendo nel mondo avevano rivolto in quest'epoca le anime verso il misticismo una reazione religiosa era iniziata e i sovrani che formavano la Santa Alleanza sentivano il bisogno di riattaccare alla croce i loro scettri uniti in un fascio l'imperatore Alessandro soprattutto credeva che l'ora fosse venuta per la Santa Russia di convertire il mondo all'ortodossia universale la setta dei salvatori di Luigi XVII setta intrigante e turbolenta volle profittare di questa disposizione per fondare un nuovo sacerdozio e giunsi a introdurre presso l'imperatore di Russia uno dei suoi illuminati questa nuova Catherine Théau che i settari chiamavano sorella Salomè si chiamava Madame Bush passò 18 mesi alla corte dell'imperatore avendo spesso con lui degli incontri segreti ma Alessandro aveva più immaginazione devota che vero entusiasmo si compiaceva del meraviglioso e pretendeva di divertirvisi i suoi confidenti mistici gli presentarono una nuova profetessa che li fece dimenticare sorella Salomè era la famosa Madame de Crudener questa amabile coquette di pietà e di virtù la cui ambizione era purtroppo di essere creduta l'eroina del suo libro e siccome una delle sue intime amiche la pressava per farsi dire il nome dell'eroe ella designò un uomo eminente di quei tempi ma allora disse l'amica la soluzione del vostro libro non è conforme alla verità dell'aneddoto perché quel signore non è morto oh mia cara esclamò Madame de Crudener vi assicuro che non sta meglio per questo questa risposta fece fortuna Madame de Crudener esercitava sullo spirito un po' debole di Alessandro un'influenza molto grande che finì per allarmare i suoi consiglieri egli si fermava spesso con lei per pregare ma lei si perse per eccesso di zelo un giorno poiché l'imperatore stava per lasciarla e la si gettò davanti a lui e lo scongiurò di non uscire Dio mi ha rivelato disse che correte un grande pericolo si attenta alla vostra vita un assassino è nascosto nel palazzo l'imperatore si allarmò chiamò le guardie da cui si fece circondare fece delle perquisizioni e si finì per trovare un povero diavolo munito di un pugnale quest'uomo interrogato si turbò e finì per confessare che era stato introdotto dalla stessa Madame Crudener era vero e questa dama aveva giocato in questo affare il ruolo di Lettude con Madame Pompadour era falso e quest'uomo appostato da nemici dell'imperatore aveva permissione segreta se l'omicidio non fosse riuscito di perdere Madame Crudener in tutti i modi la povera profetessa fu perduta l'imperatore vergognandosi di essere stato preso per ingenuo la congedò senza ascoltarla ed ella dovette stimarsi anche fortunata per essere stata congedata così a buon mercato la piccola chiesa di Luigi XVII non si diede per vinta dopo la disgrazia di Madame Bush e vide in quella di Madame de Crudener un vero castigo divino continuarono le loro profezie e al bisogno fecero dei miracoli sotto il regno di Luigi XVIII fu portato avanti un contadino della Boss di nome Martin che sosteneva di aver visto un angelo questo angelo di cui descriveva il costume e la figura aveva tutta l'apparenza di un lacquet di buona famiglia aveva una redingote molto lunga molto stretta la vita di un colore giallastro era pallido e gracile e portava in testa un cappello probabilmente gallonato e verniciato quello che c'era di strano e che prova una volta di più quanti espedienti ci siano nell'insistenza e nell'audacia è che quest'uomo si fece prendere sul serio e arrivò a introdursi davanti al re sembra che lo stupì con delle rivelazioni sulla sua vita intima rivelazioni che non hanno niente di impossibile né di straordinario ora che i fenomeni del magnetismo sono più constatati e conosciuti luigi diciottesimo d'altra parte era di carattere troppo scettico per essere credulo il dubbio in presenza dell'essere e delle sue armonie lo scetticismo di fronte alle matematiche eterne alle leggi mutabili della vita che rendono la divinità presente visibile dappertutto non è forse la più sottile delle superstizioni e la meno scusabile come la più pericolosa di tutte le credulità libro settimo la magia nel diciannovesimo secolo capitolo primo i magnetizzatori mistici e i materialisti la negazione del dogma fondamentale della religione cattolica formulato così poeticamente nel poema del Faust aveva portato i suoi frutti nel mondo la morale privata della sua sanzione eterna diveniva dubbia e barcollante un mistico materialista rovesciò il sistema di Swedenborg per creare sulla terra il paradiso delle attrazioni proporzionali ai destini con attrazioni Fourier intendeva le passioni sensuali a cui prometteva un'espansione integrale e assoluta Dio che è la ragione suprema marchiò con un sigillo terribile queste dottrine riprovevoli i discepoli di Fourier avevano cominciato con l'assurdità finirono con la follia credettero seriamente al prossimo cambiamento dell'oceano in un'ampia scodella di limonata alla creazione futura degli antileoni e degli antiserpenti alla corrispondenza epistolare dei pianeti gli uni con gli altri noi non parliamo della famosa coda di 32 piedi di cui volevano si dice gratificare la specie umana perché ebbero essi stessi la generosità di rinunciare a questa coda e di considerarne l'avvento possibile secondo il maestro come puramente ipotetico è a simile assurdità che conduce la negazione dell'equilibrio e in fondo a tutte queste follie c'è più logica di quanto non si pensi la stessa ragione che determina il dolore nell'umanità rende indispensabile l'amarezza delle acque del mare supponete giusta l'espansione degli istinti e non potrete ammettere l'esistenza degli animali feroci date all'uomo per tutta moralità l'attitudine a soddisfare i suoi appetiti avrà sempre qualcosa da invidiare agli orangutang e alle scimmie negare l'inferno e negare il cielo poiché seguendo la più alta interpretazione del dogma unico di ermete l'inferno è la ragione equilibrante del cielo perché l'armonia risulta dall'analogia dei contrari quad superius sicud quad inferius la superiorità esiste in ragione dell'inferiorità è la profondità che determina l'altezza se colmate le valli farete sparire le montagne lo stesso se cancellate le ombre annienterete la luce che non è visibile che per contrasto graduale tra ombra e giorno e produrrete l'oscurità universale per mezzo di un immenso annebbiamento i colori stessi non esistono nella luce che per la presenza dell'ombra è la tripla alleanza del giorno e della notte è l'immagine luminosa del dogma è la luce fatta ombra come il salvatore è il verbo fatto uomo e tutto questo si basa sulla stessa legge la legge prima della creazione la legge unica e assoluta della natura quella della distinzione della ponderazione armoniosa delle forze contrarie nell'equilibrio universale non è il dogma dell'inferno sono le interpretazioni temerarie di questo dogma che hanno fatto rivoltare la coscienza pubblica i sogni barbari del medioevo i supplizi atroci e osceni scolpiti sui portici delle chiese l'infame caldaia in cui si cuoceva la carne umana al fumo del quale si riunivano gli eletti tutto questo è assurdo e empio ma tutto questo non appartiene al dogma sacro della chiesa la crudeltà attribuita a dio è la più spaventosa delle bestemmie ed è per essa stessa che il male è sempre stato senza rimedio in quanto la volontà dell'uomo si rifiuta alla bontà divina Dio non infliggi ai dannati le torture della riprovazione eterna più di quanto non dia la morte e i suicidi lavora per possedere e sarai felice dice all'uomo la giustizia suprema io voglio possedere gioire senza lavorare allora ruberai e soffrirai io mi ribellerò allora ti spezzerai e soffrirai anche di più io mi ribellerò sempre allora soffrirai eternamente questa è la sentenza della ragione assoluta e della giustizia sovrana che può rispondere a questo l'orgoglio e la follia umana la religione non ha nemici più grandi del misticismo temerario che prende le visioni provocate dalla sua febbre per delle rivelazioni divine non sono i teologi che hanno creato l'impero del diavolo sono i falsi devoti e gli stregoni credere a una visione del nostro cervello piuttosto che all'autorità della ragione e della pietà pubblica questo è sempre l'inizio dell'eresia in religione della follia nell'ordine della filosofia umana un folle non sarebbe mai folle se credesse alla ragione degli altri le visioni non mancano mai alla pietà che si rivolta non più delle chimere a una ragione che si scomunica e si smarrisce da questo punto di vista il magnetismo è certamente i suoi rischi perché lo stato di crisi porta sia le allucinazioni che le intuizioni lucide consacreremo in questo libro un capitolo speciale ai magnetizzatori gli unimistici e gli altri materialisti e li avvertiremo in nome della scienza dei rischi ai quali si espongono la consultazione della sorte le esperienze magnetiche e le vocazioni appartengono a un solo e stesso ordine di fenomeni ora sono dei fenomeni di cui non si può abusare impunemente ne va della ragione e della vita 30 o 40 anni fa un vicario del coro della chiesa di Notre Dame uomo molto pio e anche molto stimabile si era infatuato del magnetismo e si abbandonò a frequenti esperienze consacrando più tempo del dovuto alla lettura dei mistici e soprattutto del vertiginoso Svedenborg la sua testa presto si stancò iniziò a soffrire di insonnia allora si alzava per studiare ma lo studio non riusciva a calmare l'agitazione del suo cervello prendeva la chiave della chiesa e vi entrava per la porta rossa poi entrava nel coro illuminato soltanto dalla debole lampada dell'altare principale giungeva al suo stallo e vi rimaneva fino al mattino sprofondato nelle sue preghiere e nelle meditazioni profonde una notte il soggetto della sua meditazione era la dannazione eterna pensava alla dottrina così minacciosa al piccolo numero degli eletti e non sapeva come conciliare questa rigorosa esclusione del maggior numero degli uomini con la bontà infinita di questo dio che vuole che tutti gli uomini siano salvi secondo la scrittura e che arrivino alla conoscenza della verità pensava a questo supplizio del fuoco che il più crudele tiranno della terra non vorrebbe infliggere se potesse neanche per un solo giorno al suo maggior nemico e il dubbio penetrò nel suo cuore poi si mise a pensare alle spiegazioni concilianti della teologia la chiesa non definisce il fuoco dell'inferno è eterno secondo il vangelo ma non viene scritto da nessuna parte che un grandissimo numero di uomini debba soffrirvi per l'eternità molti condannati potranno dover sopportare solo la pena del danno vale a dire la privazione di dio infine la chiesa proibisce assolutamente di supporre la dannazione della persona i pagani hanno potuto essere salvati con il battesimo del desiderio i peccatori scandalosi con una contrizione immediata e perfetta infine occorre sperare per tutti e pregare per tutti ad eccezione che per uno solo colui del quale il salvatore ha detto che sarebbe stato meglio per lui non essere nato il vicario si fermò su quest'ultimo pensiero e gli venne in mente tutto a un tratto che un uomo solo portava ufficialmente questa condanna da vari secoli che giuda Iscariota perché di lui che si tratta nel passaggio della scrittura dopo essersi pentito del suo tradimento fino a morirne era divenuto il capro espiatorio dell'umanità l'atlante dell'inferno il prometeo della dannazione lui che il salvatore vicino a morire aveva chiamato suo amico gli occhi allora gli si riempirono di lacrime e gli sembrò che la redenzione fosse senza effetto se non aveva potuto salvare giuda è per lui e per lui solo ripeteva nella sua esaltazione che avrei voluto morire una seconda volta se fosse stato il salvatore ma Gesù Cristo non è migliore di me mille volte che cosa deve fare dunque ora in cielo mentre io piango il suo apostolo qui sulla terra ciò che fa aggiunse il prete esaltandosi sempre più mi rattrista e mi consola io lo sento dice al mio cuore che il paria del vangelo è salvo e che sarà per la lunga maledizione che pesa ancora sul suo ricordo il redentore di tutti paria ma è così è un nuovo vangelo che occorre annunciare al mondo quello della misericordia infinita universale nel nome di giuda rigenerato ma io mi sto perdendo sono un eretico un empio no perché sono in buona fede poi giungendo le mani con fervore mio dio disse il vicario datemi ciò che non rifiutaste un tempo alla fede ciò che non le rifiutereste ancora un miracolo per convincermi e rassicurarmi un miracolo come segno di una missione novella l'entusiasta allora si alzò e nel silenzio della notte così formidabile andò ai piedi dell'altare e nell'immensità di questa chiesa muta e scura pronunciò ad alta voce con una voce lente e solenne questa evocazione tu che sei stato maledetto per diciotto secoli e per cui io piango poiché sembri aver preso l'inferno per te solo al fine di lasciare il cielo a noi infelice giuda se è vero che il sangue del tuo maestro ti ha purificato se tu sei salvo vieni a impormi le mani per il sacerdozio della misericordia e dell'amore il vicario aveva detto queste parole e mentre l'eco risvegliata le ripeteva ancora sotto le volte spaventate si alzò attraversò il coro e andò a inginocchiarsi sotto la lampada e i piedi dell'altare maestro allora dice perché è a lui stesso che dobbiamo il racconto di questa storia allora io sentii positivamente e realmente due mani calde e vive posarsi sulla mia testa come fanno quelle del vescovo il giorno dell'ordinazione io non dormivo ero sveglio e le sentivo era un contatto reale che durò qualche minuto Dio mi aveva esaudito il miracolo era avvenuto dei nuovi doveri mi erano stati imposti e una vita nuova cominciava per me a partire dall'indomani dovevo essere un uomo nuovo l'indomani in effetti l'infelice vicario divenne folle il sogno di un cielo senza inferno il sogno di Faust ha fatto ben altre vittime in questo disgraziato secolo di dubbio e di egoismo che non è arrivato che a realizzare solo un inferno senza cielo Dio stesso diveniva inutile in un sistema in cui tutto era permesso in cui tutto era bene gli uomini arrivati a non temere più un giudizio supremo hanno trovato ben facile fare a meno del Dio della buona gente più a meno di Dio in effetti che della stessa buona gente i fogli che si ergono vittoriosi sul diavolo giungono a farsi dei il nostro secolo e soprattutto quello delle mascherate considerate divine ne abbiamo viste di tutti i colori il Dio Gannot natura buona e troppo poetica che avrebbe dato ai poveri anche la camicia che riabilitava i ladri Gannot che ammirava la Senère e che non avrebbe ucciso una mosca il Dio Chenot mercante di bottoni della rue Croix de Petit Champ che era visionario come Swedenborg e che scriveva le sue ispirazioni nello stile di Jeannot il Dio Touré uomo buono ed eccellente che diviniza la donna e vuole che sia stato Adamo ad uscire da Eva il Dio Auguste Comte che conservava tutto della religione cattolica ad eccezione di due cose insignificanti l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima il Dio Vronsky vero sapiente questo e che ebbe la gloria e la felicità di ritrovare i primi teoremi della cabala e che avendo venduto la cosa per 150 franchi a un ricco imbecille di nome Arson dichiara in uno dei suoi libri più seri che il citato Arson per aver rifiutato di pagarlo integralmente è divenuto realmente in verità la bestia dell'apocalisse ecco questo curioso passaggio che teniamo a citare perché non ci si possa accusare di ingiustizia verso un uomo il cui lavoro ci è indubbiamente stato utile e di cui abbiamo già avuto occasione di fare l'elogio in una delle nostre precedenti pubblicazioni vronsky per costringere Arson a pagarlo aveva pubblicato una brochure intitolata sì o no vale a dire mi avete comprato sì o no per 150.000 franchi la mia scoperta dell'assoluto ora ecco in quali termini nel suo libro intitolato riforma della filosofia vronsky ricorda all'intero universo che non sembra neanche interessato alla cosa la pubblicazione di questa brochure si troverà al tempo stesso in questo passaggio una perla curiosa nello stile di questo negoziante dell'assoluto questo fatto della scoperta dell'assoluto che sembra agitare così fortemente gli uomini si trova già constatato in un grande scandalo quello del famoso libello sì o no che è stato così decisivo per l'eclatante trionfo della verità che ne fu l'oggetto che è notevole per l'improvvisa apparizione dell'essere simbolico di cui minaccia l'apocalisse di quel mostro della creazione che porta in fronte il nome mistero e che questa volta temendo di essere colpito mortalmente non può più contenere nell'ombra le sue odiosi e convulsioni e viene attraverso i giornali e tutte le altre voci dalle quali è trascinato il pubblico a mostrare alla luce del giorno la sua rabbia infernale e la sua estrema impostura eccetera eccetera è bene sapere che quel povero Arson che è accusato qui di rabbia infernale e di estrema impostura aveva già pagato allo ierofante 40 o 50 mila franchi l'assoluto che Vronsky vedeva così caro noi l'abbiamo ritrovato dopo di lui e l'abbiamo donato per niente ai nostri lettori perché la verità è dovuta al mondo e nessuno ha il diritto di appropriarsene di farne oggetto di commercio possa questo atto di giustizia far espiare i misfatti di un uomo che è morto in uno stato vicino alla miseria dopo aver tanto lavorato non per la scienza ma per arricchirsi per mezzo della scienza che forse non era degno di comprendere né di possedere capitolo secondo le allucinazioni si trova sempre al fondo del fanatismo di tutte le sette un principio di ambizione o di cupidigia Gesù Cristo stesso aveva spesso ripreso severamente coloro dei suoi discepoli che lo circondavano durante i giorni delle sue privazioni e del suo esilio nella sua stessa patria solo per la speranza di un regno in cui sarebbero stati ai primi posti più le speranze sono folli più si educono certe immaginazioni si paga allora di tasca propria con la propria persona la fortuna di sperare è così che il dio Vronsky rovinava degli imbecilli promettendo loro l'assoluto che il dio Augusto Comte si faceva 6.000 lire di rendita alle spese dei suoi adoratori ai quali aveva distribuito in anticipo dignità fantastiche realizzabili quando la sua dottrina avrebbe conquistato il mondo è così che certi magnetizzatori prendevano dei soldi a un gran numero di sciocchi promettendo loro dei tesori che gli spiriti scompigliano sempre qualche settario credeva realmente a quello che prometteva e questi sono sempre più infaticabili e più arditi nei loro intrighi i soldi miracoli le profezie non si facevano mancare niente perché avevano quell'assoluta volontà e azione che realmente produce dei prodigi erano dei maghi senza saperlo la setta dei salvatori di luigi diciassettesimo appartiene sotto questo aspetto alla storia della magia la follia di questi uomini era contagiosa al punto di convincere alle loro credenze quelli stessi che andavano a trovarli per combattere si procuravano i documenti più importanti e introvabili attiravano a sé i testimoni più singolari evocavano dei ricordi perduti comandavano all'esercito dei sogni facevano apparire degli angeli a martin del sangue a rose tamisier un angelo in gonnella e eugène vintras quest'ultima storia è curiosa a causa delle sue fenomenali conseguenze e la racconteremo nel 1839 i salvatori di luigi diciassettesimo che avevano riempito gli almanacchi di profezie per il 1840 calcolando che se tutti attendevano una rivoluzione questa rivoluzione non avrebbe tardato a compiersi non avendo più il loro profeta martin decisero di averne un altro qualcuno dei loro agenti più zelanti era in normandia paese di cui il falso luigi diciassettesimo aveva la pretesa di essere il duca gettarono gli occhi su un operaio devoto di un carattere devoto e una testa debole ed ecco il tiro che pensarono di giocare concepirono una lettera indirizzata al principe vale a dire un preteso luigi diciassettesimo riempirono questa lettera di promesse enfatiche del regno futuro unite a delle espressioni mistiche capaci di fare impressione su una testa debole e fecero cadere questa lettera nelle mani dell'operaio che si chiamava Eugène Vintras nelle circostanze che lui stesso racconta 6 agosto 1839 alle 9 circa ero occupato a scrivere bussarono alla porta della camera in cui ero credendo che fosse un operaio con cui avevo da fare risposi piuttosto bruscamente entrate fui molto sorpreso di vedere al posto di un operaio un vecchio streccione gli chiesi solamente cosa volesse mi rispose tranquillamente non vi inquietate Pierre Michel nome di cui nessuno si serve per chiamarmi e dappertutto mi chiamano Eugène e anche quando firmo non scrivo mai quei due prenomi questa risposta del vecchio mi fece una certa sensazione ma aumentò quando mi disse io sono molto stanco ovunque mi presenti mi guardano con disprezzo come un ladro queste ultime parole mi colpirono molto anche perché erano dette con aria triste e infelice mi alzai presi una moneta da 10 soldi e gliela misi in mano dicendogli io non vi prendo per niente di tutto questo buon uomo e dicendogli questo gli feci capire che volevo congedarlo lui non chiese di meglio e mi volse le spalle con aria afflitta appena mise piede sull'ultimo scalino io richiusi la porta e girei la chiave non sentendolo scendere chiamai un operaio e gli dissi di salire in camera mia là col pretesto di parlare di affari speravo di farli percorrere con me tutti i posti in cui credevo possibile che il vecchio si nascondesse visto che non l'avevo visto uscire quest'operaio salì in camera mia uscii con lui chiudendo la mia porta a chiave e percorsi tutti i piccoli nascondigli non viti nessuno stavo per entrare in fabbrica quando tutta un tratto sentì suonare la messa provai piacere pensando che malgrado il disturbo provato a causa del vecchio avrei potuto almeno assistere a una messa allora corsi in camera per prendere un libro di preghiere trovai sul posto in cui scrivevo una lettera indirizzata a Madame de Genère a Londra questa lettera era firmata scritta da Messie Paul de Montflery de Cain e conteneva una confutazione di eresia e una professione di fede ortodossa questa lettera quantunque indirizzata a Madame de Genère era destinata a rimettere sotto gli occhi del duca di Normandia le più grandi verità della nostra santa religione cattolica apostolica romana sulla lettera era posto il pezzo da dieci soldi che avevo dato al vecchio in un'altra lettera Pierre Michel giura che la figura del vecchio non gli è affatto sconosciuta ma vedendoselo apparire davanti di un tratto ebbe una paura straordinaria tanto che aveva barricato la porta quando fu uscito e aveva ascoltato a lungo la porta per sentirlo scendere il vecchio mendicante senza dubbio si era tolto le scarpe per scendere senza far rumore perché Vintras non udì niente corse allora alla finestra e non lo vide uscire perché era già andato via da molto tempo ecco il mio uomo scombussolato chiama soccorso cerca dappertutto trova infine la lettera che gli si voleva far leggere è evidentemente una lettera caduta dal cielo ed ecco Vintras votato a Luigi XVII eccolo visionario per il resto dei suoi giorni perché ormai l'immagine del vecchio mendicante non lo lascerà più questo mendicante diventerà Saint Michel perché l'ha chiamato Pierre Michel associazione di idee analoga a quella dei sogni gli allucinati della setta di Luigi XVII avevano indovinato con la seconda vista dei maniaci il momento giusto in cui occorreva colpire la debole testa di Vintras per farne in un solo istante un illuminato e un profeta la setta di Luigi XVII si compone soprattutto di antichi servitori della regalità legittimista così Vintras divenuto il loro medium si fa il riflesso fedele di tutte queste immaginazioni piene di ricordi cavallereschi e di vecchi misticismi sono dappertutto nelle visioni del nuovo profeta letti bagnati di sangue angeli in costume da cavaliere santi mascherati da trovatori poi appaiono ostie incollate su seta blu Vintras ha delle sorelle di sangue e il suo sangue appare su tutte le ostie dove si disegnano dei cuori con delle leggende delle scritture nell'ortografia di Vintras dei calici vuoti appaiono di colpo pieni di vino poi dove il vino cade appaiono delle macchie di sangue gli iniziati credono di udire una musica deliziosa e di respirare dei profumi ignoti dei preti chiamati a constatare questi prodigi sono trascinati dalla corrente dell'entusiasmo un curato della diocesi di Tur un vecchio e venerabile ecclesiastico lascia la sua curia e si mette al seguito del profeta noi abbiamo visto questo prete ci ha raccontato le meraviglie di Vintras con l'accento della più perfetta convinzione ci ha mostrato delle ostie iniettate di sangue in un modo inesplicabile ci ha comunicato dei processi verbali firmati da più di 50 testimoni tutta gente onorevole di un buono stato sociale degli artisti dei medici degli uomini di legge un cavaliere di Razzac una duchessa d'Armaillè i medici hanno analizzato il fluido vermiglio che colava dalle ostie e hanno riconosciuto che verosimilmente era del sangue umano gli stessi nemici di Vintras e ne aveva di Crudeli non contestavano i miracoli e si contentavano di attribuirli al demonio ma come si può concepire ci diceva l'abate Charvaux questo curato di Tur di cui abbiamo parlato come si può concepire che il demonio falsifichi il sangue di Gesù Cristo su delle ostie realmente consacrate perché l'abate Charvaux è realmente un sacerdote e i suoi segni si producono anche sulle ostie che consacra ciò nonostante la setta di Vintras è anarchica e assurda e Dio non compie dei miracoli a suo favore resta l'applicazione naturale dei fenomeni e nel corso di quest'opera l'abbiamo già indicato per cui sarebbe inutile parlarne ancora qui Vintras che i suoi settari indicarono come un nuovo Cristo ebbe anche lui i suoi iscarioti due membri della setta un certo Gozzoli e uno di nome Alessandro Gioffroa pubblicarono contro di lui le rivelazioni più odiose a creder loro i settari di Tigli sur Seel così si chiamava la loro residenza si abbandonavano alle pratiche più oscene celebravano nella loro cappella particolare che si chiamava il Cenacolo delle messe sacrileghe ai quali gli eletti assistevano completamente nudi a un certo punto tutti gesticolavano scoppiavano in lacrime e gridavano amore amore e si gettavano nelle braccia gli uni degli altri ci si è permesso di non parlare del resto erano le orge degli antichi gnostici ma senza che si prendessero la pena di spegnere le luci Alessandro Gioffroa assicura che Vintras li iniziò un genere di preghiere che consistevano nell'atto mostruoso di Onan esercitato ai piedi dell'altare ma qui il denunciatore è troppo odioso per essere creduto sulla parola l'abate Charvaux a cui abbiamo parlato di queste accuse infami ci ha detto che si doveva attribuirle all'odio di due uomini scacciati dall'associazione per aver commesso essi stessi gli atti di cui accusavano Vintras Comunque sia i disordini morali generano naturalmente dei disordini fisici e le sovrecitazioni anormali del sistema nervoso producono quasi sempre dei disordini nei costumi se dunque Vintras è innocente avrebbe potuto e può ancora divenire colpevole il Papa Gregorio XVI con un breve dell'8 novembre 1843 ha condannato formalmente la setta di Vintras ecco un esemplare dello stile di questo illuminato uomo d'altronde senza istruzione e i cui scritti enfatici abbondano di errori di grammatica dormite dormite indolenti mortali riposate riposate ancora sui vostri letti morbidi sorridete ai vostri sogni di festa e di grandezza l'angelo dell'alleanza è disceso sui vostri monti ha scritto il suo nome fin dentro il calice dei vostri fiori ha toccato con gli agnelli che ornano i suoi piedi i fiumi che sono il vostro orgoglio e la vostra speranza le querce delle vostre foreste hanno preso lo splendore della sua fronte per una novella aurora il mare con uno slancio voluttuoso ha salutato il suo sguardo Elia l'ha preceduto inchinatevi dalla parte della terra ma non spaventatevi del rumore così attivo delle tombe dormite dormite ancora io l'ho visto verso oriente incideva il suo nome su dei monti inaccessibili gridava al tempo di allestire la sua barca e ho visto sorridergli il più vecchio dei vecchi dormite dormite ancora Elia a occidente pone una croce sulla porta del tempio la sigilla col fuoco e con l'acciaio di un pugnale ancora il tempio il fuoco e il pugnale cosa strana i pazzi si riflettono gli uni con gli altri tutti i fanatismi si scambiano le loro ispirazioni e il profeta di Luigi XVII diviene qui l'eco del grido dei vendetta dei templari è vero che Vintras non si crede responsabile dei suoi scritti ecco come ne parla lui stesso oh se il mio spirito fosse in qualche modo in questi scritti che vengono condannati io chinerei la testa e il timore entrerebbe nella mia anima non sono opera mia io non vi ho prestato il mio concorso né con la ricerca né col desiderio la calma è in me il mio letto non conosce insonnia le veglie non affaticano le mie palpebre il mio sonno è puro come quando Dio lo creò posso dire al mio Dio con un cuore libero custodi animam un altro preteso riformatore colui che si atteggiava messia dei bagni del patibolo la Sener cui non paragoneremo certamente Vintras scriveva pure dalla sua prigione come una vergine casta e pura nei sogni d'amore veglio e mi addormento qualcuno mi insegnerà che cos'è un rimorso l'argomento di Vintras per legittimare la sua ispirazione non è dunque concludente poiché è servito anche alla Sener per scusare e anche per legittimare non più dei sogni ma dei delitti condannati dal papa i settari di Tilly Sursel condannarono il papa a loro volta Vintras di sua autorità privata si creò pontefice lui stesso la forma dei suoi vestiti sacerdotali gli è stata rivelata porta un diadema d'oro con un lingam indiano sulla fronte un vestito porpora e tiene in mano uno scettro magico che termina con una mano in cui le dita sono chiuse eccetto il pollice e il mignolo le dita consacrate a Venere e a Mercurio geruglifico dell'ermafrodita antico emblema degli antichi culti orgiastici e dei priapei del sabba così le reminiscenze e i riflessi della magia nera portati dalla luce astrale vengono a ricollegarsi ai misteri dell'India e al culto profano di Baphometto l'estasi di questo malato contagioso la cui infermeria è a Londra e che continua a fare dei proseliti e delle vittime l'esaltazione del povero profeta non è sempre esente da spavento e rimorso o qualunque cosa dica e a volte si lascia sfuggire le più tristi confessioni ecco cosa troviamo in una lettera indirizzata a uno dei suoi più intimi amici io sono sempre in attesa di nuovi tormenti domani arriva la famiglia Verge vedrò sui loro lineamenti la purezza della loro anima che si annuncia con la loro gioia mi si ricorderà tutta la mia felicità passata si citeranno dei nomi che pronunciavo con amore nei tempi più lontani infine tutto quello che farà la delizia degli altri sarà per me una nuova tortura bisognerà stare a tavola e mentre si frugherà il mio cuore con una spada io dovrò sorridere oh se queste parole terribili che ho inteso non fossero eterne io amerei ancora il mio crudele supplizio perdono mio caro non potrei vivere senza amare Dio ascoltate se la vostra carità di uomo ve lo permette come ministro di Dio vivente io non la reclamo ciò che il vostro maestro ha vomitato dalla sua bocca deve essere maledetto da poi nella notte della domenica a lunedì dal 17 al 18 maggio un sogno spaventoso è inferto alla mia anima come al mio corpo un colpo mortale ero a Saint-Pé non c'era più nessuno nel castello ma le porte erano aperte sono subito salito alla Santa Cappella andavo ad aprire la porta quando ho visto scritto su quella porta in caratteri di fuoco non avvicinarti a questo luogo tu che io ho vomitato dalla mia bocca non sono potuto scendere sono caduto annientato sul primo gradino ma pensate il mio spavento quando ho visto attorno a me solo un grande profondo abisso e nel fondo c'erano dei mostri orribili che mi chiamavano loro fratello mi venne il pensiero che il santo arcangelo anche mi chiamava suo fratello che differenza lui faceva pervadere la mia anima della più viva allegria e questi nel sentirli mentre mi chiamavano così anche loro mi facevano torcere in convulsioni simili a quelle che faceva loro provare la virtù che Dio aveva attaccato alla mia croce di grazia al momento della loro apparizione il 28 aprile scorso cercavo di aggrapparmi a qualche cosa per evitare di cadere in quell'abisso senza fondo pregavo la madre di Dio la divina Maria la chiamavo in mio soccorso ella era sorda alla mia voce nel frattempo cadevo sempre lasciando lembi di carne sulle punte rocciose che circondavano lo spaventoso abisso di colpo dei vortici di fiamme si elevarono verso di me dalla profondità in cui stavo cadendo intesi il grido di una gioia feroce e non riuscii più a pregare improvvisamente una voce più spaventosa dei rimbombi del tuono in un violento nubifragio giunse alle mie orecchie intesi queste parole tu credi di vincermi e vedi che ho vinto io ti ho insegnato ad essere umile a mio modo vieni a gustare le mie dolcezze divieni uno dei miei migliori impara a conoscere il tiranno del cielo vieni con noi a vomitargli delle bestemmie e delle imprecazioni tutto il resto è inutile per te ora poi dopo una lunga risata mi ha detto guarda Maria quella che tu chiamavi è a scudo contro di noi vedi il suo grazioso sorriso intendi la sua dolce voce mio caro io l'ho vista al di sopra dell'abisso i suoi occhi di un blu celeste si sono riempiti di fuoco le sue labbra vermiglie sono divenute violette la sua voce così suave così divina si è trasformata è divenuta dura e terribile ella mi ha lanciato queste parole come un fulmine cadi orgoglioso in questi luoghi pieni di fuoco abitati dai demoni tutto il sangue mi rifluì dal cuore credetti che fosse suonata l'ora in cui l'inferno terrestre cedesse il passo all'inferno eterno sono riuscito ancora a ricordarmi qualche parola di ave maria io non so quanto tempo sono stato lì so che quando sono rientrato a casa ho trovato la domestica addormentata mi ha detto che era tardi ah se facessi conoscere i nemici dell'opera della misericordia cosa accade in me non credi che griderebbero vittoria direbbero che queste sono le prove della follia piaccia a dio che sia così sarei meno da compiangere ma non temete se dio non vuol sentire la mia voce per me io pregherò che raddoppi le mie sofferenze ma che le nasconda i miei nemici qui l'allucinazione trionfante si leva fino al sublime vintras accetta di essere dannato a patto che non si dica che è folle l'ultimo istinto del prezzo inestimabile della ragione che sopravvive alla ragione stessa l'uomo ebro è preoccupato solo del timore di passare per ubriaco l'insensato e il pazzo chiedono la morte piuttosto che confessare il loro delirio il fatto è che secondo la bella frase di cebete che abbiamo già citato non c'è per l'uomo che un bene desiderabile è la saggezza che viene usata dalla ragione e non c'è che un vero e supremo male da evitare è la follia capitolo terzo i magnetizzatori e i sonnambuli la chiesa nella sua grande saggezza ci proibisce di consultare la sorte e di violare con un'indiscreta curiosità i segreti dell'avvenire ma ai giorni nostri la voce della chiesa non è più quasi udita e la folla ritorna agli indovini e alle pitonesse le sonnambule sono divenute gli oracoli di coloro che non credono più ai precetti del Vangelo e non si pensa più che la preoccupazione di un avvenimento predetto sopprime in qualche modo la nostra libertà e paralizza i nostri mezzi di difesa consultando la magia per prevedere gli eventi futuri ci impegniamo con la fatalità le sonnambule sono le sibille della nostra epoca come le sibille erano le sonnambule dell'antichità felici consultanti che non mettono la loro credulità al servizio dei magnetizzatori immorali o insensati poiché essi per il fatto stesso della loro benevola consultazione prenderebbero parte all'immoralità o alla follia degli ispiratori dell'oracolo il mestiere di magnetizzatore è facile e gli sciocchi sono in gran numero è dunque importante conoscere fra quelli che si occupano di magnetismo chi siano gli uomini veramente seri fra questi dobbiamo mettere in prima fila il barone Dupotet il cui lavoro coscienzioso ha fatto fare un gran passo alla scienza di Mesmer Dupotet ha aperto a Parigi una scuola pratica di magnetismo in cui il pubblico è ammesso a istruirsi dei procedimenti e a verificare i fenomeni il barone Dupotet è una natura eccezionale particolarmente intuitiva come tutti i contemporanei anche i più istruiti ignora la cabala e i suoi misteri e nonostante questo il magnetismo gli ha rivelato la magia ha sentito il bisogno di nascondere questa scienza spaventosa anche per se stesso e ha scritto un libro che vende soltanto i suoi adepti e sotto il sigillo del più assoluto segreto questo segreto noi non l'abbiamo promesso a Dupotet ma lo conserveremo per rispetto alle convinzioni dello hierofante noi non lo riteniamo pericoloso perché il barone Dupotet indica delle forze di cui non precisa l'uso sa che si può nuocere o fare del bene uccidere o salvare attraverso i procedimenti magnetici ma questi procedimenti lui non li indica in modo chiaro e pratico e noi ce ne rallegriamo d'altronde perché il diritto di vita e di morte suppone una sovranità divina e considereremo indegno colui che conoscendo e possedendo questa sovranità acconsentisse a venderla in qualsiasi modo Dupotet stabilisce vittoriosamente l'esistenza di questa luce universale nella quale i crisiaci percepiscono tutte le immagini e tutti i riflessi del pensiero provoca delle proiezioni potenti di questa luce per mezzo di un apparecchio assorbente che chiama lo specchio magico è semplicemente un cerchio o un quadrato di carbone in polvere fine setacciata in questo spazio negativo la luce proiettata dal crisiaco e dal magnetizzatore riuniti colora presto e realizza tutte le forme corrispondenti alle loro impressioni nervose in questo specchio veramente magico appaiono per mezzo del soggetto preda del sonnambulismo tutti i sogni da opio o da hashish gli uni allegri gli altri lugubri il malato deve essere strappato da questo spettacolo se non si vuole che cade in convulsioni questi fenomeni sono analoghi a quelli dell'idromanzia praticata da Cagliostro l'acqua considerata attentamente abbaglia e turba la vista allora la stanchezza degli occhi favorisce l'allucinazione del cervello Cagliostro voleva per queste esperienze dei soggetti vergini e perfettamente innocenti al fine di non avere da temere le divagazioni nervose prodotte dalle loro reminiscenze erotiche lo specchio magico di Dupoté è forse più faticoso per il sistema nervoso intero ma gli annebbiamenti dell'idromanzia sembrano avere un'influenza maggiore sul cervello Dupoté è uno di questi uomini fortemente convinti che sopportano coraggiosamente il disprezzo della scienza ai pregiudizi dell'opinione pubblica ripetendo a bassa voce la professione di fede segreta di Galileo eppur si muove recentissimamente si è scoperto che anche i tavolini da spiritismo ricevono dalla magnetizzazione umana un influsso tale da ricevere un movimento di rotazione le masse stesse più pesanti possono essere sollevate e spostate nello spazio per mezzo di questa forza perché la pesantezza non esiste che in ragione dell'equilibrio delle due forze della luce astrale se aumenta l'azione di una delle due l'altra cederà subito ora se il sistema nervoso aspira e respira questa luce rendendola positiva o negativa secondo le sovrecitazioni personali del soggetto tutti i corpi inerti sottomessi alla sua azione e impregnati della sua vita diventeranno più leggeri o più pesanti seguendo il flusso o riflusso della luce che trascina nel nuovo equilibrio del suo movimento i corpi porosi e cattivi conduttori attorno a un centro vivente come gli astri nello spazio sono trascinati equilibrati e gravitano attorno al sole questa potenza eccentrica di attrazione o di proiezione suppone sempre uno stato di malattia in colui che ne è soggetto i medium sono tutti esseri eccentrici e mal equilibrati la mediomania suppone o provoca una serie di altre manie nervose idee fisse appetiti sregolati erotomania disordinata pensieri di morte e di suicidio negli esseri affetti in tal modo la responsabilità morale sembra non esistere più fanno del male con la coscienza del bene piangono di pietà in chiesa e possono essere sorpresi in spaventosi baccanali hanno un modo di spiegare tutto è il diavolo sono gli spiriti che li ossessionano e li trascinano che volete da loro che cosa domandate loro non vivono più in se stessi è un essere misterioso che li anima è lui che agisce al posto loro e questo essere si chiama legione gli sforzi ripetuti di una persona ben portante per crearsi delle facoltà di medium la affaticano la rendono malata e possono deviare la sua ragione è quello che è successo a Victor Henneken vecchio redattore della democrazia Pacific e membro dopo il 1848 dell'assemblea nazionale era un giovane avvocato con una parola fluente e disinvolta non mancava di istruzione né di talento ma era infatuato delle fantasie di Fourier esiliato dopo il 2 dicembre si abbandonò nell'inazione del suo ritiro alle esperienze dei tavolini spiritici presto fu preso da mediomania e credette di essere lo strumento delle rivelazioni dell'anima della terra pubblicò un libro intitolato Salviamo il genere umano era una miscela di ricordi falasteriani e di reminiscenze cristiane un ultimo raggio della luce della ragione morente vi brillava ancora ma le esperienze continuarono e la follia trionfò in un'ultima opera in cui il primo volume soltanto è stato pubblicato Victoria Henneken rappresenta Dio come un immesso polipo posto al centro della terra con delle antenne e delle trombette contornate da viti che vanno e vengono attraverso il suo cervello e quello di sua moglie Ottavia poco tempo dopo si seppe che Victoria Henneken era morto inseguito a un accesso di demenza furiosa in un manicomio abbiamo sentito parlare di una dama del gran mondo che si abbandonava delle conversazioni con i pretesi spiriti dei mobili e che scandalizzata oltremisura dalle risposte sconvenienti del suo comodino fece un viaggio a Roma per deferire il mobile eretico alla Santa Sede aveva portato con sé il colpevole e ne fece un rogo nella capitale del mondo cristiano meglio bruciare il proprio mobilio che impazzire e in verità per questa dama il pericolo era imminente non ridiamo di lei noi figli di un secolo della ragione in cui uomini seri come il conte di Mirville attribuiscono al diavolo i fenomeni non spiegati della natura in un melodramma che si rappresenta sui Boulevard si parla di un mago che per farsi un aiutante formidabile ha creato un androide un mostro colmoso da leone le corna da toro le scaglie dal leviatano dalla vita questa sfinge ibrida e presto spaventato dalla sua creazione si dà alla fuga il mostro lo insegue si mostra tra lui e la fidanzata incendia la sua casa brucia suo padre rapisce suo figlio lo insegue fin sul mare monta con lui sulla sua nave che fa affondare e muore lui stesso per un colpo di fulmine questo spettacolo orribile comico per i troppi spaventi è stato realizzato nella storia dell'umanità la poesia è stata personificata il fantasma del male le ha prestato tutte le forze della natura essa voleva fare di questo spauracchio un aiuto per la morale poi ha avuto paura di questa sozzura partorita dai suoi sogni da allora il mostro ci insegue attraverso le ere appare spaventoso e ghignante tra noi e gli oggetti del nostro amore incubo immondo soffoca i nostri figli mentre dormono porta nella creazione questa casa paterna dell'umanità l'incendio inestinguibile dell'inferno brucia e tortura per sempre i nostri padri e le nostre madri stende le sue ali nere per nasconderci il cielo e ci grida mai più speranza monta in sella e galoppa dietro a noi come l'angoscia affonda nell'oceano della disperazione l'ultima arca della nostra speranza è l'antico hariman dei persiani è il tifone dell'egitto il dio nero dei settari di manes del conte di mirvil e della magia nera del diavolo è l'orrore del mondo e l'idolo dei cattivi cristiani gli uomini hanno provato a riderne e hanno avuto paura ne fanno delle caricature e trasaliscono perché sembra loro di vedere queste stesse caricature che si animano per sbeffeggiarli a loro volta il suo regno è passato ma non morirà colpito dalla folgore del cielo la scienza ha conquistato il fuoco del tuono ne ha fatto delle fiaccole il mostro svanirà davanti agli splendori della scienza e della verità il genio dell'ignoranza e della notte non può essere fulminato che dalla luce capitolo quarto i fantasisti in magia una ventina d'anni fa uno dei nostri amici di infanzia Alfonso Eschiros pubblicò un libro di alta fantasia intitolato il mago era tutto quello che il romanticismo di allora poteva immaginare di più bizzarro l'autore dava al suo mago un serraglio di donne morte ma imbalsamate con un procedimento ritrovato poi da Gannal un androide di bronzo che predicava la castità un'ermafrodite innamorato della luna che intratteneva con lei una stretta corrispondenza e molte altre cose che adesso non ricordiamo Alfonso Eschiro con la pubblicazione di questo romanzo fondò una scuola di fantasisti in magia di cui il giovane e interessante Henri Delage è il rappresentante più distinto Henri Delage è uno scrittore fecondo un taumaturgo sconosciuto e un fascinatore abile il suo stile non è meno stupefacente delle idee di Alfonso Eschiro suo iniziatore e maestro così nel suo libro dei risuscitati dice parlando di una obiezione contro il cristianesimo prendo quest'obiezione per la gola e quando la lascerò la terra rintronerà sordamente sotto il peso del suo cadavere strangolato è vero che poi non risponde granché a questa obiezione ma cosa volete che risponda a una obiezione strangolata una volta che la terra ha rintronato sordamente sotto il peso del suo cadavere Henri Delage è come abbiamo detto un taumaturgo sconosciuto ha confessato in effetti a una persona di nostra conoscenza che in un inverno in cui era impietosamente sovrana a quell'infezione polmonare che si chiama grip non doveva che presentarsi in un salone per guarire immediatamente tutti quelli che vi si trovavano è vero che è stato lui stesso vittima del miracolo perché ci ha guadagnato un leggero raffreddore che non l'ha lasciato mai più vari amici di Henri Delage ci hanno assicurato che è il dono dell'ubiquità lo si lascia nel suo studio alla Patrie lo si trova a Dentue dal suo editore si fugge spaventati si rientra a casa sua e lì si trova Delage che vi stava aspettando Henri Delage è anche un abile fascinatore una dama di mondo che leggeva uno dei suoi libri dichiarò che non conosceva niente al mondo di più bello e di meglio scritto ma non è soltanto ai libri che Delage comunica il dono della bellezza un giorno abbiamo letto un romanzetto firmato fiorentino in cui si diceva che il fascino fisico del giovane mago uguagliava o superava quello degli angeli incontriamo Delage e gli chiediamo con curiosità della sua singolare rivelazione Delage allora mette la mano nel gilet si gira di tre quarti e solleva sorridendo gli occhi al cielo fortunatamente avevamo con noi l'Enchiridion di Leone III che come si sa è un protettore contro gli incantesimi e la bellezza angelica del fascinatore restò invisibile ai nostri occhi noi porgeremo a Henry Delage degli elogi più seri di quelli degli ammiratori della sua bellezza si dichiara sinceramente cattolico e proclama a gran voce il suo rispetto e il suo amore per la religione ora la religione potrà fare di lui un santo che è un titolo più stimato e più glorioso di quello di mago è a causa della sua qualità di pubblicista che abbiamo nominato questo giovanotto in prima fila fra i fantasisti della magia questo titolo sotto tutti gli altri aspetti apparteneva al conte di Ursch che ha consacrato la sua vita e la sua fortuna alle esperienze magnetiche a casa sua i mobili e le dame sonnambule si abbandonano a danze sfrenate i mobili si affaticano e si rompono ma le dame a quello che ci dicono se la passano meglio da molto tempo il conte di Ursch è stato dominato da un'idea fissa la paura di essere sotterrato vivo e ha scritto varie memorie sulla necessità di constatare il decesso in modo più sicuro di quanto non si faccia abitualmente il conte di Ursch aveva tanto più ragione di temere in quanto il suo temperamento è pletorico e la sua estrema suscettibilità nervosa giornalmente sovrecitata dalle sue esperienze con le graziose sonnambule le esponeva forse a degli attacchi di apoplessia il conte di Ursch nel magnetismo è l'allievo della bate faria e in negromanzia appartiene alla scuola del barone di Guldenstube il barone di Guldenstube ha pubblicato un libro intitolato Pneumatologia positiva e sperimentale la realtà degli spiriti e il fenomeno meraviglioso della loro scrittura diretta ecco come racconta lui stesso la sua scoperta correva l'anno 1850 circa tre mesi prima dell'epidemia dei tavolini spiritici quando l'autore ha voluto introdurre in Francia i cerchi di spiritualismo già in voga in America i colpi misteriosi di Rochester e la scrittura puramente automatica dei medium sfortunatamente ha incontrato molti ostacoli da parte degli altri magnetizzatori i fluidisti e anche coloro che si autodefinivano magnetizzatori spiritualisti ma che in verità non erano che sonnamboli di bassa levatura trattarono i colpi misteriosi dello spiritualismo americano come follie e sogni fantastici così nel giro di non più di sei mesi l'autore pote formare il primo cerchio secondo la moda americana grazie al concorso Zelante prestato lì da Rustan antico membro della società dei magnetizzatori spiritualisti uomo semplice ma pieno di entusiasmo per la santa causa dello spiritualismo molte altre persone sono venute ad unirsi a noi fra le quali occorre citare l'abate Chatelle il fondatore della chiesa francese che malgrado le sue tendenze razionaliste ha finito per ammettere la realtà di una rivelazione oggettiva e sovrannaturale condizione indispensabile dello spiritualismo e di tutte le religioni positive si sa che i circoli americani sono basati astrazione fatta da certe condizioni morali ugualmente richieste sulla distinzione dei principi magnetici o positivi ed elettrici o negativi questi cerchi si compongono di 12 persone di cui 6 rappresentano gli elementi positivi e gli altri 6 gli elementi negativi o sensitivi la distinzione degli elementi non deve essere fatta secondo il sesso delle persone anche se generalmente le donne hanno degli attributi negativi e sensitivi e gli uomini sono dotati di qualità positive e magnetiche occorre dunque ben studiare la costituzione morale e fisica di ognuno prima di formare i cerchi perché ci sono delle donne delicate che hanno delle qualità mascoline come qualche uomo vigoroso che nel morale è femminile si pone una tavola in un luogo spazioso e aerato il medium o i medium si deve sedere a un capo del tavolo ed essere interamente isolato serve da conduttore all'elettricità grazie alla sua calma e alla sua quiete contemplativa un buon sonnambulo è in genere un eccellente medium si pongono le sei nature elettriche o negative e che si riconoscono generalmente dalle qualità affettuose del cuore e dalla loro sensibilità alla destra del medium mettendo a fianco del medium la persona più sensitiva o negativa del circolo la stessa cosa delle nature positive che si pongono a sinistra del medium e fra questi la persona più positiva la più intelligente si deve mettere a fianco del medium per formare la catena occorre che le 12 persone posino la mano destra sulla tavola e che mettano la sinistra del vicino sopra la loro facendo nello stesso modo il giro del tavolo quanto al medium o i medium devono restare interamente isolati dalle 12 persone che formano la catena abbiamo ottenuto dopo numerose sedute certi fenomeni notevoli come delle scosse simultanee sentite da tutti i membri del cerchio al momento dell'evocazione mentale delle persone più intelligenti si sono sentiti anche dei colpi misteriosi e dei suoni strani varie persone anche molto insensibili hanno avuto visioni simultanee anche se erano rimaste nella condizione ordinaria di veglia quanto ai soggetti sensibili hanno acquisito l'amirevole facoltà dei medium di scrivere macchinalmente grazie a una attrazione invisibile che si serve di un braccio senza intelligenza per esprimere le sue idee inoltre gli individui insensibili risentivano questa influenza misteriosa come un soffio esterno ma l'effetto non era così forte da mettere in movimento le loro membra del resto tutti questi fenomeni ottenuti secondo la moda dello spiritualismo americano hanno il difetto di essere ancora più o meno indiretti perché non è possibile fare queste esperienze senza l'intermediazione di un essere umano di un medium lo stesso vale per i tavolini roteanti e parlanti che hanno invaso l'Europa all'inizio dell'anno 1853 l'autore ha fatto molte esperienze delle tavole con il suo onorevole amico il conte di Ursch uno degli uomini più versati nella magia e nelle scienze occulte siamo giunti poco a poco a mettere le tavole in movimento senza nessun contatto il conte di Ursch le ha fatte sollevare senza toccarle l'autore ha fatto girare le tavole con una grande velocità sempre senza toccarle e senza il concorso di un cerchio magnetico la stessa cosa è avvenuta con le vibrazioni delle corde di un piano fenomeno ottenuto già il 20 gennaio 1856 in presenza del conte di Zapari e di Ursch tutti questi fenomeni rivelano bene la realtà di certe forze occulte ma non dimostrano a sufficienza l'esistenza reale e sostanziale di intelligenze invisibili indipendenti dalla nostra volontà e dalla nostra immaginazione di cui certamente è stato accresciuto smisuratamente il potere e i giorni nostri da questo è il rimprovero che indirizziamo agli spiritualisti americani di non avere che comunicazioni insignificanti e vaghe col mondo degli spiriti che non si manifestano che con certi colpi misteriosi e con la vibrazione di qualche suono in effetti non c'è che un fenomeno diretto intelligente e materiale allo stesso tempo indipendente dalla nostra volontà e dalla nostra immaginazione tale come la scrittura diretta degli spiriti che non siano stati evocati né invocati che possa servire da prova irrefragabile della realtà del mondo soprannaturale l'autore essendo sempre in cerca di una prova intelligente e palpabile allo stesso tempo della realtà sostanziale del mondo soprannaturale al fine di dimostrare con dei fatti irrefragabili l'immortalità dell'anima non ha mai cessato di indirizzare delle preghiere fervide all'Eterno perché voglia indicare agli uomini un mezzo infallibile per affermare la fede e l'immortalità dell'anima questa base eterna della religione l'Eterno di cui la misericordia infinita ha ampiamente esaudito questa debole preghiera un bel giorno era il primo agosto del 1856 venne all'autore l'idea di provare a vedere se gli spiriti potessero scrivere direttamente senza l'intermediazione di un medium conoscendo la scrittura diretta e meravigliosa del decalogo secondo Mosè e la scrittura ugualmente diretta e misteriosa durante il festino del re Baldassarre secondo Daniele avendo inoltre sentito parlare dei misteri moderni di Stratford in America dove erano stati trovati certi caratteri illegibili e strani tracciati su dei pezzi di carta e che parevano non provenire da medium l'autore ha voluto constatare la realtà di un fenomeno di cui la portata sarebbe immensa se esistesse realmente mise dunque una carta bianca da lettere e una matita appuntita in una scatoletta chiusa a chiave e tenendo su di sé questa stessa chiave senza far parte a nessuno di questa esperienza attese in vano per 12 giorni senza trovare la minima traccia di segno sulla carta ma quale fu il suo stupore quando vide il 13 agosto 1856 certi caratteri misteriosi tracciati sulla carta appena li ebbe visti questa stessa esperienza si ripetè dieci volte in quella giornata memorabile cambiando ogni mezz'ora il foglio di carta nella stessa scatola l'esperienza fu coronata ogni volta da un successo completo l'indomani il 14 agosto l'autore fece nuovamente una ventina di esperienze lasciando la scatola aperta senza perderla di vista fu allora che l'autore vide che dei caratteri e delle parole in lingua estone si formavano venivano tracciati sulla carta senza che la matita si muovesse dopo questo momento l'autore vedendo l'inutilità della matita ha cessato di metterla sulla carta ha posto semplicemente un foglio bianco su una tavola accanto a sé o sul piedistallo di statue antiche sui sarcofagi sulle urne eccetera all'ouvre a Saint-Denis alla chiesa di Saint-Étienne-du-Monde eccetera sono state fatte anche esperienze simili nei diversi cimiteri di Parigi del resto l'autore non ama affatto i cimiteri anche gli spiriti per la gran parte preferiscono i luoghi in cui hanno vissuto durante la loro carriera terrestre a quelli in cui riposa la loro spoglia mortale così finisce il racconto siamo ben lungi dal mettere in dubbio i fenomeni singolari osservati dal barone ma li faremo osservare che la scoperta era stata fatta prima di lui dal lavater e anche che c'è qualche differenza fra le righe ottenute da Golden Stubbe e il retratto dipinto all'acquerello dal cabalista Gablidone ora in nome della scienza diremo a Golden Stubbe non per lui che non vi crederà ma per gli osservatori seri di questi fenomeni straordinari signor Barone le scritture che ottenete non vengono dall'altro mondo siete voi stesso che le tracciate a vostra insaputa con le vostre esperienze avete moltiplicato all'eccesso e con l'eccessiva tensione della vostra volontà avete distrutto l'equilibrio del vostro corpo fluidico e astrale l'avete costretto a realizzare i vostri sogni ed egli traccia con dei caratteri tratti dai vostri ricordi i riflessi della vostra immaginazione e dei vostri pensieri se siete immerso in un sonno magnetico perfettamente lucido vedrete il miraggio luminoso della vostra mano allungarsi come un'ombra al tramonto e tracciare sulla carta preparata da voi o dai vostri amici i caratteri che vi stupiscono questa luce corporale che emana dalla terra e da voi è contenuta in un viluppo fluidico di una estrema elasticità e questo viluppo si forma dalla quintessenza dei vostri spiriti vitali e dal vostro sangue questa quintessenza dona alla luce un colore determinato dalla vostra volontà segreta diventa come voi sognate che sia allora i caratteri si imprimono sulla carta come i segni sui corpi dei bambini che non sono ancora nati e che sono sotto l'influsso dell'immaginazione delle madri questo inchiostro che vedete apparire sulla carta è il vostro sangue annerito e trasfigurato voi vi stancate a misura che le scritture si moltiplicano se continuate le vostre esperienze il vostro cervello si indebolirà gradualmente perderete la memoria risentirete nelle articolazioni delle membre e nelle dita dei dolori inesprimibili e infine morrete sia folgorato subitamente sia dopo una lunga agonia accompagnata da allucinazioni e da demenza ecco per il barone di Guldestoubet ora diremo al conte di Ursch voi non sarete sorterrato vivo ma rischiate di morire a causa delle stesse precauzioni che prendete per non esserlo le persone sotterrate vive non possono d'altronde avere sottoterra che dei risvegli rapidi e di breve durata possono tuttavia vivervi a lungo conservate dalla luce astrale in uno stato completo di sonnambulismo lucido le loro anime sono sulla terra allora incatenati al corpo addormentato da una catena invisibile allora se sono delle anime avide criminali possono aspirare la quintessenza del sangue delle persone addormentate di un sonno naturale e trasmettere questo fluido al loro corpo sotterrato per conservarlo più a lungo nella speranza vaga che infine sarà reso alla vita è questo fenomeno spaventoso che si chiama vampirismo fenomeno la cui realtà è stata constatata da numerose esperienze altrettanto ben attestate rispetto a quelle che ci sono di più solenni nella storia se dubitate della possibilità di questa vita magnetica del corpo umano nella terra leggete il racconto di un ufficiale inglese di nome Osborne racconto la cui fedeltà è attestata al barone Dupoté dal generale Ventura il 16 giugno 1838 dice Osborne la monotonia della nostra vita di campo fu fortunatamente interrotta dall'arrivo di un individuo celebre nel Punjab godeva fra i Sikh di una grande venerazione a causa della facoltà di restare sepolto sottoterra per tutto il tempo che voleva si riferiscono nel paese dei fatti così straordinari su quest'uomo e tante persone rispettabili ne garantiscono l'autenticità che eravamo estremamente desiderosi di vederlo ci raccontò lui stesso che esercitava quello che lui definiva il suo mestiere quello di farsi seppellire da molti anni è stato visto in effetti ripetere questa strana esperienza in vari punti dell'India fra gli uomini gravi e degni di fede che ne rendono testimonianza devo citare il capitano Wade agente politico all'Odiana questo ufficiale mi ha affermato molto seriamente di aver assistito lui stesso alla risurrezione di questo fachiro dopo un interramento che aveva avuto luogo qualche mese prima in presenza del generale Ventura del Maharajah e dei principali capi Sikh ecco i dettagli che mi ha dato sull'interramento e quelli che ha aggiunto di sua propria autorità sull'esumazione in seguito ai preparativi che erano durati qualche giorno e che egli ripugnava di enumerare il fachiro dichiarò di essere pronto a subire la prova il Maharajah i capi Sikh e il generale Ventura si riunirono vicino a una tomba in muratura costruita espressamente per riceverlo sotto i loro occhi il fachiro fermò con della cera ad eccezione della bocca tutte le aperture del suo corpo che potevano far passare l'aria poi si tolse i vestiti che portava venne poi avvolto in un sacco di tela e secondo il suo desiderio gli si torse la lingua all'indietro in modo da bloccare l'ingresso all'esofago subito dopo quest'operazione il fachiro cadde in una sorta di letargia il sacco che lo conteneva fu chiuso e vi fu posto un sigillo dal Maharajah si mise questo sacco in una cassa di legno allucchettata e sigillata che fu messa nella tomba vi si gettò sopra una grande quantità di terra su cui venne seminato dell'orzo infine furono poste delle sentinelle tutt'attorno con l'ordine di vegliare giorno e notte malgrado tutte queste precauzioni il Maharajah conservava dei dubbi venne due volte nello spazio di dieci mesi tempo nel quale il fachiro rimase interrato e fece aprire la tomba davanti a lui il fachiro era nel sacco tale quale vi era stato messo freddo e inanimato i dieci mesi sperarono si procedette all'esumazione definitiva del fachiro il generale Ventura e il capitano Wade videro aprire le catene rompere i sigilli e togliere la cassa dalla tomba si estrasse il fachiro nessuna pulsazione nel cuore né ai polsi indicava la presenza di vita come prima misura destinata a rianimarlo una persona gli introdusse dolcemente il dito nella bocca e rimise la lingua nella sua posizione naturale la cima della testa era il solo punto in cui si sentiva sensibilmente un certo calore versando lentamente dell'acqua calda sul corpo a poco a poco si ottennero dei segni di vita dopo due ore di cure il fachiro si alzò e si mise a camminare sorridendo quest'uomo veramente straordinario racconta che durante il suo sonno aveva dei sogni deliziosi ma che il momento del risveglio è sempre per lui penosissimo prima di tornare alla coscienza della propria esistenza prova varie vertigini la sua età è di circa 30 anni il suo aspetto è sgradevole e ha una certa espressione d'astuzia parlamo a lungo con lui e si offrì di farsi interrare in nostra presenza noi lo prendemmo in parola e gli demmo appuntamento alla ore promettendogli di farlo restare sottoterra tutto il tempo che fosse durato il nostro soggiorno in quella città tale è il racconto di Osborne anche quella volta il facchino si fece interrare la nuova esperienza poteva essere decisiva ecco cosa accade 15 giorni dopo la visita del fachiro al loro campo gli ufficiali inglesi arrivarono alla ore scelsero un luogo che parve loro favorevole fecero costruire una tomba in muratura con una cassa di legno ben solida e chiesero del fachiro quello li andò a trovare l'indomani testimoniando loro il suo desiderio ardente di provare che non era un impostore aveva già diceva subito i preparativi necessari all'esperienza il suo atteggiamento tradiva l'inquietudine e l'abbattimento volle subito sapere quale sarebbe stata la ricompensa gli venne promessa una somma di 1500 rupie e una rendita di 2000 rupie l'anno che si sarebbero incaricati di farli avere dal re soddisfatto su questo punto volle sapere quali precauzioni si contavano di prendere gli ufficiali li fecero vedere l'apparecchiatura di catene e di chiavi e l'avvertirono che delle sentinelle scelte fra i soldati inglesi avrebbero vegliato per una settimana il fachiro si lamentò ed emise forti ingiurie contro i frenghis contro gli increduli che volevano rovinare la sua reputazione espresse il sospetto che si volesse attentare alla sua vita rifiutò di abbandonarsi così completamente alla sorveglianza degli europei e domandò che la doppia chiave di ogni catena venisse data a qualcuno dei suoi correligionari insistè soprattutto perché le sentinelle non fossero nemici della sua religione gli ufficiali non vollero acconsentire alle sue condizioni diversi incontri avvennero ma senza risultato infine il fachiro fece sapere attraverso uno dei capi Sikh che il Maharajal aveva amminacciato della sua collera se non avesse onorato il suo impegno con gli inglesi voleva sottomettersi alla prova anche se interamente convinto che il solo scopo degli ufficiali fosse quello di togliergli la vita e che non sarebbe mai uscito vivo dalla tomba gli ufficiali dichiararono che siccome su quest'ultimo punto condividevano la sua convinzione e che non volevano rimproverarsi la sua morte lo consideravano libero dalla sua promessa queste esitazioni e questi timori del fachiro sono delle prove perentorie contro di lui ne risulta forse che tutte le persone che in precedenza hanno sostenuto di aver visto i fatti su quali riposa la sua celebrità abbiano mentito oppure siano state sciocche vittime di un'abile truffa confessiamo che non possiamo dubitare visto il numero e il carattere dei testimoni che il fachiro non si sia fatto spesso e realmente interrare ma ammettendo anche che dopo il seppellimento egli sia riuscito a comunicare ogni volta con l'esterno sarebbe ancora inesplicabile come avrebbe potuto restare privo della respirazione per tutto il tempo trascorso fra la sua sepoltura e il momento in cui i complici li giungevano in aiuto Osborne cita in nota un estratto della topografia medica di Lodiana del dottor McGregor che ha assistito ad una delle esumazioni e che testimone dello stato di letargia del fachiro del suo ritorno graduale alla vita cerca seriamente di spiegarla un altro ufficiale inglese Boalot in un'opera pubblicata da qualche anno racconta che è stato testimone di un'altra esperienza in cui tutti i fatti sono avvenuti esattamente nello stesso modo le persone che volessero soddisfare maggiormente la loro curiosità cercando in questo racconto l'indicazione di un curioso fenomeno fisiologico potranno risalire con fiducia alle fonti che abbiamo indicato esiste ancora un gran numero di processi verbali sull'esumazione dei vampiri la carne era in uno stato notevole di conservazione ma astillavano sangue i capelli erano cresciuti in un modo straordinario e sfuggivano a ciocche dalle aperture della bara la vita non esisteva più negli organi che servono alla respirazione ma soltanto nel cuore che da animale sembrava essere divenuto un vegetale per uccidere il vampiro occorreva attraversargli il petto con un piolo e allora un grido terribile annunciava che il sonnambulo della tomba si era risvegliato di soprassalto per una morte vera per rendere questa morte definitiva si circondava la tomba del vampiro di spade piantate per terra con la punta in aria perché i fantasmi della luce astrale si decompongono per l'azione delle punte metalliche che attirando questa luce verso la riserva comune ne distruggono la massa coagulata aggiungiamo per assicurare le persone timorose che i casi di vampirismo sono fortunatamente molto rari e che una persona sana di spirito e di corpo non potrebbe essere la vittima di un vampiro se non gli ha abbandonato in vita il corpo e l'anima per qualche complicità di crimine o di passione sregolata ecco una storia di vampiri che è riportata da Thornfor nel suo viaggio in oriente fumo testimoni dice l'autore nell'isola di Micone di una scena molto singolare in occasione di uno dei suoi morti che credemmo di veder ritornare alla vita dopo essere stato seppellito gente del nord lo chiama vampiro i greci lo designano col nome di Brucolacuo colui del quale si va a raccontare la storia era un paesanno di Micone naturalmente cattivo e attaccabrighe è una circostanza da sottolineare rispetto a parecchi soggetti fu ucciso in campagna non sappiamo come due giorni dopo che era stato enumato in una cappella della città corse la voce che si vedeva di notte passeggiare a grandi passi che entrava nelle case a rovesciare i mobili spegnere le lampade abbracciare la gente da dietro e fare mille piccoli tiri analoghi sulle prime non si fece che riderne ma l'affare divenne serio quando le persone più oneste cominciarono a lamentarsene i pope stessi convenivano del fatto e senza dubbio avevano le loro ragioni non si mancò di far dire delle messe nel frattempo il paesano continuava la stessa vita senza correggersi dopo varie assemblee dei notabili della città dei preti e dei religiosi si concluse che occorreva non si sa per quale antico cerimoniale attendere nove giorni dopo l'interramento il decimo giorno si disse una messa nella cappella in cui era il corpo al fine di scacciare il demone che si credeva vi si fosse stabilito dopo la messa si dissotterrò il corpo e si tolse il cuore il cadavere aveva un così cattivo odore che si fu obbligati a bruciare dell'incenso ma il fumo confuso col cattivo odore non fece che aumentarlo e cominciò a soffocare parecchie persone si pensò di dire che dal corpo usciva un fumo spesso noi che eravamo testimoni non osiamo dire che fosse solo quello dell'incenso molti assistenti assicurarono che il sangue di questo disgraziato era rosso altri giurarono che il corpo era ancora caldo dal che si concluse che il morto aveva il gran torto di non essere veramente morto o per meglio dire di essersi lasciato rianimare dal diavolo è questa precisamente l'idea che si ha di un brucolacuo questo termine corse allora sulle bocche di tutti molte persone che sopravvennero protestarono ad alta voce che si erano ben accorti che quel corpo non era rigido quando era stato portato dalla campagna in chiesa per sotterrarlo e che di conseguenza era un vero brucolacuo questo era il ritornello quando ci venne chiesto che cosa pensavamo di questo morto rispondemmo che lo credevamo decisamente morto e che per quel preteso sangue rosso si poteva vedere facilmente che era fango puzzolente infine facemmo del nostro meglio per guarire o almeno per non eccitare la loro immaginazione turbata spiegando loro i pretesi vapori e il calore di un cadavere malgrado tutti i nostri ragionamenti si fu dell'avviso di bruciare il cuore del morto che dopo questa esecuzione non fu affatto più docile di prima e fece ancora più rumore venne accusato di battere la gente di notte di sfondare le porte di rompere le finestre di strappare gli abiti e di vuotare le brocche e le bottiglie era un morto molto assetato credo che non risparmiasse che la casa del console da cui alloggiavamo tutti avevano l'immaginazione in subbuglio le persone di spirito migliore parevano colpite come le altre era una vera malattia del cervello altrettanto pericolosa della mania e della rabbia si vedevano famiglie intere abbandonare la casa e venire all'estremo della città portando con sé i propri lettucci per passare la notte ognuno si lamentava di qualche nuovo insulto e i più sensati si ritiravano in campagna i cittadini più zelanti per il bene pubblico credevano che si fosse mancato il punto più essenziale della cerimonia non si doveva secondo loro celebrare la messa che dopo aver tolto il cuore a quel disgraziato pretendevano che con questa precauzione sarebbero riusciti a sorprendere il diavolo e senza dubbio questo non sarebbe potuto tornare invece avendo cominciato dalla messa aveva avuto tutto il tempo di fuggire e di tornare a suo piacimento dopo tutti questi ragionamenti ci si trovò nello stesso imbarazzo del primo giorno ci si riuniva in assemblea sera e mattina si fecero processioni per tre giorni e tre notti si obbligarono i preti a digiunare li si vedeva correre nelle case con l'aspersorio in mano gettare dell'acqua benedetta e lavarne le porte riempivano anche con l'acqua benedetta alla bocca del povero brucolacuo con una prevenzione così generale abbiamo preso la decisione di non dire niente non solo saremmo stati trattati da ridicoli ma anche da infedeli come far tornare in sé tutto un popolo tutte le mattine ci veniva ripetuta la commedia col racconto delle nuove follie di questo uccello notturno lo si accusava sempre di aver commesso i peccati più abominevoli pertanto ripetemmo spesso agli amministratori della città che in un caso simile nel nostro paese non avremmo mancato di far la guardia di notte per osservare quello che avveniva che infine avremmo arrestato qualunque vagabondo che certamente aveva preso parte a tutti questi disordini e questo fu fatto ma i vagabondi vennero rilasciati troppo presto perché due giorni dopo per rifarsi del digiuno che avevano fatto in prigione ricominciarono a vuotare le brocche di vino da coloro che erano stati così sciocchi da abbandonare la loro casa di notte si fu dunque obbligati a tornare alle preghiere un giorno mentre recitavamo certe orazioni dopo aver piantato non so più quante spade nude sulla fossa del cadavere che veniva dissotterrato tre o quattro volte al giorno a seconda del capriccio del primo venuto un albanese che si trovava là un albanese che si trovava là credete opportuno dire con un tono da dottore che era davvero ridicolo in un caso simile servirsi delle spade dei cristiani non vedete povera gente disse che la lama di queste spade facendo una croce con l'elsa impedisce al diavolo di uscire dal corpo perché non vi servite piuttosto delle sciabole dei turchi il consiglio di questo uomo abile non servì a niente il brucolacuo non parve più trattabile e non si sapeva più a qual santo votarsi quando tutti a una voce come se si fossero passati parola si misero a gridare in tutta la città che occorreva bruciare il brucolacuo tutto intero che dopo questo avrebbero sfidato il diavolo a tornare a nascondervisi che era meglio ricorrere a questo estremo rimedio che abbandonare la città in effetti c'erano già delle famiglie che prendevano i loro bagagli per stabilirsi altrove si portò dunque il brucolacuo per ordine degli amministratori sulla punta dell'isola di San Giorgio dove era stato preparato un grande rugo con catrame per paura che il legno anche se fosse stato secco non avrebbe bruciato abbastanza velocemente i resti del disgraziato cadavere furono gettati e consumati in poco tempo era il primo gennaio 1701 da allora non si sentirono più lamenti contro il brucolacuo ci si accontentò di dire che il diavolo era stato ben intrappolato questa volta e si fecero delle canzoni per metterlo in ridicolo rimarchiamo in questo racconto di Turnford che egli ammette la realtà delle visioni che spaventarono tutto il paese che non contesta né la flessibilità né il calore del cadavere ma che cerca di spiegarli e questo soltanto allo scopo lodevolissimo di rassicurare quella povera gente che non parla di decomposizione del cadavere ma soltanto del suo fetore fetore naturale nei cadaveri come nei funghi velenosi che attesta infine che una volta bruciato il cadavere i prodige le visioni cessarono ma eccoci ben lontani dai fantasisti della magia torniamoci per dimenticare i vampiri e diciamo qualcosa sul cartomante Edmond Edmond è il mago favorito delle dame del quartiere di Notre Dame de Lorette occupa in rue Fontaine Saint-Georges numero 30 un piccolo appartamento assai grazioso la sua anticamera è sempre piena di signore e forse anche di signori clienti Edmond è un uomo di grossa corporatura un po' obeso di colorito pallido di fisionomia aperta e di loquela simpatica sembra credere alla sua arte e continua in coscienza gli esercizi alla fortuna di Etéia e delle signorine Lenormand l'abbiamo interrogato sui suoi procedimenti e ci ha risposto con l'accento della franchezza e con molta gentilezza che è stato fin dall'infanzia appassionato di scienze occulte e che si è presto esercitato alla divinazione che ignora i segreti filosofici delle alte scienze e che non ha le chiavi della cabala di Salomone ma che è estremamente sensitivo e che la sola presenza dei suoi clienti li impressiona così vivamente che sente in qualche modo il loro destino mi sembra dice di udire dei rumori singolari dei rumori di catene attorno ai predestinati alla prigione delle grida e dei gemiti attorno a coloro che morranno di morte violenta degli odori sovranaturali mi assalgono e mi soffocano un giorno in presenza di una donna velata e vestita di nero presi a trassalire sentivo un odore di paglia e sangue signora le gridai uscite di qui siete circondata da un'atmosfera di assassino e di prigione ebbene sì disse allora quella donna impallidendo sono stata accusata di infanticidio ed esco di prigione poiché avete visto il passato ditemi anche l'avvenire uno dei nostri amici e dei nostri discepoli in cabala assolutamente sconosciuto a Edmond è andato un giorno a consultarlo aveva pagato in anticipo e attendeva l'oracolo quando Edmond alzandosi con rispetto lo pregò di riprendersi i soldi non ho niente da dirvi aggiunse il vostro destino è sigillato per me con la chiave dell'occultismo tutto quello che vi potrei dire lo sapete bene come me e lo riaccompagnò alla porta con molti saluti Edmond si occupa anche di astrologia giudiziaria e fornisce al giusto prezzo degli oroscopi e dei temi natali è d'altronde un mestiere triste e faticoso il suo avendo tante teste malate e cuori malsani con cui dover essere continuamente in relazione e poi le sciocche esigenze degli uni i rimproveri ingiusti degli altri le confidenze moleste le domande di filtri e di incantesimi le ossessioni dei folli con tutto questo in verità i suoi soldi se li guadagna davvero Edmond infine non è che un sonnambulo come Alexis si magnetizza da solo con le sue carte dipinte con figure diaboliche si veste di nero e fornisce le sue consultazioni in un gabinetto nero è il profeta del mistero capitolo quinto ricordi intimi dell'autore nel 1839 l'autore di questo libro ricevette un mattino la visita di Alfonso Eschirò venite con me a vedere il mapà gli disse quest'ultimo che cos'è il mapà è un dio grazie ma non amo che gli dèi invisibili venite su è il pazzo più eloquente più raggiante più superbo che si sia mai visto amico mio ho paura dei folli la follia è contagiosa eh mio caro però io vengo a trovarvi io è vero e visto che ci tenete andiamo a vedere il mapà in una spaventosa stamberga c'era un uomo barbuto con una figura maestosa e profetica portava abitualmente sugli abiti una vecchia pelliccia da donna il che gli dava l'aria di un povero derviscio era circondato da vari uomini barbuti ed estatici come lui e da una donna dai lineamenti immobili che sembrava una sonnambula addormentata i suoi modi erano bruschi ma simpatici la sua eloquenza trascinante i suoi occhi allucinati parlava con enfasi si animava e si scaldava fino a che una schiuma biancastra gli bordava le labbra qualcuno l'ha definito la bate di la mennè questa definizione si attagliava molto al misticismo di Mapa e lo si può giudicare da questo frammento sfuggito al suo entusiasmo lirico l'umanità doveva fallire così voleva il suo destino affinché fosse essa stessa lo strumento della sua ricostituzione e che nella grandezza della maestà del lavoro umano attraversando tutte le luci e le ombre apparisse manifestamente la grandezza e la maestà di Dio e l'unità primitiva è stata spezzata dalla caduta il dolore si introdusse nel mondo sotto forma di serpente e l'albero della vita divenne albero della morte e stando le cose così Dio disse alla donna tu partorirai con dolore poi soggiunse è per te che la testa del serpente sarà schiacciata e la donna è la prima schiava ha compreso la sua missione divina e il penoso parto è cominciato è per questo che dopo la caduta il compito dell'umanità non è stato che un compito di iniziazione compito grande è terribile è per questo che tutti i termini di questa iniziazione di cui la nostra madre comune Eva e l'Alfa e la nostra madre comune Libertà all'Omega sono ugualmente sante e sacre agli occhi di Dio ho visto un immenso vascello sormontato da un masso gigantesco terminante in un alveare e uno dei fianchi del vascello guardava occidente e l'altro a oriente e dal lato dell'occidente questo vascello si appoggiava sulle cime avvolte dalle nuvole di tre montagne di cui la base si perdeva in un mare furioso e ognuna di queste montagne portava il suo nome sanguinante scritto al fianco la prima si chiamava Golgota la seconda Monte San Giovanni la terza Sant'Elena e al centro del masso gigantesco dal lato di occidente era fissata una croce a cinque braccia sulla quale moriva una donna sopra la testa di questa donna si leggeva Francia 18 giugno 1815 venerdì santo e ognuna di queste cinque braccia della croce sulla quale era rappresentava una delle parti del mondo la sua testa riposava sull'Europa e una nuvola la circondava e dal fianco del vascello che guardava a oriente le tenebre non esistevano e la carena era fermata sulla soglia della città di Dio sulla sommità di un arco trionfale che il sole illuminava coi suoi raggi e la stessa donna apparve di nuovo ma trasfigurata e radiosa e la sollevò la pietra di un sepolcro su questa pietra c'era scritto restaurazione giorno del sepolcro 29 luglio 1830 Pasqua il mapà era come si vede un continuatore di Catherine Théau e di Dom Gerl e pertanto con la strana simpatia con cui le follie comunicano ci dichiarò un giorno confidenzialmente che era Luigi XVII ritornato sulla terra per un'opera di rigenerazione e che questa donna che viveva con lui era stata Maria Antonietta di Francia spiegò allora le sue teorie rivoluzionarie fino alla stravaganza come le ultime parole delle pretese violente di Caino destinate a riportare per una reazione fatale il trionfo del giusto Abele Eschirò ed io andiamo a vedere il mapà per divertirci della sua demenza e la nostra immaginazione restò colpita dai suoi discorsi eravamo due amici di collegio come lui Lambert e Balzac e abbiamo spesso sognato insieme delle devozioni impossibili e degli eroismi sconosciuti dopo aver udito Gannot così si chiamava colui che si faceva chiamare mapà cominciamo a pensare che sarebbe stato bello far dire al mondo le ultime parole della rivoluzione e fermare l'abisso dell'anarchia gettandoci in esso come Curzius questo orgoglio da scolari fece nascere il Vangelo del Popolo e la Bibbia della Libertà follie che Eschirò e il suo disgraziato amico hanno pagato a caro prezzo tale è il pericolo dei maniaci entusiasti sono contagiosi e non ci si sporge impunemente sul bordo dell'abisso della demenza ma ecco qualche cosa di ben altrimenti terribile fra i discepoli del mapà c'era un giovanotto nervoso e debole di nome Sobrier colui perse completamente la testa e si credette predestinato a salvare il mondo provocando la crisi suprema di una rivoluzione universale arrivarono i giorni del febbraio 1848 una sommossa aveva provocato un cambio di ministri tutto era finito i parigini erano contenti e i boulevard erano illuminati un giovane apparve di colpo nelle strade popolose del quartiere Saint-Martin si faceva precedere da due monelli uno che portava una torcia l'altro che batteva il tamburo si formò un assembramento numeroso il giovanotto montò su un pilastro e cominciò ad arringare la folla erano cose incoerenti incendiarie ma la conclusione fu che si doveva andare al boulevard de Capussin a portare al ministero la volontà del popolo ad ogni angolo di strada l'energumelo ripeteva la stessa arringa e marciava in testa alla folla con due pistole in mano e sempre preceduto dalla torcia e dal tamburo la folla dei curiosi che ingombrava il boulevard si unì per curiosità al corteo presto non fu più un assembramento ma una massa di popolo che marciava sul boulevard des italiani in mezzo a questa confusione il giovane e i due ragazzi erano scomparsi ma davanti all'hotel de Capussin venne tirato sulle truppe un colpo di pistola questo colpo di pistola significava rivoluzione e venne sparato da un pazzo per tutta la notte due carrette cariche di cadaveri percorsero le strade a lume delle torce l'indomani per tutta Parigi c'erano barricate e Sobrier senza conoscenza era riportato a casa sua era Sobrier che senza sapere quello che faceva veniva a dare una scossa al mondo Garnot e Sobrier sono morti e oggi si può senza pericolo per loro rivelare alla storia questo terribile esempio di magnetismo degli entusiasti e delle fatalità che possono trascinare dietro a loro le malattie nervose di certi uomini ciò che raccontiamo lo abbiamo saputo da fonte certa e pensiamo che questa rivelazione possa portare un sollievo alla coscienza del belisario della poesia l'autore della storia dei Girondini i fenomeni magnetici prodotti da Garnot durarono anche dopo la sua morte la sua vedova donna senza istruzione e di un'intelligenza piuttosto negativa figlia di un onesto alverniate è rimasta nel sonnambulismo statico in cui suo marito l'aveva fatta cadere somigliante a certi bambini che subiscono la forma dell'immaginazione della loro madre e lei è diventata un'immagine vivente di Maria Antonietta prigioniera alla consiergerie i suoi modi sono quelli di una regina per sempre vedova e desolata a volte soltanto ella si lascia sfuggire qualche lamento gridando che il suo sogno la fatica ma si indigna altamente contro coloro che cercano di svegliarla d'altronde non dà alcun segno di alienazione mentale la sua condotta esteriore è ragionevole e la sua vita perfettamente onorevole e regolare niente più toccante secondo noi di questa ossessione perseverante di un essere follemente amato che sopravvive in un'allucinazione coniugale se Artemisia è esistita è permesso di credere che Mausolo fosse anche lui un potente magnetizzatore e che avesse trascinato e fissato per sempre le affezioni di una donna molto sensitiva oltre i limiti del libero arbitrio e della ragione capitolo sesto le scienze occulte il segreto delle scienze occulte è quello della natura stessa è il segreto della generazione degli angeli e dei mondi è quello dell'onnipotenza di Dio voi sarete come gli Elohim a conoscenza del bene e del male aveva detto il serpente della Genesi e l'albero della scienza è divenuto l'albero della morte dopo 6.000 anni i martiri della scienza lavorano e muoiono ai piedi di quest'albero perché ridiventi l'albero della vita l'assoluto cercato dagli insensati e trovato dai saggi è la verità la realtà e la ragione dell'equilibrio universale l'equilibrio è l'armonia che risulta dall'analogia dei contrari fino ad oggi l'umanità ha cercato di reggersi su un solo piede a volte su uno a volte sull'altro le civiltà sono cresciute e morte sia per la demenza anarchica del despotismo sia per l'anarchia dispotica della rivolta ora sia gli entusiasmi superstiziosi sia i miserabili calcoli dell'istinto materialista hanno smarrito le nazioni e Dio spinge infine il mondo verso la ragione credente e le credenze ragionevoli abbiamo avuto abbastanza profeti senza filosofia e filosofi senza religione i credenti ciechi e gli scettici si somigliano e sono lontani gli uni dagli altri quanto lo sono dalla salvezza eterna nel caos del dubbio universale e dei conflitti fra scienza e fede i grandi uomini e i veggenti non sono stati che artisti malati che cercavano la bellezza ideale a rischio e pericolo della loro ragione e della loro vita così guardateli ancora questi sublimi fanciulli sono nervosi e incostanti come delle donne un niente li ferisce la ragione li offende sono ingiusti gli uni verso gli altri e quelli che vivono solo per essere incoronati sono i primi a fare nel loro fantastico umore quello che Pitagora proibisce in un modo così toccante nei suoi simboli ammirevoli e si lacerano e calpestano le corone sono gli alienati della gloria ma Dio per impedire loro di divenire pericolosi li contiene con le catene dell'opinione il tribunale della mediocrità giudica il genio senza appello perché essendo il genio la luce del mondo è considerato come nullo e come morto se non illumina l'entusiasmo del poeta è controllato dal sangue freddo della prosaica moltitudine l'entusiasta che il buonsenso non accetta non è affatto un genio è un folle non dite che i grandi artisti sono gli schiavi della folla ignorante perché è da essa che il loro talento riceve l'equilibrio della ragione la luce è l'equilibrio dell'ombra e del giorno il movimento è l'equilibrio dell'inerzia e dell'attività l'autorità è l'equilibrio della libertà e del potere la saggezza è l'equilibrio nei pensieri la virtù è l'equilibrio negli affetti la bellezza è l'equilibrio nelle forme le belle linee sono le linee giuste e le magnificenze della natura sono un'algebra di grazie e di splendori tutto quello che è giusto è bello tutto quello che è bello deve essere giusto il cielo e l'inferno sono l'equilibrio della vita morale il bene e il male sono l'equilibrio della libertà la grande opera è la conquista del punto centrale in cui risiede la forza equilibrante ovunque d'altronde le reazioni della forza equilibrata conservano la vita universale attraverso il movimento perpetuo della nascita e della morte è per questo che i filosofi ermetici paragonano il loro oro al sole è per questo che questo oro guarisce tutte le malattie dell'anima e dona l'immortalità gli uomini arrivati a questo punto centrale sono i veri adepti sono i taumaturghi della scienza e della ragione sono maestri di tutte le ricchezze del mondo e dei mondi sono i confidenti e gli amici dei principi del cielo la natura obbedisce loro perché vogliono quello che vuole la legge che fa camminare la natura ecco quello che il salvatore del mondo chiama il regno di dio è il santo regno della santa cabala è la corona e l'anello di salomone è lo scettro di giuseppe davanti a cui si inchinano le stelle del cielo e le messi della terra questa onnipotenza noi l'abbiamo ritrovata e non la vendiamo ma se dio ci avesse incaricato di venderla allora troveremo che non sarebbe sufficiente a comprarla tutta la fortuna degli acquirenti noi domanderemo loro ancora non per noi ma per lei tutta la loro anima e tutta la loro vita capitolo settimo riassunto e conclusione ora ci resta da riassumere e da concludere riassumere la storia di una scienza è riassumere la scienza quindi andiamo a ricapitolare i grandi principi dell'iniziazione conservati e trasmessi attraverso tutte le ere la scienza magica è la scienza assoluta dell'equilibrio questa scienza essenzialmente religiosa ha presieduto alla formazione dei dogmi del mondo antico ed è anche stata la madre nutrice di tutte le civiltà madre pudica e misteriosa che allattando di poesie e di ispirazioni le generazioni nascenti copriva il suo viso e il suo seno prima di ogni inizio essa ci dice di credere in dio e di adorarlo senza cercare di definirlo perché spesso per la nostra intelligenza imperfetta un dio definito è in qualche modo un dio finito ma dopo dio essa ci mostra come principi sovrani delle cose essa ci mostra come principi sovrani delle cose le matematiche eterne e le forze equilibrate è scritto nella bibbia che dio ha disposto tutto per peso numero e misura ecco il testo omni e impondere et numero et mensura disposuit Deus così il peso il numero cioè la quantità e la misura vale a dire la proporzione tali sono le basi eterne o divine della scienza della natura la formula dell'equilibrio è questa l'armonia risulta dall'analogia dei contrari il numero è la scala delle analogie di cui la proporzione e la misura tutta la filosofia occulta del Soar potrebbe chiamarsi la scienza dell'equilibrio la chiave dei numeri si trova nel Seferge Zira la generazione dei numeri è analoga alla filiazione delle idee e alla produzione delle forme di modo che nel loro alfabeto sacro i saggi ierofanti della cabala hanno riunito i segni geroglifici dei numeri delle idee e delle forme le combinazioni di questo alfabeto danno delle equazioni di idee e misurano indicandole tutte le combinazioni possibili nelle forme naturali Dio dice la Genesi ha fatto l'uomo a sua immagine ora essendo l'uomo il riassunto vivente della creazione ne segue che anche la creazione è fatta immagine di Dio nell'universo ci sono tre cose lo spirito il mediatore plastico e la materia gli antichi davano allo spirito come strumento immediato il fluido igno al quale davano il nome generico di zolfo al mediatore plastico il nome di mercurio a causa del simbolismo rappresentato dal caduceo e alla materia il nome di sale a causa del sale fisso che resta dopo la combustione e che resiste all'azione del fuoco paragonavano lo zolfo al padre a causa dell'attività generatrice del fuoco il mercurio alla madre per il suo potere di attrazione e di riproduzione e il sale al figlio come sostanza sottomessa all'educazione della natura la sostanza creata da loro era una e la chiamarono luce luce positiva o ignea lo zolfo volatile luce negativa o resa visibile dalle vibrazioni del fuoco il mercurio fluido eterizzato e luce neutralizzata o ombra la miscela coagulata o fissata sotto forma di terra o di sale è per questo che ermete trismegisto si esprime così nel suo simbolo noto sotto il nome di tavola di smeraldo ciò che sta in alto è come ciò che sta in basso e ciò che sta in basso è come ciò che sta in alto per formare le meraviglie della cosa unica vale a dire che il movimento universale è prodotto dalle analogie del fisso e del volatile il volatile tendente a fissarsi e il fisso a volatilizzarsi cosa che produce uno scambio continuo tra le forme della sostanza unica e a causa di questo scambio le combinazioni eternamente rinnovate delle forme universali il fuoco è osirite o il sole la luce è iside o la luna sono il padre e la madre del grande telesma vale a dire della sostanza universale non perché essi ne siano i creatori ma rappresentano le due forze generatrici e il loro sforzo combinato produce il fisso o la terra cosa che fa dire a ermete che la loro forza è giunta a tutta la sua manifestazione quando la terra è stata formata osirite non è dunque dio anche per i grandi ierofanti del santuario egiziano osirite non è che l'ombra luminosa o igna del principio intellettuale della vita è per questo che al momento dell'ultima iniziazione si passava di corsa gettando nell'orecchio dell'adepto questa rivelazione sconvolgente osirite è un dio nero sventura in effetti al recipientario la cui intelligenza non si sarà elevata per mezzo della fede al di sopra dei simboli puramente fisici della rivelazione egiziana queste parole divenivano per lui una formula di ateismo e il suo spirito ne veniva accecato queste parole erano al contrario per il credente di un genio più elevato la porta delle più sublime speranze figlio sembrava dirgli l'iniziatore tu prendi una lampada per il sole ma la tua lampada non è che una stella della notte esiste un vero sole sorgi dalla notte cerca il giorno quelli che gli antichi chiamavano i quattro elementi non erano per loro dei corpi semplici ma bensì le quattro forme elementari della sostanza unica queste quattro forme erano raffigurate sulla sfinge l'aria con le ali l'acqua col seno della donna la terra con il corpo del toro il fuoco con gli artigli del leone la sostanza unica tre volte tripla in modo di essenza e quadrupla in forma di esistenza tale è il segreto delle tre piramidi triangolari di elevazione e quadrate alla base e custodite dalla sfinge l'Egitto innalzando i suoi monumenti aveva voluto porre le colonne d'Ercole della scienza universale così le sabbie sono salite i secoli sono passati e le piramidi sempre grandi propongono alle nazioni il loro enigma le cui parole sono andate perdute quanto alla sfinge sembra essere stata sommersa dalla polvere degli anni i grandi imperi profetizzati da Daniele hanno regnato volta a volta sulla terra e sono sprofondati con tutto il loro peso nella tomba conquiste della guerra fondazioni del lavoro opere delle passioni umane tutto è stato inghiottito nel corpo simbolico della sfinge ora la testa umana si erge soltanto sulle sabbie del deserto come se aspettasse l'impero universale del pensiero indovina o muori tale era il terribile dilemma posto dalla sfinge agli aspiranti alla regalità di Tebe in effetti i segreti della scienza sono quelli della vita si tratta di regnare o di servire di essere o di non essere le forze naturali ci stritoleranno se non ci serviranno a conquistare il mondo re o vittima non ci sono vie di mezzo tra questo avvisso e la vetta a meno che non ci si lasci cadere nella massa di coloro che non sono niente perché non si chiedono mai perché vivono né chi sono le forme della sfinge rappresentano anche per analogia geroglifica le quattro proprietà dell'agente magico universale vale a dire della luce astrale dissolvere coagulare riscaldare raffreddare queste quattro proprietà dirette dalla volontà dell'uomo possono modificare tutte le forme della natura e produrre secondo l'impulso dato la vita o la morte la salute o la malattia l'amore o l'odio la ricchezza o la povertà possono mettere al servizio dell'immaginazione tutti i riflessi della luce sono la soluzione paradossale delle domande più temerarie che possano spingere all'alta magia le questioni paradossali della curiosità umana eccole le porremo e forniremo le risposte 1. si può sfuggire alla morte? 2. la pietra filosofale esiste e come fare per trovarla? 3. ci si può far servire dagli spiriti? 4. che cosa sono le clavicole l'anello e il sigillo di Salomone? 5. si può prevedere l'avvenire con dei calcoli certi? 6. si può fare a proprio piacere del bene o del male con un'influenza magica? 7. che fare per essere un vero mago? 8. in che consistono precisamente le forze della magia nera? noi definiamo paradossali queste domande che sono al di fuori di qualsiasi scienza e che sembrano aver già avuto una risposta negativa dalla fede queste domande sono temerarie se vengono fatte da un profano e la loro soluzione completa data da un adepto sarebbe come un sacrilegio Dio e la natura hanno chiuso il santuario intimo dell'alta scienza di modo che al di là di certi limiti colui che sa parlerà inutilmente non si farà più comprendere la rivelazione del grande arcano magico è dunque fortunatamente impossibile le soluzioni che daremo saranno dunque l'ultima espressione del verbo magico noi le renderemo più chiare possibile ma non ci prenderemo il compito di farle comprendere a tutti i nostri lettori domande una e due uno si può sfuggire alla morte due la pietra filosofale esiste e come fare per trovarla risposte si può sfuggire alla morte in due modi nel tempo e nell'eternità nel tempo guarendo tutte le malattie e evitando le infermità della vecchiaia e nell'eternità perpetuando col ricordo l'identità personale nelle trasformazioni dell'esistenza poniamo subito dei principi primo che la vita risultante dal movimento non può conservarsi che per la successione e il perfezionamento delle forme secondo che la scienza del movimento perpetuo è la scienza della vita terzo che questa scienza ha per oggetto la giusta ponderazione delle influenze equilibrate quarto che tutto il rinnovamento si opera attraverso la distruzione e anche ogni generazione è una morte e tutte le morti una generazione adesso stabiliamo con gli antichi saggi che il principio universale della vita è un movimento sostanziale o una sostanza eternamente essenzialmente mossa e motrice invisibile e impalpabile allo stato volatile che si manifesta materialmente fissandosi attraverso i fenomeni della polarizzazione questa sostanza è indefettibile incorruttibile e di conseguenza immortale ma le sue manifestazioni attraverso la forma vengono eternamente mutate attraverso la perpetuità del movimento dunque tutto muore perché tutto vive e se fosse possibile rendere eterna una forma si arresterebbe il movimento e si creerebbe la sola vera morte imprigionare per sempre un'anima in un corpo umano mummificato tale sarebbe la soluzione orribile del paradosso magico dell'immortalità pretesa dello stesso corpo e sulla stessa terra tutto si rigenera attraverso il solvente universale che è la sostanza primaria questo solvente concentra la sua forza nella quintessenza vale a dire al centro equilibrante di una doppia polarità i quattro elementi degli antichi sono le quattro forze polari del magnete universale rappresentato da una croce questa croce che gira indefinitamente attorno al suo centro propone anche l'enigma della quadratura del cerchio il verbo creatore si fa intendere dal centro della croce e grida tutto è consumato è nella giusta proporzione delle quattro forme elementari che occorre cercare la medicina universale del corpo come la medicina dell'anima ci viene presentata dalla religione in colui che si offre eternamente sulla croce per la salvezza del mondo la magnetizzazione e la polarizzazione dei corpi celesti risultano dalla loro gravitazione equilibrata attorno ai soli che sono le riserve comuni del loro elettromagnetismo la vibrazione della quintessenza attorno alle riserve comuni si manifesta attraverso la luce e la luce rivela la sua polarizzazione attraverso i colori il bianco è il colore della quintessenza verso il polo negativo questo colore si condensa in blu e si fissa in nero ma verso il suo polo positivo si condensa in giallo e si fissa in rosso la via irraggiante va dunque sempre dal nero al rosso passando per il bianco e la via assorbente ridiscende dal rosso al nero traversando lo stesso mezzo le quattro sfumature intermedie o miscele producono con i tre colori della sillessi dell'analisi e della sintesi luminose che chiamiamo i sette colori del prisma o dello spettro solare questi sette colori formano sette atmosfere o sette zone luminose attorno ad ogni sole e il pianeta dominante di ogni zona si trova magnetizzato in modo analogo al colore della sua atmosfera i metalli nelle viscere della terra si formano come i pianeti nel cielo attraverso le specializzazioni di una luce latente che si scompone attraversando diversi mezzi impadronirsi del soggetto in cui la luce metallica è latente prima che si sia specializzata e spingerla all'estremo polo positivo vale a dire al rosso vivo attraverso un fuoco improntato alla luce stessa è il segreto della grande opera si comprende che questa luce positiva al suo estremo grado di condensazione è la vita stessa divenuta fissa e può servire da solvente universale da medicina a tutti i regni della natura ma per strappare alla pirite all'antimonio all'arsenico dei filosofi il suo sperma metallico vivente e androgino occorre un solvente primario che è un mestruo minerale salino occorre inoltre il concorso del magnetismo e dell'elettricità il resto si fa da sé in un solo vaso in un solo atanor e attraverso il fuoco graduato di una sola lampada è dicono gli adepti un lavoro da bambini e da donne ciò che i chimici e i fisici moderni chiamano calore luce elettricità magnetismo non erano per gli antichi che le manifestazioni fenomeniche elementari della sostanza unica chiamata dagli ebrei aur od tik e ob od è il nome dell'attivo ob il nome del passivo e aur da cui i filosofi ermetici hanno fatto il loro oro è il nome del misto androgino e equilibrato l'oro volgare è l'aur metallizzato l'oro filosofico è l'aur allo stato di pietra solubile in teoria secondo la scienza trascendentale degli antichi la pietra filosofale che guarisce tutte le malattie e opera la trasmutazione dei metalli esiste dunque incontestabilmente esiste e può esistere realmente se lo affermiamo non ci si crederebbe diamo dunque questa affermazione come una soluzione paradossale ai paradossi espressi dalle due prime domande e passiamo al secondo capitolo nota noi non rispondiamo alla domanda sussidiaria come fare per trovare la pietra filosofale perché il signor della palisse stesso risponderebbe al nostro posto che per trovare è indispensabile cercare a meno che non si trovi per caso ne abbiamo parlato abbastanza per dirigere e facilitare le ricerche domande 3 e 4 3 si può farsi servire dagli spiriti 4 che cosa sono la clavicola il sigillo e l'anello di salomone risposte quando il salvatore del mondo ebbe trionfato sulle sue tentazioni nel deserto sulle tre brame che asserviscono l'anima umana la brama degli appetiti la brama delle ambizioni e quella dell'avidità sta scritto che gli angeli si avvicinarono a lui e lo servirono perché gli spiriti sono al servizio dello spirito sovrano e lo spirito sovrano è colui che incatena le turbulenze sregolate e le trazioni ingiuste della carne rimarchiamo tuttavia che è contro l'ordine della provvidenza invertire la serie naturale delle comunicazioni tra gli esseri noi non vediamo che il salvatore e gli apostoli abbiano evocato le anime dei morti l'immortalità dell'anima è uno dei dogmi più consolanti della religione per cui deve essere riservata alle aspirazioni della fede e non sarà per conseguenza mai provata per dei fatti accessibili alla critica della scienza così l'obnubilamento o la perdita della ragione è e sarà sempre il castigo di coloro che avranno la temerità di guardare nell'altra vita con gli occhi di questa così le tradizioni magiche faranno sempre apparire i morti evocati con devisi tristi e irati si lamenteranno di essere stati turbati nel loro riposo e non proferiranno che rimproveri e minacce le chiavi o le clavicole di Salomone sono delle forze religiose e razionali espresse con dei segni e che servono meno a evocare gli spiriti che a preservare se stessi da ogni aberrazione nelle esperienze relative alle scienze occulte il sigillo riassume le chiavi l'anello e ne indica l'uso l'anello di Salomone è allo stesso tempo circolare e quadrato e raffigura così il mistero della quadratura del cerchio si compone di sette quadrati disposti in modo da formare un cerchio vi si adattano due castoni uno circolare l'altro quadrato uno in oro l'altro in argento l'anello deve essere fatto di filigrana di sette metalli nel castone d'argento si incastona una pietra bianca e nel castone d'oro una pietra rossa con i segni seguenti sulla pietra bianca il segno del macrocosmo sulla pietra rossa il segno del microcosmo quando ci si infila l'anello al dito una delle pietre deve essere rivolta verso la mano a seconda che si voglia comandare agli spiriti della luce o al potere delle tenebre spieghiamo con qualche parola il potere di questo anello la volontà è onnipotente quando si arma di forze vive della natura il pensiero è vizioso e morto finché non si manifesta attraverso il verbo o il segno non può allora esercitare né dirigere la volontà essendo il segno la forma necessaria del pensiero esso è lo strumento indispensabile della volontà più il segno è perfetto più il pensiero è formulato fortemente e maggiore sarà di conseguenza il potere con cui la volontà viene diretta la fede cieca trasporta le montagne che sarà dunque della fede illuminata da una scienza completa e immutabile se la nostra anima potesse concentrare tutta la sua intelligenza e tutta la sua energia nell'emissione di una sola parola per se stessa non sarebbe forse onnipotente l'anello di Salomone con il suo doppio sigillo è tutta la scienza e tutta la fede dei magi riassunta in un segno è il simbolo di tutte le forze del cielo e della terra e delle leggi sante che le regolano sia nel macrocosmo celeste sia nel microcosmo umano è il talismano e il pentacolo dei pentacoli l'anello di Salomone è onnipotente se è un segno vivente ma è inefficace se è un segno morto la vita dei segni è l'intelligenza e la fede intelligenza della natura fede nel suo motore eterno lo studio approfondito dei misteri della natura può allontanare da Dio l'osservatore inattivo in cui la stanchezza dello spirito paralizza gli slanci del cuore è in tutto questo che le scienze occulte possono essere pericolose e anche fatali per certe anime l'esattezza matematica il rigore assoluto delle leggi della natura l'insieme e la semplicità di queste leggi danno a molti l'idea di un meccanismo necessario eterno inesorabile e la provvidenza per essi sparisce dietro gli ingranaggi di ferro di un orologio dal movimento perpetuo non riflettono sul fatto terribile della libertà e dell'autocrazia delle creature intelligenti un uomo dispone a suo piacimento dell'esistenza di esseri organizzati come lui può raggiungere gli uccelli nell'aria i pesci nell'acqua le bestie selvagge nelle foreste può uccidere o incendiare le stesse foreste minare e far saltare le rocce e le montagne cambiare attorno a lui tutte le forme e malgrado le analogie ascendenti della natura non crederà all'esistenza di esseri intelligenti come lui che potrebbero a loro piacimento spostare e distruggere o incendiare i mondi soffiare sui loro soli per spegnergli o bruciarli per farne delle stelle degli esseri così grandi che sfuggono alla sua vista come noi sfuggiamo senza dubbio a quella del verme o dell'insetto e se degli esseri simili esistono senza che l'universo sia mille volte ribaltato non occorre forse ammettere che essi obbediscono tutti a una volontà suprema a una forza potente e saggia che proibisce loro di spostare i mondi come proibisce a noi di distruggere il nido della rondine e la crisalide della farfalla per il mago che sente questa forza in fondo alla sua stessa coscienza e che non vede più nelle leggi dell'universo che gli strumenti della giustizia eterna il sigillo di salomone le sue clavicole e il suo anello sono le insegne della suprema regalità domande 5 e 6 5 si può prevedere l'avvenire con dei calcoli certi 6 si può fare del bene o del male attraverso influenze magiche risposte due giocatori di scacchi di forza uguale sono seduti a una tavola e cominciano la partita quale dei due vincerà colui che starà più attento al suo gioco se conosco le preoccupazioni dell'uno e dell'altro posso predire certamente il risultato della loro partita al gioco degli scacchi prevedere è vincere ed è lo stesso nel gioco della vita niente nella vita arriva per caso il caso è l'imprevisto ma l'imprevisto dell'ignorante era stato previsto dal saggio tutti gli eventi come tutte le forme risultano da un conflitto o da un equilibrio di forze e queste forze possono essere rappresentate da dei numeri l'avvenire può dunque essere determinato anticipatamente con il calcolo ogni azione violenta è bilanciata da una reazione uguale il riso pronostica le lacrime ed è per questo che il salvatore diceva felici coloro che piangono è per questo che diceva colui che si innalza sarà abbassato e colui che si abbassa sarà innalzato oggi Nabucodonosor si fa addio domani sarà mutato in bestia oggi Alessandro fa il suo ingresso in Babilonia e si fa offrire dell'incenso su tutti gli altari domani morrà brutalmente ubriaco l'avvenire è nel passato il passato è nell'avvenire quando il genio prevede si ricorta gli effetti si concatenano così necessariamente esattamente alle cause e divengono in seguito essi stessi delle cause di nuovi effetti così conformi ai primi nel loro modo di prodursi che un solo fatto può rivelare al veggente tutta una genealogia di misteri quando il Cristo è venuto è certo che l'anticristo verrà ma la venuta dell'anticristo precederà il trionfo dello spirito santo il secolo d'argento in cui viviamo è il precursore delle più abbondanti carità e delle opere buone più grandi che non si siano ancora viste nel mondo ma occorre sapere che la volontà dell'uomo modifica le cause fatali e che un solo impulso dato da un uomo può cambiare l'equilibrio di tutto un mondo se tale è il potere dell'uomo nel mondo che è il suo dominio cosa devono dunque essere i geni dei soli l'ultimo degli egregori potrebbe con un soffio dilatando improvvisamente il calore latente della nostra terra farla scoppiare e sparire in una nuvoletta di cenere l'uomo così può con un soffio far svanire tutta la felicità di uno dei suoi simili gli uomini sono magnetizzati come i mondi irradiano la loro luce speciale come i soli alcuni sono più assorbenti altri irradiano più volentieri nessuno è isolato al mondo tutti sono una fatalità o una provvidenza per gli altri Augusto e Cinna si incontrano tutti e due sono orgogliosi e implacabili ecco la fatalità Cinna vuole fatalmente e liberamente uccidere Augusto a Augusto è trascinato fatalmente a punirlo ma vuole perdonargli e liberamente gli perdona ecco la fatalità che si cambia in provvidenza e il secolo di Augusto inaugurato da questa bontà sublime diviene degno di veder nascere colui che dirà perdonate i vostri nemici Augusto graziando Cinna ha espiato tutte le vendette di Ottavio fin tanto che l'uomo è asservito alle esigenze della fatalità è un profano vale a dire un uomo che si deve respingere lontano dal santuario della scienza la scienza in effetti sarebbe tra le sue mani uno strumento terribile di distruzione l'uomo libero al contrario vale a dire colui che domina con l'intelligenza i ciechi istinti della vita è essenzialmente conservatore e riparatore perché la natura è il dominio del suo potere il tempio della sua immortalità quando il profano volesse fare bene farebbe male l'iniziato libero non può voler fare del male se colpisce è per castigare e guarire il soffio del profano è mortale quello dell'iniziato è vivificante il profano soffre per far soffrire gli altri l'iniziato soffre perché gli altri non soffrano il profano intinge le sue frecce nel suo sangue e le avvelena l'iniziato libero con una goccia del suo sangue guarisce le ferite più crudeli domande 7 e 8 7 che occorre fare per essere un vero mago 8 in che consistono precisamente le forze della magia nera risposte l'uomo che dispone delle forze occulte della natura senza esporsi a esserne schiacciato colui è un vero mago lo si riconosce dalle sue opere e dalla sua fine che è sempre un grande sacrificio Zoroastro ha creato i dogmi e le civiltà primitive dell'oriente ed è scomparso come edipo in un ubifragio Orfeo ha dato la poesia alla Grecia e con questa poesia la bellezza di tutte le grandezze ed è morto in un'orgia a cui si è rifiutato di mescolarsi Giuliano malgrado tutte le sue virtù non è stato che un iniziato alla magia nera è morto vittima e non martire la sua morte è stata una distruzione e una sconfitta non comprendeva la sua epoca conosceva il dogma dell'alta magia ma ne applicava male il rituale Apollonio di Tiana e Sinesio non erano altro che filosofi meravigliosi hanno coltivato la vera scienza ma non hanno fatto niente per la posterità i magi del Vangelo regnavano allora sulle tre parti del mondo conosciuto e gli oracoli tacevano ascoltando i vagiti del bambino di Betlemme il re dei re il mago dei maghi era venuto al mondo e i culti le leggi gli imperi tutto era cambiato tra Gesù Cristo e Napoleone il mondo meraviglioso resta vuoto Napoleone questo verbo della guerra questo messia armato è venuto fatalmente senza saperlo a completare la parola cristiana la rivelazione cristiana non ci insegnava che a morire la civiltà napoleonica ci doveva insegnare a vincere da questi due verbi contrari in apparenza la devozione e la vittoria soffrire morire combattere e vincere si forma il grande arcano dell'onore croce del salvatore croce del coraggioso non siete complete l'una senza l'altra perché sa vincere solo colui che sa sacrificarsi e morire e come si sacrifica e muore se non crede alla vita eterna Napoleone che era morto in apparenza dovrà tornare nel mondo nella persona di un uomo realizzatore del suo spirito Salomone e Carlo Magno ritorneranno pure in un solo monarca e allora anche San Giovanni Evangelista che secondo la tradizione dovrà rivivere alla fine dei tempi risusciterà nella persona di un sovrano pontefice che sarà l'apostolo dell'intelligenza e della carità e questi due principi riuniti annunciati da tutti i profeti compiranno il prodigio della rigenerazione del mondo allora fiorirà la scienza dei veri magi perché fino ad ora i nostri facitori di prodigi sono stati per la gran parte degli uomini fatali e degli stregoni vale a dire degli strumenti ciechi della sorte i maestri che la fatalità getta al mondo sono presto da essa rovesciati coloro che trionfano per le passioni saranno la preda delle passioni quando Prometeo fu geloso di Giove lo derubò della folgore volle anche farsi un'aquila immortale ma non creò che un avvoltoio immortale la leggenda dice ancora che un re empio di nome Ixion volle fare violenza alla regina del cielo ma non abbracciò che una nube benzoniera e fu legato da dei serpenti di fuoco alla ruota inesorabile della fatalità queste profonde allegorie minacciano i falsi adepti i profanatori della scienza i settari fanatici della magia nera la forza della magia nera è il contagio della vertigine è l'epidemia dell'irragionevolezza la fatalità delle passioni è come un serpente di fuoco che gira e si attorciglia attorno al mondo divorando le anime ma l'intelligenza pacifica sorridente piena di amore raffigurata dalla madre di Dio gli pone il piede sulla testa la fatalità si divora da sola è l'antico serpente di Kronos che si rode eternamente la coda o piuttosto sono due serpenti nemici che si battono e si lacerano a morsi fino a che l'armonia li incanta e li fa slanciare pacificamente attorno al caduceo di Ermete conclusione credere che non esista nell'etere un principio intelligente universale e assoluto è la più temeraria e assurda di tutte le credenze credenza perché è la negazione dell'indefinito e dell'indefinibile credenza temeraria perché è isolante e desolante credenza assurda perché suppone il niente più completo al posto della più intera perfezione nella natura tutto si conserva per mezzo dell'equilibrio e si rinnova per mezzo del movimento l'equilibrio è l'ordine e il movimento è il progresso la scienza dell'equilibrio e del movimento è la scienza assoluta della natura l'uomo per mezzo di questa scienza può produrre e dirigere dei fenomeni naturali elevandosi sempre verso un'intelligenza più alta e più perfetta della sua l'equilibrio morale è il concorso della scienza e della fede distinte nelle loro forze e riunite nella loro azione per fare allo spirito e al cuore dell'uomo una regola che è la ragione perché la scienza che nega la fede è altrettanto irragionevole della fede che nega la scienza l'oggetto della fede non saprebbe essere né definito né soprattutto negato dalla scienza ma la scienza è chiamata essa stessa a constatare la base razionale delle ipotesi della fede una credenza isolata non costituisce la fede perché manca di autorità e per conseguenza di garanzia morale e non può dar vita che al fanatismo o alla superstizione la fede è la fiducia che dà una religione vale a dire una comunione di credenze la vera religione si costituisce per suffragio universale essa è dunque essenzialmente sempre cattolica vale a dire universale è una dittatura ideale acclamata generalmente nel regno rivoluzionario dell'ignoto la legge d'equilibrio quando sarà meglio compresa farà cessare tutte le guerre e tutte le rivoluzioni del vecchio mondo vi è stato conflitto tra i poteri come tra le forze morali attualmente si biasimano i papi perché si aggrappano al potere temporale senza pensare alla tendenza protestante dei principi per l'usurpazione del potere spirituale fin tanto che i principi avranno la pretesa di essere papi il papa sarà costretto per la stessa legge di equilibrio alla pretesa di essere re il mondo intero sogna ancora l'unità del potere e non comprende il potere del dualismo equilibrato davanti ai re usurpatori se il papa non fosse re non sarebbe più niente il papa nell'ordine temporale subisce come un altro i pregiudizi del suo secolo non potrebbe dunque abdicare al suo potere temporale quando questa abdicazione sarebbe uno scandalo per la metà del mondo quando l'opinione sovrana dell'universo avrà proclamato altamente che un principe temporale non può essere papa quando lo zar di tutte le russi e il sovrano della Gran Bretagna avranno rinunciato al loro sacerdozio derisorio il papa saprà quello che gli resta da fare fino a quel momento dovrà lottare e morire se occorre per difendere l'integrità del patrimonio di San Pietro la scienza dell'equilibrio morale farà cessare le dispute religiose e le bestemmie filosofiche tutti gli uomini intelligenti saranno religiosi quando sarà ben riconosciuto che la religione non attenta alla libertà d'esame e tutti gli uomini veramente religiosi rispetteranno una scienza che riconoscerà l'esistenza e la necessità di una religione universale questa scienza spanderà un nuovo giorno sulla filosofia della storia e darà un piano sintetico di tutte le scienze naturali la legge delle forze equilibrate e delle compensazioni organiche rivelerà una fisica e una chimica nuove allora di scoperta in scoperta si ritornerà alla filosofia ermetica e si ammireranno dei prodigi di semplicità e di chiarezza dimenticati dal lungo tempo la filosofia allora sarà esatta come le matematiche perché le vere idee vale a dire identiche all'essere costituiscono la scienza della realtà e forniscono con la ragione e la giustizia delle proporzioni esatte e delle equazioni rigorose come i numeri l'errore dunque non sarà più possibile che all'ignoranza il vero sapere non si sbaglierà più l'estetica cesserà di essere subordinata ai capricci del gusto che cambia come la moda se il bello è lo splendore del vero si dovrà sottomettere a calcoli infallibili l'irreggiamento di una luce il cui focolare sarà incontestabilmente conosciuto e determinato con una rigorosa precisione la poesia non avrà più tendenze foglie sovversive i poeti non saranno più questi incantatori pericolosi che Platone bandiva dalla sua repubblica incoronandoli di fiori saranno i musici della ragione e i graziosi matematici dell'armonia è forse dire che la terra diventerà un eldorado no perché fin tanto che ci sarà un'umanità ci saranno dei bambini vale a dire dei deboli dei piccoli degli ignoranti e dei poveri ma la società sarà governata dai suoi veri maestri e non ci sarà più del male senza rimedio nella vita umana si riconoscerà che i miracoli divini sono quelli dell'ordine eterno e non si adoreranno più i fantasmi dell'immaginazione sulla fede dei prodigi inspiegati la stranezza dei fenomeni non prova che la nostra ignoranza davanti alle leggi della natura quando Dio vuole farsi conoscere da noi illumina la nostra ragione e non cerca di confonderla o di stupirla si saprà fin dove arriva il potere dell'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio si comprenderà che anche lui è creatore nella sua sfera e che la sua bontà diretta dall'eterna ragione è la provvidenza subalterna degli esseri posti dalla natura sotto la sua influenza è sotto il suo dominio la religione allora non avrà più niente da temere dal progresso e ne prenderà la guida un dottore giustamente venerato negli insegnamenti del cattolicesimo il beato Vincent de Lerene esprime ammerevolmente questo accordo del progresso e dell'autorità conservatrice secondo lui la vera fede non è degna della nostra fiducia che per questa autorità invariabile che ne rende i dogmi inaccessibili ai capricci dell'ignoranza umana e pertanto aggiunge Vincent de Lerene questa immobilità non è la morte noi conserviamo al contrario per l'avvenire un germe di vita quello che crediamo oggi senza comprenderlo l'avvenire lo comprenderà e si feliciterà di averne conoscenza posteritas intellectum gratulatur quodante vetustas non intellectum venerabatur se dunque ci si domanda forse che ogni progresso è escluso dalla religione di Gesù Cristo no senza dubbio e noi ne speriamo uno grandissimo quale uomo in effetti sarebbe così geloso degli uomini così nemico di Dio da voler impedire il progresso ma occorre che sia realmente un progresso e non un cambiamento di credenza il progresso è l'accrescimento e lo sviluppo di ogni cosa nel suo ordine e nella sua natura il disordine e la confusione e la miscela delle cose e della loro natura senza alcun dubbio devono esistere tanto per gli uomini in generale che per ognuno in particolare secondo il cammino naturale delle ere della Chiesa differenti gradi di intelligenza di scienza e di saggezza ma in tal modo che tutto sia conservato e che il dogma conservi sempre lo stesso spirito e la stessa definizione la religione deve sviluppare successivamente le anime come la vita sviluppa il corpo che ingrandisce e che rimane però sempre lo stesso che differenza tra il fiore infantile della prima età e la maturità della vecchiaia i vecchi sono tuttavia gli stessi in quanto alla persona che erano nell'adolescenza cambia solo l'aspetto esteriore le membra del bambino in culla sono molto fragili e pur tuttavia hanno gli stessi principi rudimentali e gli stessi organi degli uomini crescono senza che il loro numero aumenti e il vecchio non ha niente di più di quello che aveva da bambino e deve essere così sotto pena della difformità e della morte è così anche per la religione di Gesù Cristo e il progresso per essa si compie nelle stesse condizioni e seguendo le stesse leggi gli anni la rendono più forte e la fanno crescere ma non aggiungono niente a tutto quello che compone il suo essere essa è nata completa e perfetta nelle sue proporzioni che possono crescere ed estendersi senza cambiare i nostri padri hanno seminato del frumento i nostri nipoti non devono raccogliere l'olio i raccolti intermedi non cambiano niente nella natura del grano dobbiamo prenderlo e lasciarlo sempre lo stesso il cattolicesimo ha piantato delle rose dobbiamo forse sostituirvi dei rovi no di certo o sventura a noi il balsamo e il cinnamomo di questo paradiso spirituale non devono cambiare sotto le nostre mani in aconito e in veleno tutto quello che nella chiesa questa bella campagna di Dio è stato seminato dai padri deve essere coltivato e nutrito dai figli è questo che deve sempre crescere e fiorire ma può crescere e deve svilupparsi Dio permette in effetti che i dogmi di questa filosofia celeste siano per il progresso del tempo studiati elaborati puliti in qualche modo ma quello che è proibito è di cambiarli quello che è un crimine è di troncarli e di mutilarli che riceva una nuova luce e delle distinzioni più sapienti ma che se ne conservi la loro pienezza la loro integrità la loro proprietà consideriamo allora dunque come acquisire al profitto della chiesa universale tutte le conquiste della scienza nel passato e promettiamo le convenzande le ren l'eredità completa del progresso a venire ad essa tutte le grandi aspirazioni di Zoroastro e tutte le scoperte di Ermete ad essa la chiave dell'arca santa ad essa l'anello di Salomone perché essa rappresenta la santa e immutabile gerarchia le sue lotte la rendono più forte le sue cadute la rendono più stabile essa soffre per regnare essa cade per crescere rialzandosi essa muore per risuscitare occorre tenersi pronti dice il conte Giuseppe de Mestre per un evento immenso nell'ordine divino verso il quale marciamo con una velocità accelerata che deve colpire tutti gli osservatori degli oracoli terribili annunciano d'altronde che i tempi sono arrivati molte profezie contenute nell'apocalisse si rapportano ai nostri tempi moderni uno scrittore è arrivato a dire che l'evento era già cominciato e che la nazione francese doveva essere il grande strumento della più grande delle rivoluzioni non c'è forse uomo veramente religioso in Europa parlo della classe colta che non attende in questo momento qualcosa di straordinario ora non conta niente questo grido generale che annuncia grandi cose risaliti ai secoli passati trasportatevi alla nascita del salvatore a quell'epoca una voce alta e misteriosa partita dalle regioni orientali non gridava forse l'oriente sul punto di trionfare il vincitore partirà dalla giudea un bambino divino c'è stato donato sta per comparire discende dal più alto dei cieli riporterà l'età dell'oro sulla terra queste idee erano diffuse ovunque e siccome si prestavano infinitamente alla poesia il più grande poeta latino se ne impadronì e le rivestì dei colori più brillanti nel suo pollione oggi come al tempo di Virgilio l'universo è in attesa come potremmo disprezzare questa grande persuasione e con che diritto condanneremo gli uomini che avvertiti da questi segni divini si dedicano a sante ricerche dice Joseph de Maestr volete una prova di quello che si prepara cercatela nella scienza considerate bene il cammino della chimica della stessa astronomia e vedrete dove ci conducono credereste voi per esempio che Newton ci riporta a Pitagora e che incessantemente sarà dimostrato che i corpi celesti sono mossi precisamente come i corpi umani da delle intelligenze che sono loro unite senza che si sappia come è tuttavia quello che si è sul punto di verificare senza che ci sia presto granché da discutere questa dottrina potrà sembrare paradossale senza dubbio e anche ridicola perché l'opinione generale lo impone ma attendete che l'affinità naturale della religione e della scienza le riuniscano nella testa di un solo uomo di genio l'apparizione di quest'uomo non dovrebbe essere lontana allora delle opinioni che oggi ci sembrano bizzarre o insensate saranno degli assiomi di cui non sarà permesso dubitare e si parlerà della nostra stupidità attuale come parliamo della superstizione del medioevo nel secondo volume delle sue opere pagina 697 San Tommaso dice queste belle parole tutto quello che Dio vuole è giusto ma il giusto non deve essere definito così perché Dio lo vuole non ex hoc dicitur justum quod deus illut vult la dottrina morale dell'avvenire è chiusa tutta là e da questo principio fecondo si può immediatamente dedurre questo non solo è bene dal punto di vista della fede fare quello che Dio comanda ma anche dal punto di vista della ragione è buono e ragionevole obbedirgli l'uomo dunque potrà dire io faccio il bene non solo perché Dio lo vuole ma anche perché io lo voglio la volontà umana sarà così sottomessa e libera nello stesso tempo perché la ragione dimostrando in modo indiscutibile la saggezza della prescrizione della fede agirà di suo proprio movimento regolandosi in base alla legge divina di cui essa diverrà in qualche modo la sanzione umana allora non ci sarà più superstizione né impietà possibile e si comprende facilmente ciò che diremo dunque in religione e in filosofia pratica cioè nella morale l'autorità assoluta esisterà e i dogmi morali potranno solamente allora rivelarsi e stabilirsi fino a quel momento avremo il dolore e il timore di vedere tutti i giorni rimettere in questione i principi più semplici e più comuni del diritto e del dovere tra gli uomini senza dubbio si faranno tacere i bestemmiatori ma altra cosa è imporre il silenzio altra cosa persuadere e convertire fin tanto che l'alta magia è stata profanata dalla cattiveria degli uomini la chiesa ha dovuto proscriverla i falsi ignostici hanno diffamato il nome all'inizio così puro dell'ognosticismo e gli stregoni hanno fatto torto ai figli dei maghi ma la religione amica della tradizione guardiana dei tesori dell'antichità non potrebbe respingere più a lungo una dottrina anteriore alla bibbia e che accorda così perfettamente col rispetto tradizionale del passato le speranze più vive del progresso e dell'avvenire il popolo si inizia col lavoro e con la fede alla proprietà e alla scienza ci sarà sempre un popolo come ci saranno sempre dei bambini ma quando l'aristocrazia divenuta saggia sarà una madre per il popolo le vie dell'emancipazione saranno aperte a tutti emancipazione personale successiva progressiva per la quale tutti i chiamati potranno coi loro sforzi arrivare al rango di eletti è questo mistero avvenire che l'iniziazione antica nascondeva sotto le sue ombre è per questi eletti dell'avvenire che sono riservati i miracoli della natura soggettati alla volontà dell'uomo il bastone sacerdotale deve essere la bacchetta dei miracoli è stato così ai tempi di mosè e di ermete e lo sarà ancora lo scettro del mago ridiverrà quello del reo dell'imperatore del mondo colui che si mostrerà di fatto il più forte per scienza e per virtù allora la magia non sarà più una scienza occulta che per gli ignoranti ma sarà per tutti una scienza incontestabile allora la rivelazione universale rinsalderà gli uni con gli altri tutti gli anelli della sua catena d'oro l'epopea umana sarà terminata e gli sforzi stessi del titano non saranno serviti che a risollevare l'altare del vero dio allora tutte le forme che ha successivamente rivestito il pensiero divino rinasceranno immortali e perfette tutti i tratti che aveva bozzato l'arte successiva delle nazioni si riuniranno e formeranno l'immagine completa di dio il dogma epurato e uscito dal caos produrrà naturalmente la morale infallibile e l'ordine sociale si costituirà su questa base i sistemi che si urtano adesso sono i sogni del crepuscolo lasciamoli passare il sole risplende e la terra prosegue il suo cammino insensato sarebbe colui che dubitasse della luce del giorno alcuni dicono il cattolicesimo non è più che un tronco arido prendiamo l'ascia insensati non vedete che sotto la scorza disseccata si rinnova incessantemente l'albero vivente la verità non ha né passato né avvenire essa è eterna quello che finisce non è essa sono i nostri sogni il martello e l'ascia che distruggono agli occhi degli uomini non sono nella mano di Dio che la roncola del potatore e i rami morti vale a dire le superstizioni e le eresie in religione in scienza e in politica possono solo essere tagliati sull'albero delle credenze e delle convinzioni eterne la nostra storia della magia ha avuto per scopo il dimostrare che nel principio i grandi simboli della religione sono stati allo stesso tempo quelli della scienza allora nascosta che la religione e la scienza riunite nell'avvenire si aiutino dunque tra loro e si amino come sorelle poiché hanno avuto la stessa culla